Non sono posti di governo, ma se ci potete aiutare così poi possiamo incominciare. Abbiamo subito qualcuno che viene redarguito pesantemente. Grazie. Va bene, credo che dobbiamo incominciare a questo punto. Io ringrazio tutti voi, vi ringrazio di essere venuti fin qui nel giorno di Santa Lucia. Ringrazio Alice Line che come me è in questo banchetto di scuola. Insomma è un segnale in due direzioni. Il primo è che ci dispiace molto per il mondo della scuola e per quello che è successo qualche mese fa e che prosegue nell'incertezza e forse anche nell'ineguaglianza anche nel mondo scolastico. E poi perché la politica oggi prende appunti, abbiamo visto trionfali manifestazioni che proseguono in questi giorni, iniziative di corrente e di sottocorrente perché è difficilissimo, ci vuole l'inneo. Bisogna classificare la specie, il genere e forse anche il regno dei funghi c'entra in questa storia. Noi invece parleremo di politica, di cose da fare, di progetti di governo. Lo faremo con persone che non sono necessariamente aderenti al nostro soggetto politico, che è cosa che ci interessa molto poco in questa fase e poi spiegheremo perché. Gli interventi saranno contenuti nel tempo ma consentiranno a tutti i relatori di spiegarsi con molta calma e molta precisione. Vi devo segnalare l'assenza di Maurizio Di Giovanni per motivi assolutamente personali. Io chiedo di mandargli un abbraccio di questa platea perché è un problema familiare di una certa gravità. Maurizio aveva già, siccome siamo esperti di bidoni clamorosi che arrivano di solito nella notte o nell'immediate vicinanza dell'inizio delle manifestazioni, Maurizio aveva già comprato i biglietti, era già organizzatissimo, ma ha avuto un problema davvero che speriamo si possa risolvere presto. Io se siete d'accordo partirei. Partirei con Ellie che ci racconterà non solo di quello che succede in Europa, di quello che succede in Francia e di questa strana idea per cui il populismo si combatte dicendo non fare il populista. Che affascinante. Se poi non lo convinci, quello rimane populista e vota cose tremende. Bye Ellie. Per un secondo ho temuto di dover cantare. Buongiorno a tutti. Oggi si vota, si rivota in Francia. Leggevo proprio venendo qui da voi del raddoppio della procurazione, cioè di quelle deleghe amministrative che si chiedono per chi non può arrecarsi al seggio rispetto al primo turno. Questo vuol dire che verosimilmente voterà più gente. In molti scommettono infatti che alla fine il bottino del front nazionale della Le Pen sarà molto più magro di quanto ci si poteva aspettare dopo l'esito di settimana scorsa, se non addirittura nullo. Però ecco, ciò che ha unito le forze contro la deriva xenofoba, insomma ci si aspetta che si ricombatterà in un certo senso la Repubblica. Guai però se andrà così ad ignorare o a ritenere superato il problema che si è aperto con il voto di settimana scorsa, quello del 6 dicembre, perché ecco, quell'esito agghiacciante ha scosso tutta l'Europa. A Bruxelles ne abbiamo parlato per tutta la settimana, no? E ovviamente questo ci riporta anche al voto che c'è stato recentemente in altri paesi, pensiamo ad esempio alla Polonia, pensiamo ad altri casi, pensiamo ad altri fronti che si aprono come quello del referendum in Inghilterra. Ecco, però in termini assoluti, la Le Pen, mi segnalavano alcuni amici socialisti francesi a cena la settimana scorsa, ha preso meno voti rispetto alle presidenziali del 2012. Certo, poi c'è anche una differenza di affluenza al voto tra le regionali e le presidenziali, però questo per dire che ecco, aveva preso 6.421.000 voti alle presidenziali del 2012 e 6.18.000 a queste regionali. Ecco, il punto è che sono quelli degli altri che non sono andati a votare. Ecco, ora magari per il secondo turno lo faranno, ma c'è poco da festeggiare in termini di rappresentanza, che è la prima tematica che affronteremo questa mattina anche con gli ospiti che mi seguiranno. L'unico voto utile è quello dato alle persone da cui ci possiamo sentire rappresentati, questo l'abbiamo sempre detto, ci ricordiamo anche nella campagna Ligure che è stato un punto abbastanza centrale del dibattito. Altrimenti è un voto per esclusione che si trasforma o ritorna molto facilmente in un non voto degli esclusi ed è questa la preoccupazione che noi abbiamo, perché a questi esclusi noi ci rivolgiamo da quando abbiamo lanciato possibile e forse anche da prima ed è con loro che vorremmo riallacciare quei fili dell'ascolto che si sono spezzati. È per questo che ci stiamo interrogando su cosa sia la partecipazione politica nel 2015, su come si declini, su come si stimoli, su come si possa coniugare con i tempi di vita e di lavoro delle persone. Questa è una discussione che abbiamo fatto già a Napoli e che continueremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Eppure la vicenda francese è stata, come al solito, strumentalizzata dal dibattito interno italiano, usata da alcuni per fare addirittura un nostalgico appello all'unità del centro sinistra, mentre a Firenze si aggiunge un posto a tavola che c'è un amico in più e si chiama Beppe Sala, ad esempio. E qui mi pare che si faccia un errore di analisi incredibilmente goffo. Qualcuno l'ha già segnalato e molto meglio di me nei giorni scorsi. Si scambia la causa con l'effetto. Si propone come soluzione all'avanzata dei populismi un fronte compatto tra le forze democratiche, cioè una sorta di abbraccio ancora più stretto tra la sinistra e la destra tradizionali. Ecco, questo ancora più confonde i confini tra destra e sinistra. E invece forse è proprio questa confusione, come ci diciamo da tempo, come racconta anche Pippo nel suo blog da tempo, è forse proprio questa confusione che è nata da molto e molto prima in Italia che in Francia, che fa abbandonare gli elettori, fa allontanare gli elettori dal voto e forse è proprio questa tendenza che c'è stata a fare grandi coalizioni, a fare larghe e medie intese, a fare cose di destra da sinistra in un certo senso, illudendosi tra l'altro di fare cose nuove. Beh, grazie a Dio, uno, voglio dire, si dovrebbe fare qualche domanda se non l'aveva mai detto da nessuno di fare il ponte sullo stretto, di detassare la prima casa e di fare ad esempio l'eliminazione dell'articolo 18, anzi l'avevano detto ma l'avevano ha detto dall'altra parte. Allora certo che davanti a questo, io mi scuso se sono un po' emozionata, arrivo da una giornata particolare, ne approfitto per scusarmi con la mia migliore amica che ho bidonato per il suo trentesimo compleanno per essere impegnata qui con voi stamattina. Certo è che appunto quello che sta succedendo ci porta a un rigurgito di nazionalismo, badate che nel Parlamento europeo si respira davvero una brutta aria, una brutta aria che porta anche appunto di nuovo sulle questioni come la sicurezza, sulla questione come il terrorismo, la sinistra a votare ancora di più con la destra. Ecco io credo che è da questo che dobbiamo fuggire trovando soluzioni nuove, no? Come ci raccontava Cristina al Politicamp, il populismo si rinforza laddove i governi sostanzialmente si rifugiano ancora di più nei propri egoismi e quindi sostanzialmente nazionalizzano i successi ed europeizzano le sconfitte. Il populismo attecchisce nella mancanza delle risposte ai bisogni fondamentali della gente, nell'incapacità di dare risposte europee ad esempio alla crisi migratoria, ed è una cosa sconvolgente, mi hanno già parlato molte volte. Ecco, o ad esempio rispetto alla minaccia terroristica non si può ribadire il semplice approccio securitario che ha fallito fino a qui, servono risposte nuove. Ecco di questo parleremo e vorremmo introdurre questa riflessione di oggi proprio sul tema della crisi della rappresentanza, che è molto strettamente collegata anche a quella delle riforme, avremo con noi degli ospiti che vi introdurrà subito dopo Pippo, che ci parleranno anche di quanto la riforma elettorale ad esempio, di quanto la riforma costituzionale rischino ancora di più di eliminare e di allontanare gli esclusi. Io credo che, lo dico sempre e chiudo, io credo che bisogna tenere bene presente un fatto, che la crisi della rappresentanza è un paradosso perché si collega alla crisi di un modello che è spietatamente individualistico, eppure non ha prodotto risposte collettive, anzi le poche che ha prodotto le ha prodotte nella società, nelle nuove forme di mutualismo, nelle grandi innovazioni sociali e culturali che stiamo vedendo e così poco raccontate dalla politica. Ecco, però per questo bisogna tenere presente che l'unica cosa che può fare la sinistra, anche per rispondere al populismo, è di riprendersi il suo ruolo, di rivendicarlo con forza. E come ha scritto qualche giorno fa Pippo, la definizione della sinistra era proprio questa. Noi dobbiamo tenere al centro che la sinistra ha un ruolo ben preciso e non altri. Quello di lottare contro le disuguaglianze, almeno su tre grandi piani, che sono le disuguaglianze di potere, le disuguaglianze di sapere e le disuguaglianze di reddito. E' per questo che noi abbiamo messo quell'uguale nel nostro simbolo. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie Ellie. La risposta italiana è Marion Le Pen e Lichlein. Non è una battuta, è vero. Inizierei dalle questioni fondamentali, quelle che troppo spesso sono sottovalutate, le questioni che riguardano la Costituzione e la democrazia. Molti miei colleghi, durante la discussione della Costituzione, della riforma costituzionale, mi dicevano, Pippo, ma dai, il Senato non interessa nessuno, non è così importante, la legge elettorale, tutto sommato, è un pochino diversa dal Porcellum. Wow! E forse un parlamentare dovrebbe rendersi conto che la Costituzione e la legge elettorale sono più importanti di tutto il resto perché governano gli esiti, i risultati, le possibilità di tutto il resto. Darei la parola perciò ad Andrea Pertici che introduce immediatamente dopo Gianfranco Pasquino. Grazie, buongiorno. Dunque, appunto, oggi è una giornata dedicata all'Italia possibile in cui ascolteremo molti interventi tematici, soprattutto sui temi della democrazia e dell'economia e del rapporto, appunto, tra la democrazia e l'economia, per costruire, appunto, lo abbiamo detto nel presentare questa giornata, un programma di governo. Un programma di governo che è alla base, lo diciamo dal 21 di giugno, quando ci siamo visti per la prima volta, appunto, con la fondazione di Possibile, che è alla base, diciamo sì, di questo percorso politico. E questa è una novità, almeno degli ultimi vent'anni, perché è da vent'anni che non viene posto un programma di governo, diciamo sì, alla base di un soggetto politico. Vent'anni fa, appunto, lo aveva fatto Romano Prodi. Era il 1995 e Romano Prodi, appunto, dava alle stampe un denso libriccino che si chiama Governare l'Italia, Manifesto per il cambiamento. Quel cambiamento che, appunto, è rimasto una missione incompiuta, dice Romano Prodi in un più recente libro che intervista a Marco da Milano, che, appunto, si chiama Missione incompiuta. Ecco, per questo crediamo, come, appunto, credeva Prodi in quel momento, e, appunto, diceva in questo suo saggio, che bisogna elaborare una serie di risposte concrete rispetto a forze politiche interessate più che altro, questo, appunto, scriveva esattamente Prodi, al mantenimento del potere, che compiono scelte bizzarre pensate senza il contrappeso di misure equitative. Ecco, è questo che, diciamo, si Prodi scriveva rispetto a quella che era la maggioranza alla quale il suo progetto intendeva contrapporsi, ed è, e sono parole che risultano molto attuali anche rispetto a quelli della attuale maggioranza che sta governando. Si tratta, quindi, di un programma rispetto al quale, mi permetto di dire, non partiamo da zero, già in queste settimane, in questi mesi, ci siamo occupati di molte questioni fondamentali, appunto, a partire da quelle della democrazia, per proseguire con quelle della conversione ecologica, della legalità, della libertà civili e della laicità, ma, appunto, la sfida a partire anche da questo incontro, dove ascolteremo, appunto, molti esperti delle diverse questioni che affronteremo, è di un programma che venga costruito con l'intervento di tutti, in una vera grande call di competenze e di esperienze, perfezionando, in fondo, un metodo che è un metodo che conosciamo da tempo, perché da tempo, appunto, cerchiamo di costruire le proposte, dando, in realtà, risposta alle domande, alle sollecitazioni che raccogliamo, appunto, dalle persone che vengono, appunto, incontrate nelle diverse iniziative, con una sorta, appunto, di raccolta, porta a porta, attraverso quelle vie che, da oggi, appunto, con il nostro progetto, appunto, diventano le vie possibili, alle quali stanno già lavorando, appunto, alcuni comitati. Ecco, è quindi necessario partire da un programma, un programma scritto, certo, perché, appunto, fino adesso abbiamo dei programmi che cambiano di giorno in giorno, che si possono sempre aggiustare a seconda delle convenienze, come dire, di vertice delle forze politiche, di accordi opachi, poco intellegibili, e non, magari, invece, sulla base di esigenze, che risulterebbero, se il programma, appunto, oltre che questa certezza avesse un'adeguata partecipazione. È un programma costruito così che poi può consentire, certo, anzi, deve consentire un accordo con altri soggetti che condividono gli stessi principi e le stesse priorità, ma anche questo, appunto, è scritto in quel manifesto di governare l'Italia, che qualunque accordo politico deve partire, appunto, da un programma. E questo ci sembra il percorso per superare questa lunga crisi politica, diciamo che ormai compie, appunto, vent'anni, che è stata spesso considerata una crisi istituzionale. Lo scaricare, come dire, sulle istituzioni, la incapacità che invece ha avuto la politica, ha portato, appunto, a considerare molto spesso la necessità di grandi riforme, appunto, ancora una volta, per l'ennesima volta, siamo di fronte, appunto, ad una chiamata, ad una riforma costituzionale che, indovinate un po' cosa dovrebbe rafforzare il governo. Sempre di questo, sempre della necessità di rafforzare il governo, che in realtà è stato dimostrato in questi anni, al di là della felicità o meno di molte scelte, che quasi sempre, appunto, sono state purtroppo infelici, in realtà il governo, quando è coeso politicamente, è stato forte. Non ci sono stati impedimenti istituzionali. Se il programma, come dire, è chiaro, è, come dire, realmente condiviso, si può portare benissimo avanti, diciamo sì. Le riforme da fare, da un punto di vista istituzionale, sono molto più mirate e limitate rispetto a quelle che ogni volta vengono riproposte. ecco che quindi, appunto, rispetto alle numerose, come dire, revisioni di segno verticistico che ci portano sempre al sindaco d'Italia, al preside d'Italia, eccetera, forse la riforma costituzionale è davvero, come diceva poco fa Pippo, quella che più mi sembra preoccupare. Anche perché, oltre, come dire, agli allarmi, alla tenuta democratica, che secondo me sono sempre, come dire, da citare con più cautela di quanto venga fatto, tra parentesi, dico che ancora sento dire che ci sarebbe questa, come dire, risultato terribile del combinato disposto tra la riforma costituzionale e quella elettorale, rispetto al quale mi permetto di osservare che c'erano delle proposte di referendum che lo avrebbero fatto saltare, perché facevano saltare l'italicum e quindi il combinato disposto non ci sarebbe stato più. Il, ecco, però dico, oltre queste questioni che certo sono da prendere con attenzione, ma proprio perché delicate, anche con una certa moderazione, questa riforma costituzionale presenta dei gravi problemi di semplice funzionamento delle istituzioni. Io ho partecipato una decina di giorni fa a un seminario in Senato sulla riforma costituzionale in cui cinque colleghi si davano da fare a cercare, come dire, di interpretare in modo che potesse funzionare questa riforma, così dimostrando che invece di per sé non funziona. Continuavano a dire che certo è una riforma a maglie larghe, che poi dipenderà dai regolamenti parlamentari, che forse questa norma potrebbe voler dire questo. Nessuno, appunto, aveva una vera risposta, tipo, se il Senato e la Camera che hanno competenze diverse litigano su determinate competenze, come si risolvono? L'intervento della Corte Costituzionale, che alcuni evocavano, potrebbe essere tardivo, limitato, difficile, comunque non esattamente previsto. E, diciamo così, questo è soltanto uno degli aspetti. Ci sono poi delle competenze che non si capiscono, non sono definite. Già in quella sede si discuteva su cosa sia la valutazione delle politiche pubbliche, che certamente, come dire, è un tema molto importante, ma molto vasto, molto incerto, che, appunto, non viene specificato, viene soltanto citato e poi, ecco, quindi vado a concludere, lasciando poi la parola agli altri, in particolare a coloro, a partire da Gianfranco Pasquino, che si occuperanno dei temi, appunto, della democrazia. Credo che per superare questo bisogna uscire da una logica, appunto, di proposte approssimative, lanciate e poi cambiate immediatamente dopo, sempre, come dire, aggiustate secondo l'occorrenza dell'ultimo momento, e andare invece verso un programma, appunto, scritto, scritto, appunto, tutti insieme, con questa call che, appunto, da oggi parte e che porteremo avanti tutti insieme per avere delle risposte precise e concrete. Grazie. Intanto l'ishline è andata fuori perché ci sono molte persone che cercheremo di far entrare in qualche modo, ovviamente mi scuso con chi sta prendendo un po' di freddo, io darei la parola a Gianfranco Pasquino, che ci raggiunge come un ciclista dal retro del gruppo, e che ha scritto un libro, che è un libro di te, un manuale, ti faccio, sto facendo un complimento straordinario. Stavo aspettando la foto. La foto stai aspettando. Non per diminuire il tasso di narcisismo, ma volevo farti un complimento straordinario perché hai scritto un libro, Cittadini senza scettro, che dovrebbe essere un manuale per chi deve votare la Costituzione ancora, perché, come sapete, i parlamentari devono votarla ancora, prima di farci fare il referendum a tutti potrebbero votare no, così abbiamo risolto il problema. Lo dico perché ci sono ancora persone che ci stanno riflettendo. Poi ci sono i migliori che sono contrari, ma votano sì. Questo è inspiegabile, ci vuole una seduta più lunga di una mezza giornata per spiegare. Gianfranco, invece, si è occupato di questo e anche del criterio con cui si dovrebbero fare appunto le riforme elettorali e costituzionali nel caso. Sì, questo è un caso in cui io ringrazio dell'invito, perché Pippo sa che abbiamo delle differenze d'opinione e abbiamo anche delle differenze di potere, bene o male. Lui ha molto più potere di me e dunque lo ringrazio dell'invito. Devo iniziare dicendo che io sono in un conflitto di interessi. Mi dicono che c'è qualcuno al governo che non ha conflitto di interessi. Io sono in un conflitto di interessi perché parlerò di un argomento sul quale per l'appunto ho scritto un libro e quindi vi consiglio anche di andare poi ad approfondire ho i diritti d'autore, ho i diritti d'autore. Su quel libro non mi renderà ricchissimo, ma insomma ci si può provare. Però perché comincio con il conflitto di interessi? Per due ragioni fondamentali. La prima è perché il conflitto di interessi è un vulnus, una ferita profondissima alla democrazia. La democrazia nasce esattamente perché è il potere politico, quello che viene promosso e prodotto dai cittadini, che controlla il potere economico. Quando il potere economico in qualsiasi sua forma controlla il potere politico c'è un problema e quando il potere politico cerca di trarre vantaggio dai suoi rapporti con il potere economico c'è un problema e credo che questo problema deve essere risolto per sempre e non come è stato fatto con la legge Frattini. E anche qui ho un altro piccolo conflitto di interessi perché a suo tempo fu io che scrisi il primo disegno di legge sul conflitto di interessi presentato il 15 maggio del 1994, Pertici giustamente richiamava i vent'anni, qua siamo di più, che il Senato approvò debitamente, certo con grande fatica, e che poi alla Camera a causa di un autorevole parlamentare di quelli che allora erano i progressisti si bloccò perché se non lo firmava lui non andava bene. Però il problema non è stato risolto e continua ad apparire, è un problema contemporaneo che non riguarda soltanto, mi dicono, un autorevole Ministro della Repubblica, ma che riguarda invece molte cose che avvengono a livello delle decisioni governative. Quindi la prima cosa che dovrebbe fare un partito o una coalizione che si candida al governo è di dare una buona definizione del conflitto di interessi e poi di introdurre una buona legge, non punitiva, però chiara, trasparente, precisa, che contenga tutti gli elementi necessari a far sì che chi è in conflitto di interessi non ottenga cariche di governo. E in questo caso sappiamo che conta anche la famiglia e quindi anche i familiari devono essere tenuti insieme. Affronto tre temi soltanto, mi piacerebbe, perché mi diverte la cosa, dibattere variamente su più tematiche, però ne affronto tre soltanto. La prima, che io continuo a pensare che sia un fenomeno importantissimo, riguarda i partiti. Io credo che bisogna ricordarsi che i cittadini, articolo 49, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti. Dopodiché c'è una espressione centrale nell'articolo, sempre stata controversa, con metodo democratico. Io credo che un programma di governo deve, un partito che si tratta nel governo, deve avere un disegno di legge che chiarisce che cosa vuol dire il metodo democratico e quindi che stabilisce alcuni elementi, alcuni criteri precisi per il metodo democratico. E so anche che è sbagliato usare il termine disintermediazione per le associazioni, perché uno comincia a disintermediarsi dalle associazioni, poi si disintermedia anche dai partiti. E io credo che un sistema politico non sarà mai governato bene, se non ci sono i partiti sufficientemente coesi. E naturalmente sono molto contrario al partito, a proparentesi, personalista della nazione, perché penso che i partiti siano partiti di persone, che interagiscono fra di loro e poi interagiscono con i loro elettori, in maniera regolare, costante. E dunque questo è il modo di rappresentare i cittadini, la cittadinanza, e non invece di rappresentarli semplicemente attraverso questo appello. Questo appello personalistico, personalizzato, e che poi cumina in questa espressione che viene fuori e scompare della nazione. Se c'è un partito della nazione, il rischio, e tutti gli altri sono partiti di antinazione, e infatti questo rischio in una serie di affermazioni continua ad apparire. Faccio un breve passaggio che è provocatorio, perché se c'è un partito della nazione, oggi in Francia, si chiama Front National, perché è un vero partito della nazione, nel senso che è presente un po' dappertutto, e un po' dappertutto è cresciuto nel corso del tempo, e pretende per l'appunto di rappresentare i valori della nazione francese, ed è lui quindi che decide che gli altri sono identitari in maniera sbagliata. Quindi attenzione al partito della nazione, meglio un partito di persona. Secondo punto, io credo che il criterio centrale della democrazia, non dimentichiamolo mai, democrazia vuol dire potere del popolo, e il criterio centrale non può che essere che il popolo si sceglie i rappresentanti, e poi, come dirò subito dopo, incide sulle decisioni direttamente. E quindi scegliere i rappresentanti è importantissimo. Dunque qualsiasi legge elettorale che stabilisca che invece il 60%, dicono adesso, forse poco più del 60% dei parlamentari sarà nominato, non è una legge elettorale che consenta al popolo di scegliere i suoi rappresentanti. Io critico il culto della personalità, però fino a che il culto della mia personalità va bene. Dunque, non va bene questa legge elettorale, ma lo dirò poi anche in un altro modo. Soprattutto quello che non va bene è pensare che i rappresentanti del Senato, basta cambiare un verbo, non verranno nominati dai consigli regionali, ma verranno designati. Anche quello non va bene, che sia chiaro. Non è così che si forma una seconda Camera, per quanto con poteri un po' palordamente definiti, con enormi rischi di conflitti interistituzionali un po' fra tutti, cioè fra i senatori mandati dalle regioni e poi naturalmente le loro regioni, fra i senatori e i deputati. Tutto questo arriverà rapidamente all'accordo costituzionale. Al limite, fra i senatori e la loro constituency, posso dire così, se per caso riusciranno a trovarne uno. Dunque, scegliere i rappresentanti e scegliere i rappresentanti qua, non c'è tanto che tenga, vuol dire collegio uninominale. E la legge elettorale deve essere... Bello che... Tipo, le stai segnando gli applausi, eh? Sì, sì, sì. A ogni applauso prendono appunto. Esatto, ripetitamente interrotto d'applausi. Vuol dire collegio uninominale e legge elettorale a doppio turno. Qui di nuovo faccio un passaggio che credo è importante. In Francia, quello che sta succedendo adesso non è un ballottaggio. Sono passati al secondo turno, in tutte le regioni, tre candidati. E infatti si pone esattamente il problema, chi deve desiderare e chi no, che cosa fare. Quindi non è un ballottaggio e non è, come dice Gari della Loggia sul Corriere della Sera, uno strepitoso premio di maggioranza. No, è la legge elettorale che garantisce che ci sarà un vincente e il vincente può benissimo essere il prodotto del 60% di elettori che non vogliono il candidato del 40%, molto semplicemente. Quindi c'è un premio che viene dato comunque a una maggioranza, non a una minoranza, a una maggioranza. Lo dico anche perché mi pare che il 40% sia una soglia stabilita in questa legge elettorale italiana, che voi che siete buffi, quando parlate delle cose fatte male, dite all'italiana e poi fate una legge elettorale e la chiamate Italicum, per favore. Un po' più di serio. Terzo punto, però tutto questo, ho detto, i cittadini devono avere il potere di leggersi i rappresentanti, però devono avere il potere di incidere anche sulle decisioni. E infatti i costituenti, nella loro saggezza, dissero, anzitutto, al referendum obbligativo delle leggi ordinarie e poi dissero al referendum costituzionale. Attenzione, sull'obbligativo delle leggi ordinarie non intervengo perché è troppo facile, anche se c'è un dibattito intenso su come renderlo più difficile, alzare quantomeno le firme, trovare tutta una serie di escamotage per rendere difficile il referendum obbligativo, che non è comunque mai stato molto facile, perché ci si è sempre interposta anche la Corte di Cassazione, prima della Corte Costituzionale, la quale improvvidamente impedì la riviviscenza del Mazzarello quando aveva la possibilità di consentire quel referendum e decise di non farlo passare. Però deve essere chiaro una cosa, che il referendum costituzionale, primo, non dovete chiamarlo mai confermativo, perché non è un referendum confermativo, ma tecnicamente è un referendum oppositivo, perché cerca di fare cadere le modifiche costituzionali, ma soprattutto non è un referendum in questo caso, ma è un plebiscito. Quello che il Presidente del Consiglio e il suo Ministro delle Riforme Stazionali stanno chiedendo è un plebiscito. Volete le riforme che abbiamo fatte noi, oppure no? E quindi sta chiedendo un plebiscito, sì o no, sul suo governo, sulla sua persona e quella del suo Ministro. Ma aggiungo che i governi non chiedono il referendum. Il referendum, secondo l'articolo 138, vengono chiesti da 500 mili elettori, da 5 consigli regionali, oppure da un quinto dei parlamentari. E quindi se lo chiede il Governo, ha maggiore ragione questo provisciuto. Credo che non dovrebbe essere consentito questo, però in un certo senso anche qui ne prendo atto. Naturalmente la mia critica rimane. Aggiungo, questa è la mia ulteriore coda venenosa e chiudo, che quello che si sta svolgendo, si svolgerà domani mattina, o domani non so bene quando, ma lui lo sa molto in maniera, perché verrà chiamato ancora una volta a eleggere tre giudici costituzionali. Chiariamo i passaggi anche su questo. Primo, che i due Presidenti delle Camere dovrebbero stare zittissimi, ma se aprono bocca devono valorizzare il ruolo del Parlamento, non dire che è colpa del Parlamento se non vengono eletti i giudici costituzionali. Perché la colpa è dei partiti e dei capigruppo parlamentari, che non hanno mai chiesto ai loro parlamentari effettivamente chi accettassero e chi no, e i partiti hanno cercato di imporre i loro candidati. Secondo, perché i giudici costituzionali, essendo addirittura tre, possono creare delle maggioranze, per di più essendo scelti con questo modo, e non si deve mai scegliere un parlamentare in carica, per di più Presidente di Commissione, che ha espresso già altamente il suo parere favorevole, sia alla legge elettorale che alla legge costituzionale. E dunque i parlamentari in carica dovrebbero, come dire, squalificarsi i loro stessi, ma non dovrebbero essere proposti. Terzo e ultimo, quando finalmente il Parlamento, perché ho avuto un'esperienza parlamentare, come forse sapete, quando il Parlamento finalmente riafferma la sua volontà di controllare l'operato del governo e dei partiti, questa è una delle funzioni vere del Parlamento. E dunque bisogna che il Parlamento riesca, e io sono sicuro che potrebbe riuscirci, se non costretto, e vi ricordo che purtroppo questo è davvero un Parlamento di nominati, riesca a dire al governo e ai partiti che le scelte vanno fatte in maniera rispentosa, sia dei parlamentari, sia del futuro della Corte Costituzionale. Questo è un passaggio cruciale, e questo è un passaggio, secondo me, che può determinare alcuni esiti che potrebbero essere, come dire, graditi o sgraditi, ma che devono comunque essere discussi, aggiunto ancora in coda, che io vorrei che la Corte Costituzionale finalmente dicesse che è consentita l'opinione dissenziente e che chi dissente può esprimere l'opinione e appare in fondo alla sentenza, perché così ciascuno si assume, come dovrebbe essere in democrazia, le sue responsabilità. Grazie. L'applauditissimo Pasquino, che ringrazio di cuore, lascia parola e microfono a Francesca Coin, che siamo felicissimi di avere con noi, che vive gran parte della propria vita personale e professionale ad Atene, almeno recentemente, e che ci parlerà di una questione molto vicina a quella democratica, che è la questione del debito. Ovviamente riguarda da Tsipras, dall'Europa, dai grandi temi internazionali, ai derivati che il nostro Paese ha acquistato nel corso degli anni e che stranamente sono oggetto dell'interesse solo di Milena Gabanelli. Tutte le altre istituzioni nazionali non percepiscono queste decine di miliardi che sono in ballo e anche a questioni più spicciole, ma in me drammatiche, come quelle che avete letto in questi giorni intorno al decreto Salva Banche. Francesca. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare per l'invito, per l'iniziativa, anche perché dà l'opportunità di parlare di temi importanti in un momento che sembra un pochino sempre più oscuro, perché gli ultimi sei mesi parlano di un mondo che sta rapidamente accelerando verso problemi che stanno venendo a galla e che si sembrano accavallarsi uno con l'altro. Dunque, io quando ho cominciato a ragionare su cosa dire oggi ero rimasta particolarmente colpita da una delle parole della giornata di oggi, che è la parola governare, che è una parola che sembra semplice, però a guardarla bene ha da un lato un'ambizione, che quindi in Italia in particolare oggi mi sembra che sia l'ambizione di poter rappresentare questa parola inusuale o comunque incarnare un desiderio di rottura, dopo anni in cui appunto il pensiero dominante sta virando prepotentemente verso destra. Quindi una parola governare che mi parla di un'ambizione ma che mi parla anche un po' di un anacronismo. E di un anacronismo perché l'ha detto, se vogliamo, la letteratura negli ultimi dieci, vent'anni, però la crisi greca l'ha portato molto, l'ha reso molto evidente, come quella che Krautsch chiamava post-democrazia sia diventata di fatto una questione che ci riguarda tutti quanti e che quindi se prima potevamo pensare solamente di governare adesso possiamo pensare di governare però nel contempo ci dobbiamo fare carico o dobbiamo considerare anche che ci sono dei soggetti che non necessariamente sono dotati di mandato democratico però con cui fare i conti, o dei soggetti o delle priorità. E quindi appunto questa parola governare mi riportava a questi due temi anacronismo e ambizione e nel contempo appunto al tema chiave che volevo un po' affrontare che è quello del rapporto tra debito e democrazia. E lo faccio alla luce di due cose importanti che sono successe in queste ultime settimane. La prima, se ne è già discusso molto, è questo decreto salvabanche per cui lo nomino e non ci entro ma la seconda è passata un pochino più sotto silenzio ed è il primo rapporto sul debito pubblico italiano compilato e reso pubblico un paio di giorni fa da Maria Cannata, compilato da Maria Cannata e che ha due pagine al suo interno che sono appunto state citate soprattutto analizzate dalla Gabanelli e che sono effettivamente, io consiglio di leggerle perché sono un incrocio tra oscurità, vaghezza e temi importanti e anche preoccupanti. Quello che mi sembra queste due cose ci mostrino è una sorta di premonizione cioè come se noi adesso stessimo vedendo appunto con questa crisi come una premonizione di quello che tende o potrebbe tendere a divenire normalità. E quindi questo primo rapporto appunto sul debito pubblico ha due paginette all'interno nelle quali si vanno a guardare le sei operazioni di ristrutturazione su derivati esistenti fatte nel corso dell'ultimo anno. Naturalmente non ci vado a perdere tempo perché è un documento molto complicato perché poi mancano molti elementi per discuterlo però le poche cose che si intendono sono appunto piuttosto radicali. Infatti la Gabanelli ha parlato addirittura di un pizzo cioè lei dice, ha preso in considerazione leggendolo, ha tentato di tradurlo e ha parlato di un pizzo che viene dato per indurre le banche controparti a comprare i titoli di debito italiano diceva ed evitare pertanto che queste vanno ad aumentare le quotazioni sui CDS con cui queste banche coprono la propria esposizione e vadano ad aumentare lo spread. Allora per chi ha seguito un po' la crisi greca questo qui diventa immediatamente una cosa che ci parla della crisi greca e a me la ricorda in due modi la ricorda primo per come si parlava del fatto che la Grecia ha truccato un tempo i propri conti e secondo me la ricorda per come si diceva penso a uno studio di un economista della London School of Economics che la questione dello spread è stata utilizzata per consentire di introdurre programmi di austerità. Quindi appunto temi chiave che però vengono presentati generalmente considerando la popolazione in due modi primo come prestatore di ultime istanze per cui tutte le perdite vengono coperte dai contribuenti ma che oltre a questo mantiene una oscurità straordinaria oltre ad essere appunto chi va a coprire le perdite il contribuente deve veramente faticare per capire che cosa sta succedendo. E quindi appunto il rapporto tra debito e democrazia su questo vorrei dire solo tre cose la prima è che questo grande tema in questi anni è stato monopolio più o meno solo degli economisti mainstream e delle destre e invece è un tema appunto centrale gli economisti mainstream hanno risolto la questione più o meno mettendo in costituzione il pareggio di bilancio che ha reso si dice incostituzionale Keynes per cui tutto ciò che considera il debito pubblico come un ponte sul futuro come si diceva un tempo come un investimento sul futuro o come un primo passo per consentire a uno Stato di investire su ciò che ritiene importante a prescindere dalla disponibilità attuale un tempo si diceva che si prende dal futuro il futuro ti presta del denaro per investirgli in attività produttive che consentano di creare occupazione e profitto in modo tale da creare un bilanciamento tra i tempi un equilibrio tra i tempi questo è stato distrutto e quindi appunto un grande debito è un tema appunto che è stato letto soprattutto dagli economisti mainstream impedendo così di ragionare su che cosa è veramente il debito che è qualche cosa appunto che andrebbe liberato da quel discorso e reinterpretato completamente però l'altra ragione per cui questo tema è importante è per come questa cosa è stata gestita in Italia se andiamo a vedere le serie storiche dell'avanzo primario in Italia ogni volta mi stupiscono perché l'Italia si dice che è in difetto perché la spesa pubblica è eccessiva per cui il debito dipende da come il denaro viene male speso però l'Italia è il paese più virtuoso dal punto di vista dell'avanzo primario e allora da dove viene questo debito? o meglio, da dove viene? come è stato aumentato? perché qui i discorsi sono appunto molto complicati però in Italia si potrebbe dire che non è la crisi che ha creato l'austerità ma l'austerità che ha creato la crisi perché quello che è stato fatto è stato precarizzato il lavoro con il Jobs Act è stato normalizzato il lavoro precario e introdotto il lavoro gratuito chi parla di ripresa mi chiedo come lo possa fare nel momento stesso in cui queste due questioni di per sé precarietà, lavoro gratuito, voucher rendono impossibile un rilancio della domanda quanto meno e rendono impossibile quella che viene considerata una ripresa e allora appunto in Italia vediamo tra le tante questioni un sempre più grande gap generazionale per cui le nuove generazioni sono quelle che più adesso vivono o meglio fungono sono coloro su cui è esternalizzato tutto il rischio e tutte le perdite in Grecia si diceva quest'estate che ogni bambino nasce con 32.000 euro di debito in Italia sono 36.000 però ci si chiede come li pagheranno come sarà anche possibile qualora lo volessero ripagare a partire dal fatto che appunto il lavoro è precario e non pagato sempre di più allora dove volevo andare con tutto questo? volevo andare con una proposta cioè mi sembra che una delle cose che si può fare è cominciare a discutere di debito anche in previsione delle amministrative sui piani locali sui piani dei comuni sui piani locali perché sul piano locale si consente anche di trasformare quella che è la preoccupazione per il debito quella che è l'ansia per il debito Equitalia perché a realtà sono tutti temi molto fortemente emotivi la crisi è anche una questione fortemente emotiva questo dato viene sempre diciamo ridotto per trasformare tutto questo in una possibilità di ricomposizione sociale e è stato fatto in Spagna è stato fatto in Grecia in Grecia si diceva che la sinistra radicale non ama gli audit sul debito perché li considera una proposta riformista la sinistra riformista li considera troppo radicale allora sono tutti quanti sempre contro un'idea di audit ma non solamente di audit possiamo parlare ma anche di quelle che in Spagna chiamavano osservatori municipali cittadini cioè il fatto che si possa creare delle occasioni di discussione in cui è la cittadinanza a riprendere in mano il tema del debito e a farne un tema di democrazia quale dovrebbe essere perché appunto la prima cosa per ricominciare a governare è capire esattamente che il debito è un tema che appartiene a i cittadini non solamente in quanto prestatori di ultima istanza ma in quanto tema di democrazia grazie non so cosa sperate spero che mi sentiate allora in questo momento scusate per i problemi tecnici peraltro io dovrò abbandonare l'aula per far entrare le persone che sono fuori per cui troverete un sostituto di civati che non è indispensabile ora andrà in onda come si dice nel linguaggio televisivo un video di Stefano Feltri che ha scritto un altro bellissimo libro così anche per i regali di Natale è possibile pensa a tutto pensa anche al vostro Natale non sapete cosa regalare c'è Pasquino c'è Feltri il titolo del libro di Feltri è ancora più paraculo se posso usare un termine tecnico di quello di Pasquino che è serio che è la politica non serve a niente ma un capitolo finale strepitoso e straordinario per cui ci saranno Stefano Feltri in video il video è girato da componenti che non lo so adesso non è bellissimo non so come mai subito dopo ci sarà Luigi Corvo che spiegherà il video di Feltri di cui non capirete nulla e poi andremo avanti nella nostra iniziativa il tema è quello dell'economia condivisa della sharing economy ieri ne parlava in televisione Mariana Mazzucato contro un incredibile Michele Serra che ormai secondo me è parente della Boschi Serra ci deve essere un fatto personale grazie 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 lo vediamo a ogni elezione che c'è sempre più sfiducia nella democrazia e in questi partiti sia in Italia sia in Europa sia alle elezioni nazionali a quelle europee a quelle regionali non è più ormai un fenomeno episodico non è più neanche un voto di protesta è una crisi totale verticale di sfiducia lo abbiamo visto in Francia con il consenso al front nazionale viene da chiedersi cosa è cambiato le elezioni del 2013 hanno dimostrato una volatilità che non si era mai vista prima nella storia repubblicana e soltanto in grandi passaggi storici come la fine del compromesso storico o la fine della prima repubblica c'erano stati smottamenti di voto comparabili anche se inferiori qui cosa sta succedendo la mia analisi che ho sviluppato anche nel mio libro La politica non serve a niente è che la cosa che è cambiata è la grande crisi economica dopo questi sette anni ormai di crisi in cui abbiamo 8-9 punti di pile in meno 25 punti di produzione industriale alla politica chiediamo una cosa sola di aiutarci a uscirne e cosa succede? che i leader di qualunque schieramento continuano a farci promesse irrealistiche applicano più o meno tutti lo stesso programma fatto di promesse di riduzione della spesa pubblica un po' di interventi stimoli dei consumi le famose riforme ma i risultati non si vedono questo fa aumentare la disaffezione perché di fronte a promesse così importanti i risultati sono sempre molto piccoli e quindi c'è astensione o si vota per i movimenti di protesta allora perché sta succedendo questo? io sono convinto che sta succedendo perché la politica ha perso il controllo della società che dovrebbe amministrare non riesce più a fare ridistribuzione della spesa pubblica perché non c'è più crescita e perché le varie parti delle nostre costituzioni stanno entrando in conflitto garantire diritti costosi non è più compatibile con rispettare i vincoli di bilancio rigidissimi quindi la politica promette cose che non riesce più a controllare anche perché poi molto non dipende più dalla politica nazionale ma soltanto da quella europea c'è soltanto un driver di crescita come dicono gli economisti che è rimasto che è quello del cambiamento tecnologico e il cambiamento tecnologico non passa dalla politica se pensate a quello che sta succedendo nei trasporti Uber ha cambiato il trasporto urbano molto più di quanto l'abbiano cambiato i anni di battaglie di scontri da tassisti di ministero sviluppo liberalizzazioni mancate così che ci ricordiamo le polemiche ma se guardate anche ad altri campi pensate appunto alla finanza internazionale a un certo punto della crisi greca uno studente inglese si è messo in testa di trovare i soldi per aiutare Zipras a evitare il default e con una campagna di crowdfunding ha raccolto quasi 2 milioni di euro in 10 giorni gliene servivano un miliardo e 6 ha fallito ma il punto è che era tecnicamente possibile cioè si poteva dando 3 euro a testa salvare la Grecia dal default verso il fondo monetario quindi forse le nuove elezioni quindi forse salvare quel tipo di governo Zipras eccetera eccetera tutto questo sta restringendo gli spazi per la politica e gli sta ampliando per se vogliamo la società i cittadini anche le imprese che hanno un ruolo una responsabilità che prima non avevano ma ai nostri fini cioè il rapporto con la politica cosa ci interessa che questa società è cambiata se la politica non ne tiene conto continuerà a promettere cose inutili che non può mantenere deve cambiare approccio se stiamo andando verso un mondo in cui saranno tutti freelance in cui saranno tutti di nuovo lavoratori a cottimo dopo essere stati lavoratori dipendenti beh è giusto pensare a una politica che tiene conto di una società così organizzata che tiene conto di un mondo di freelance e quindi non si arrocca più a pensare un sistema di welfare centrato sul lavoratore dipendente ma pensa a qualcos'altro non è un cambio facile perché c'è molta conservazione molta resistenza legittima ma è un cambio sicuramente inevitabile prima arriva meglio è quindi una forza politica che voglia pensare e gestire questo cambiamento deve fare secondo me essenzialmente due cose pensare a come sfruttare le opportunità che ci sono perché ce ne sono tante forse siamo all'inizio di una terza rivoluzione industriale quella dell'internet delle cose quella del tutto connesso dei big data eccetera e quindi come sfruttare queste opportunità e l'altro aspetto soprattutto per una forza politica diciamo di sinistra come proteggere le vittime del cambiamento e qui io vedo essenzialmente due elementi il primo è la tutela per chi non ha possibilità di reimpiegarsi quindi ammortizzatori sociali che in un mondo di filenso devono essere universali e non legati a condizioni professionali al posto di lavoro e la seconda cosa cruciale è l'istruzione perché soltanto un'istruzione all'altezza delle sfide che ci attendono ci può mettere in condizione di essere protagonisti e non essere vittime alla fine questo è quello che io vedrei come il programma politico possibile per stare in tema di una forza che voglia essere adatta a questo nuovo contesto grazie 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 mille a Stefano Feltri per questo ragionamento adesso è il momento di Luigi Corvo che si avvicina che ci parla di innovazione sociale che ci parla di furti d'auto suppongo che ci parla forse anche di comunali anche quella è una forma di sharing economy esatto ora aspetto chi la share con me però è un problema successivo sì buongiorno oggi non mi hanno rubato nulla è venuto a piedi e lì mi ha dato questa assist non potevo non coglierlo in realtà dicevo spiegare quello che ha detto Feltri poi qualcuno verrà a spiegare quello che dico io quindi ci spiegheremo diciamo rincorrendoci ma secondo me Stefano Feltri invece è stato abbastanza chiaro cioè anche se non condivido esattamente tutte diciamo le ricadute della sua analisi però a me piace rimanere sulla sua analisi perché secondo me è un'analisi molto interessante lui dice voi che state qui e che avete fondato un soggetto politico da poco e lo state in realtà anche fondando e che oggi dite che ci proponete un programma di governo tenete presente che gran parte delle variabili che sono sotto le promesse che voi fate in realtà rischiate di non poterle controllare rischiate di non avere in mano le leve per poter fare quelle cose che scriverete nel vostro programma quindi ponetevi il problema e lo diceva anche bene Francesca Coin prima di come poter ritornare in controllo di quelle variabili che consentono poi di fare effettivamente quel possibile quell'Italia possibile che noi qui oggi stiamo descrivendo e per farlo secondo me la prima operazione è essere molto sinceri e dire le cose in maniera chiara in maniera chiara vuol dire smettere di evocare una crisi come eternamente passeggera lo diceva Stefano Feltri dal 2007 in poi c'è stato un cambiamento epocale questa crisi non passerà per un battito d'ali di una farfalla come dice qualcuno evocando la teoria del caos questa crisi passerà se facciamo delle scelte chiare e se le raccontiamo in maniera netta ci vorranno anni ci vorranno molti anni e c'è bisogno estremo di una classe politica che abbia la capacità di investire il consenso investire il consenso vuol dire che non si preoccupa di fare scelte che abbiano una ricaduta elettorale in termini di brevissimi periodi ma che sappia anche rischiare di perdere una parte del consenso per raggiungere davvero un cambiamento dell'Italia e farci riconquistare quella posizione che abbiamo perso dal 2007 ma secondo me anche da prima in poi perché il libricino di Prodi che viene citato diciamo come elemento introduttivo di questa giornata per farci riprendere un racconto che la sinistra e il centrosinistra ha smarrito aveva un sogno all'interno aveva un sogno molto interessante riprendeva il deglino dell'Italia industriale e diceva guardate in Italia però c'è una nuova soggettività che si sta affacciando è la soggettività delle piccole e medie imprese quella soggettività che descriveva Derita Miglio negli anni 70 ma Prodi aveva aggiunto un passaggio ulteriore Prodi aveva detto che quella soggettività non la dobbiamo intendere soltanto dal punto di vista individuale del piccolo e medio imprenditore ma quel piccolo e medio imprenditore avrà una coscienza avrà un ruolo politico e potrà giocare nel governo del paese quel suo ruolo se soltanto se riuscirà a mettersi in rete con altri imprenditori se riesce a creare quelli che Prodi chiamava i distretti produttivi e in questa logica quei distretti produttivi saranno in grado non soltanto di perseguire il loro piccolo interesse particolare ma anche di giocare un ruolo di responsabilità sociale verso il sistema paese nel suo complesso e possiamo giocare quindi come sistema paese tutto intero un ruolo importante nella competizione con altri paesi perché non avendo quei sistemi industriali dei nostri partner europei noi però abbiamo un sistema diffuso di piccole e medie imprese che è l'elemento su cui oggi si ragiona quando si parla di ecosistema produttivo ne parlava Prodi nel 95 probabilmente non aveva il tono il piglio lo stile dell'innovatore ma in realtà nelle parole nei contenuti e nella capacità di governo era molto più innovatore di quelli che oggi si propongono come tali e che invece fanno cose che di innovativo non hanno nulla non hanno nulla secondo me perché perché di di innovazione oggi si parla evocando alcune alcune parole basta dirlo in inglese e siamo tutti contenti se noi parliamo di uguaglianza e veniamo visti come diciamo i residui di un qualcosa di antico in realtà negli altri paesi la chiamano peer to peer se la dicono peer to peer che vuol dire economia fra pari noi la diciamo uguaglianza ma stiamo dicendo la stessa cosa perché ci spiegano in altri paesi che è quella la vera frontiera dell'innovazione la vera innovazione per noi è riscoprire elementi di tradizione e farla incrociare con le nuove opportunità come diceva anche Feltri della tecnologia per generare un valore aggiunto che però non vada a beneficio di pochi ma sappia essere redistribuito fra molti questo secondo me è un elemento importantissimo vi faccio degli esempi perché poi gli interventi che diciamo seguiranno un po' ci tracceranno questa linea la sharing economy cosiddetta è un'invenzione se noi la decliniamo come la stiamo declinando nelle nostre città il car sharing delle nostre città di sharing economy non è nulla il fatto che una società che si chiama Eni prenda un parco macchine e le faccia guidare a tutti noi e noi paghiamo un prezzo non stiamo condividendo un bene il bene è di proprietà di qualcun altro e noi stiamo pagando un'altra forma di utilizzo di quel bene fra l'altro coproducendo il servizio insieme a Eni cosa c'è di innovativo in tutto ciò è un'innovazione di processo non è un cambiamento epocale questo è un punto molto importante perché invece la sharing economy d'era vuol dire condividere le nostre risorse fra pari fra noi e Eni non c'è proprio il concetto di parità e inserire un elemento in più che viene chiamato economia collaborativa cioè non solo condividere le risorse per farci ciascuno di noi quello che ciascun di noi vuole ma provare ad integrare anche i nostri obiettivi attraverso la condivisione di alcune risorse e se ci pensiamo bene questo è il concetto di fondo di una cosa che è antichissima ma che ritorna come molto contemporanea che è il concetto di beni comuni i beni comuni sono quei beni che di per sé sono condivisi perché sono indivisibili e perché su quelli non agisce il diritto di proprietà ma il diritto di accesso e il problema che ci dobbiamo porre è come gestirli per far sì che da quei beni comuni non avvengano le concessioni che poi le famose concessioni secondo un codice degli appalti che poi consente a qualcuno di maturare dei profitti ma come possiamo generare un valore sociale condiviso da quei beni perché qualcuno ci spiegherà che fare impresa in questo modo cioè fare impresa in modo responsabile non è soltanto un modo per essere eticamente apposto con la nostra coscienza ma diventa un motivo per fare più economia cioè che quindi la famosa distinzione fra la sfera sociale e la dimensione economico-finanziaria non è divisa non è dicotomica non sono alternative ma che anzi come ad esempio nel caso di Vito Gulli chi riesce a perseguire obiettivi di sostenibilità sociale al tempo stesso riesce a generare molta più consapevolezza nei consumatori e quindi riesce a generare anche più economia e più sostenibilità per la sua impresa io credo che questo sia un programma di governo nel senso un'idea che non sia il dare è proprio speculare a quello che vediamo cioè l'idea delle mance indiscriminate per mantenere alto un consenso elettorale è proprio l'idea di come bruciarci quelle risorse per poter avere una prospettiva di governo e di cambiamento a lungo termine se continuiamo su quella linea è ovvio che poi le risorse non le avremo a disposizione per i grandi investimenti di cui avremo bisogno allora se l'Italia in questo momento vive una profonda crisi da valore aggiunto ed è questo il punto ed è questa la cosa su cui non c'è in questo momento al governo qualcuno che ci sta ragionando nei settori che hanno determinato la perdita di valore aggiunto non soltanto economico anche valore aggiunto sociale anche in termini di coesione da quali settori immaginiamo da qui a vent'anni di poter rigenerare quel valore aggiunto che abbiamo perso c'è qualcuno che sta ragionando di questo noi vogliamo farlo e partiremmo con delle idee abbiamo 90 atenei abbiamo 90 università vogliamo fare una ricognizione di quali sono le idee di intrapresa la capacità di rischiare che nasce da quelle università e provare a costruirci sopra quell'ecosistema mettendolo in collaborazione con una certa finanza non quella che stiamo osservando in questi giorni quella è la pessima finanza dobbiamo mettere in connessione con quella finanza che guarda al rendimento finanziario ma allo stesso tempo all'impatto sociale del rendimento finanziario e se riusciamo a fare questa ricognizione di ciò che avviene nelle università di quelle idee innovative che nascono dalla ricerca di base e quindi cambiando anche il modello universitario e accompagnarle con strumenti finanziari che ne promuovano la messa sul mercato di quelle idee e a questo colleghiamo una rete di imprese che ha già la vocazione imprenditoriale che non possiamo ascrivere al mondo universitario che è dedicato alla ricerca allora generiamo quell'elemento di innovazione di sistema perché facciamo collaborare attori che hanno mission diverse ma che hanno tutte un unico punto in comune avere a cuore la missione del paese questo è chi ha capacità di governo deve provare a fare e lo deve provare a fare ripeto guardando a degli obiettivi che non siano di parte anche a rischio di perderci qualcosa nel suo particolare altrimenti secondo me se continuiamo a dire che domani finisce poi scopriamo che domani non è finita perché le previsioni di crescita diminuiscono quindi cominciamo a proiettarla sull'anno successivo per cui dal 2008 ad oggi abbiamo sempre uno spostamento di un anno in avanti del momento della fine io credo invece diciamoci la verità non ci vorrà un anno non ce ne vorranno due ce ne vorrà qualcuno in più ma possiamo iniziare da subito se abbiamo una prospettiva veramente ampia se siamo in grado davvero di immaginare un'innovazione che non sia il cavalcare i digital champions che vengono sventolati in alcune città ma se abbiamo la capacità di scoprire chi innova davvero nelle sue imprese e mettere in collegamento con chi può dare quel qualcosa in più che magari sta nelle università o può finanziare lo scaling grazie ad una finanza diversa grazie 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 mille Luigi e adesso abbiamo un altro video un contributo da parte di Mario Seminerio che è economista e autore del blog Fastidio con la piacca però e ci propone un'analisi macroeconomica prego buongiorno grazie per l'invito che mi avete rivolto grazie in particolare ovviamente a Pippo diciamo io sono qui per condividere con voi alcune riflessioni su cosa è oggi questo paese e probabilmente dove sta andando a questo paese tre anni fa io ho scritto un libro che si intitolava si intitola La cura letale era relativo alla situazione di questo paese nel mezzo di una crisi devastante e direi proprio esistenziale quella causata dalla grande recessione dalla crisi del debito sovrano l'ultimo capitolo di quel libro si intitolava Torneremo poveri per tutta una serie di considerazioni la più importante delle quali è quella relativa al fatto che questo paese ha un handicap molto pesante e decisivo anche se troppo spesso sottaciuto dai commentatori e dal dibattito pubblico di questo paese questo handicap è la demografia l'Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo insieme al Giappone ma a differenza del Giappone ha un sistema paese estremamente sfilacciato non ha un progetto per il proprio avvenire ammesso che lo abbia mai avuto ha passato lustri o forse decenni a usare la spesa pubblica in una maniera assolutamente miope e folle semplicemente come costruzione di consenso per somma di aggregazione di interessi particolari e particolaristici questo è un paese dove non si è mai costruito nulla di realmente universale e universalistico non un welfare non un sistema di istruzione nulla e quindi oggi noi siamo all'appuntamento col destino e come stiamo reagendo ma diciamo che nella fase attuale e non è ovviamente per impancarmi a profeta dei poveri o profeta dei noantri perché non mi ci sento queste sono considerazioni che faccio solo con me stesso e sono pensieri a voce alta io temo che questo paese non abbia ancora la consapevolezza della gravità della crisi esistenziale che sta affrontando è una crisi che ci sta portando a un declino probabilmente difficilmente reversibile negli anni in cui ancora qualcosa di sostanziale poteva essere fatto le modalità di costruzione del consenso di questo paese erano centrate come dicevo sulla spesa pubblica ma una spesa pubblica di pessima qualità non universalistica ma particolaristica in un modo ossessivo oggi i soldi sono finiti molto banalmente la popolazione è anziana il sistema educativo fa acqua da tutte le parti non c'è più un progetto per il futuro del paese non c'è più ammesso che ci sia mai stato un'opinione pubblica dotata di anticorpi ma anche quegli stessi anticorpi democratici per capire quando un governo o un potere sta forzando la mano oltre quello che sarebbe consentito in condizioni di normalità perché qua di normale in questo paese c'è ben poco ma di tutta questa vicenda la sinistra in senso lato la sinistra mainstream italiana non è assolutamente esente da colpe perché parliamo comunque di una forza culturale prima ancora che politica che si è sempre opposta a qualsiasi ipotesi di rompere il dualismo ad esempio nel mercato del lavoro quel dualismo odioso che vedeva un nucleo di insider ultra protetti a cui si contrapponeva una massa crescente di outsider sempre meno protetti il risultato è che continuando a dire niente negli anni in cui potevamo ancora permettercelo a ipotesi realmente universalistiche di costruzione di un sistema che fosse realmente inclusivo e quindi forse attenuando alcune protezioni eccessive agli insider cioè quando ancora crescevamo perché queste operazioni si fanno durante le fasi di crescita non durante le fasi di carestia come l'attuale siamo in realtà giunti a questa situazione che è una situazione rispetto alla quale io francamente non vedo molte vie d'uscita perché il paese continua a non crescere malgrado quello che viene detto da Palazzo Chigi la situazione di Palazzo Chigi del resto è molto particolare a Palazzo Chigi siede una persona dall'eloquio molto svelto diciamo ma anche se probabilmente non da particolare spessore culturale o capacità di comprendere realmente il mondo che lo circonda una persona molto veloce molto rapida che tende ad esprimersi per un altro concetto di un'altra generazione che non ha preceduto anni addietro che si è girato per un ventennio sulle macerie italiane la persona che oggi sta a Palazzo Chigi ha scalato il partito democratico per usare proprio la sua stessa espressione perché il partito democratico era oramai completamente sfatto e quindi era possibile attuare quello che chi si occupa di mercati finanziari con i soliti anglicismi odiosi chiama take over del partito democratico perché si è trovato di fronte un'entità che era un ectoplasma che era praticamente caduta a pezzi da lì a muovere sull'intero paese visti comunque i legami di potere del partito democratico diciamo del sistema di potere di questo paese è passato veramente poco questo non vuol dire che questa persona che attualmente siede a Palazzo Chigi riuscirà a trasformare tutto quello che intende trasformare anzi sinora ha fatto dei cambiamenti tutto sommato limitati io e forse molti di voi saranno in disaccordo considero il Jobs Act come qualcosa di limitato come un intervento al margine come qualcosa che probabilmente andava fatta una quindicina di anni fa quando questo paese aveva ancora uno straccio di crescita ma del senno di poi sono piene le fosse ed è inutile piangere sul latte versato l'unica direzione giusto per non diciamo lasciarvi con l'impressione che io tenda a veicolare solo concetti disperanti e che quindi moriremo tutti anche se so che molti di voi in questo momento stanno esattamente pensando questo è quella di battersi per un sistema che sia realmente inclusivo e per un grande cambiamento della mentalità di questo paese so che queste sembrano frasi fatte sembrano idealismi vacui ma quello che stiamo vedendo anche in questi giorni in queste settimane con il caso delle quattro banche che sono state saltate che sono state risolte come si dice in gergo e che ha determinato le perdite a completa dei risparmi per decine centinaia di migliaia di risparmiatori è molto sintomatico della vulnerabilità di questo paese cioè un paese dove le istituzioni interne dibattono furiosamente assegnandosi responsabilità della loro inazione un paese ricordo dove queste quattro banche erano in amministrazione straordinaria cioè erano commissariate da non meno di due anni e mezzo durante i quali non si è fatto nulla perché si stava semplicemente cercando di schivare il carbone ardente e l'olio bollente e alla fine ci troviamo con un perfetto capro espiatorio esterno nel vittimismo che caratterizza questo paese che è la commissione europea che è l'unione europea che sono i cattivoni che vogliono colonizzare questo paese e mangiarsi tutte le sue ricchezze materiali e spirituali io credo che finché questo paese nel suo discorso pubblico continuerà ad avere questo vittimismo e questa ricerca di un capro espiatorio esterno la situazione non potrà che peggiorare forse servirebbe un maggiore senso di responsabilità individuale per quanto riguarda poi interventi sulla struttura centrale di questo paese della sua sistema di istruzione presto parleremo anche del sistema sanitario non solo delle istituzioni credo che ci aspettino veramente momenti difficili io credo e questo è diciamo il pensiero con cui concludo queste considerazioni necessariamente sintetiche forse superficiali forse sono solo voli pindarici eccetera ma ci sarà modo e tempo di approfondirli in future interlocuzioni magari io credo che questo paese abbia bisogno di capire che non è più possibile ragionare e agire al margine di quello che è successo sinora cioè purtroppo o per fortuna questo paese dovrà passare attraverso un trauma molto serio e molto rilevante forse durante questo trauma ci saranno concreti rischi di una involuzione antidemocratica forse riusciremo un giorno a svegliarci da questo sortilegio e a capire che abbiamo sbagliato veramente moltissime cose nel modo di organizzare la comunità nazionale questo non lo so però quello che posso dire è che quello che dobbiamo cercare di fare è cercare di gettare lo sguardo oltre l'orizzonte angusto di questo paese in una pianeta che è sempre più condizionato da movimenti epocali che sono destinati a coinvolgerci sempre più e di conseguenza ogni tipo di ragionamento provinciale relativo a piccole beghe da cortile o a alcune cose che non esistono più potrà andare bene probabilmente per i talk show politici televisivi che a mio modo di vedere sono la forma la rappresentazione plastica del declino culturale di questo paese e della sua società ma non vanno bene per cambiare realmente registro perché questo è un paese che ha una componente inerziale drammatica cercare di capire nei prossimi mesi nei prossimi anni se non succederà nient'altro di grave nel frattempo come conciliare una tradizione liberale nel senso più autentico del termine con una tradizione solidale progressista diciamo che riesca a contenere ad accogliere quante più soggetti e quante più persone possibili all'interno di una società destinata a crescere non a stagnare o a involvere sarà una grandissima sfida ma io credo che bisognerà necessariamente dialogare al confine delle grandi passioni ideali tra il liberalismo che in Italia viene sempre questo termine viene talmente consunto e levigato che ormai vuol dire tutto non vuol dire nulla e in realtà una tradizione più progressista altro termine che è stato talmente consunto la cui accezione si è praticamente persa ecco questa è la grande scommessa o forse la grande farnificazione di cui io vi sto parlando in questo momento ma sono ragionevolmente certo che dalla confluenza e dal confronto di queste due scuole di pensiero di queste due concezioni del mondo potrà passare l'ipotesi di rilancio di un paese che tuttavia in questo momento mi appare veramente esausto vi ringrazio e buona continuazione grazie grazie mille anche a Mario Seminario ci scusiamo del pessimo audio ma siccome sta per uscire il nuovo Star Wars abbiamo pensato di fare un effetto Darth Vader Pippo Civati intanto è fuori accampato con chi non fanno entrare e con del vent brulee sembra di stare a quelli che è il calcio quando si fanno gli inviati esterni allora passiamo adesso a Maurizio Franzini che ci parla che è un economista salve che ci parla della questione centrale dei nostri tempi che è quella delle disuguaglianze yes buongiorno sì vi parlerò di disuguaglianze in dieci minuti cercando di dirvi perché questo problema rimane un problema così grave che si aggrava sempre di più e per affrontare il quale occorre avere come dire un progetto molto radicale di intervento sulla economia e sulla società le disuguaglianze non sono tutte uguali e non vanno confuse con la povertà perché tendenzialmente quando si parla di disuguaglianze poi si finisce per parlare di povertà la differenza detta in maniera molto semplice che parlare di povertà significa occuparsi soltanto di quelli che stanno peggio e parlare di disuguaglianze significa occuparsi anche di quelli che stanno meglio o addirittura strameglio quindi si tratta di un problema molto diverso e che implica analisi anche in politica molto diverse le disuguaglianze non sono tutte uguali quella contemporanea ha delle caratteristiche particolarmente preoccupanti se dovesse sintetizzare in una battuta direi che è l'espressione di un capitalismo rapace ed oligarchico che tende a creare situazioni di privilegio straordinarie mettendole a riparo anche da forme come dire di contendibilità forme di accaparramento di posizioni analoghe a quelle di cui godono coloro che si trovano anche occasionalmente ad avere posizioni di privilegio quindi è una forma di disuguaglianza particolarmente grave neanche compatibile con i principi del liberismo se volete perché è il frutto di vantaggi che gli economisti chiamano rendite cioè cose che nascono quando le forme buone della competizione della concorrenza sono sospese a vantaggio di protezione di vario tipo nei mercati e fuori dei mercati la rappresentazione diciamo in termini di dati di questo fatto sta nella quota di reddito o di ricchezza che si concentra nelle mani di un piccolo segmento di popolazione molto ricco che tendenzialmente è in forte crescita molto di più nei paesi anglosassoni ma molto marcatamente anche dalle nostre parti dove nel giro di una ventina d'anni in un per cento più ricco in termini di reddito della popolazione dal possedere circa il 6% del reddito nazionale è passato a quasi il 10% il che vuole dire un incremento molto forte mentre tutto il resto della popolazione nella distribuzione dei redditi in qualche modo regretiva e qui voglio dire bisogna stare molto attenti quando si pensa che l'unico obiettivo da raggiungere sia quello della crescita come sento dire anche qui questi fenomeni di aggravamento delle disuguaglianze si sono prodotti in fase di alta crescita negli Stati Uniti la crescita c'era e ha determinato un aggravio di disuguaglianze enorme il reddito mediano negli Stati Uniti è regredito nonostante la crescita negli anni 90 e negli anni 2000 quindi penso che una forza diciamo di sinistra debba stare molto attenta a usare questi termini per evitare di far passare l'idea che è un'idea molto diffusa e molto sbagliata per la quale basta che c'è un po' più di crescere e quasi tutto si sistema non è affatto così molte cose possono peggiorare anche in termini sociali e in termini di disuguaglianza durante la crescita abbiamo fatto dei calcoli se la distribuzione del maggior reddito che si venisse a creare nei prossimi anni supponendo una crescita che per il momento è utopica del 2% all'anno per 15 anni quello che accadrebbe con questo modo di ripartirsi della ricchezza è che per la grandissima parte della popolazione questo significherebbe alla fine del periodo ai fini dei 15-20 anni 200 euro di reddito di più al mese mentre una quota enorme è una quota molto ridotta forse avrebbe un enorme aumento con un grado di concentrazione quindi quello che voglio dirvi è se si parla di crescita senza qualificazione si commette un errore bisogna capire ed affrontare il problema delle disuguaglianze per quello che sono allora tre cose primo c'è la tendenza a pensare che le disuguaglianze si combattano attraverso la redistribuzione quindi attraverso tassazione trasferimenti a chi è svantaggiato quindi attraverso un allargamento del welfare di cui si dice che è in fase di regressione eccetera bisogna tenere presente che la stragrande maggioranza la quota più grande delle disuguaglianze che si sono prodotte negli ultimi anni si sono prodotte nei mercati cioè nel funzionamento del mercato in Italia questo indicatore che si usa per rappresentare la disuguaglianza che si chiama l'indice di Gini applicato ai redditi di mercato cioè quelli prima di avere le imposte e i trasferimenti ai poveri nel giro di 20 anni è passato dal 38% al 50,4% che è il valore più alto più alto anche degli Stati Uniti dopo noi questa cosa la conteniamo con un sistema redistributivo di welfare che in qualche modo riesce a ridurre questi danni ma l'idea che si possa conservare il funzionamento dei mercati così com'è e poi intervenire con un welfare che redistribuisce è un'idea che non funziona perché bisogna intervenire sui meccanismi che producono la disuguaglianza nei mercati e per questo dico che affrontare il problema delle disuguaglianze significa andare alla radice del funzionamento complessivo del sistema economico non è soltanto una questione di redistribuzione è una questione di come si diventa ricchi e di come si rimane poveri all'interno dei mercati e lì troviamo e questo è il secondo punto questi meccanismi di cui vi parlavo prima che sono meccanismi profondamente inaccettabili profondamente ingiusti istruzione un altro leitmotiv che sentiamo è bisogna istruirsi di più per carità ci mancherebbe altro però quando andiamo a vedere se l'istruzione è una garanzia contro la disuguaglianza scopriamo che non lo è affatto non è una garanzia abbiamo moltissimi laureati poveri abbiamo un'enorme differenza di reddito a parità di istruzione allora anche questi messaggi troppo semplificati non vanno più bene siamo di fronte a una situazione molto più complessa quindi l'istruzione come soluzione alle disuguaglianze significerebbe secondo i nostri calcoli ridurre del 10% soltanto le disuguaglianze che noi abbiamo l'altro 90% nei redditi da lavoro nei redditi rimarrebbe rimarrebbe intoccato vuol dire che bisogna andare nei meccanismi di mercato in cui si decide perché due laureati uno guadagna tanto e uno non guadagna niente tra l'altro vi faccio presente che la gran parte dei nostri imprenditori che sono ancora quelli che in qualche modo appartengono la parte più alta dell'istribuzione hanno una quota adesso non ricordo esattamente il numero ma più del 30% dei nostri imprenditori ha la scuola dell'obbligo quindi lì in quel caso l'istruzione non è assolutamente necessaria per appartenere capite anche che se una grande parte degli imprenditori della scuola dell'obbligo difficilmente prende un giovane con un dottorato di ricerca a lavorare presso di sé cioè ci sono ovvi problemi anche di difficoltà di rapporto dovute a queste differenze allora questi sono modi per dirvi guardate che questa disuguaglianza alla quale noi siamo di fronte oggi è una disuguaglianza che ha le sue caratteristiche particolari e non può essere affrontata dai modi semplici con cui sentiamo troppo spesso che dovrebbe essere appunto affrontata qui il ritardo enorme della sinistra immagino che molti di voi sappiano che è un luogo comune quello quasi un luogo comune quello secondo il quale la sinistra si differenzia dalla destra perché la sinistra si preoccupa delle disuguaglianze e la destra no se osserviamo lo sviluppo storico degli ultimi decenni dobbiamo dire che delle disuguaglianze non si è preoccupata nella sinistra e nella destra visto come sono andate a finire come sono andate a finire le cose e la domanda è perché la sinistra non se ne è occupata una spiegazione una immediata spiegazione è quella che la sinistra ha confuso la disuguaglianza con la povertà se voi andate a vedere le dichiarazioni che hanno fatto molti leader della sinistra di varie tipologie c'era sempre il problema diceva noi dobbiamo preoccuparci dei poveri perché i ricchi non sono un problema certo che i ricchi non sono un problema ci mancherebbe che ci dovessimo preoccupare dei ricchi perché stanno male ma i ricchi sono un problema nella misura in cui il meccanismo attraverso il quale si diventa ricchi è espressione di un mercato di una società che non funziona quindi il ricco può diventare un problema allora questo coraggio perché poi capite che c'è questa cosa e dice tu ce l'hai coi ricchi perché sei invidioso vabbè ok no a parte che l'invidia non è uno dei sentimenti peggiori dipende da come viene utilizzato ma non è questo il punto il punto è semplicemente quello di capire in base a quali meccanismi si procurano si generano si determinano diseguaglianze straordinarie che non hanno nulla di accettabile voi sapete se mi avvio a concludere che l'Italia è un paese che ha un grado di immobilità sociale intesa come dipendenza del reddito da lavoro da lavoro non da capitale dei figli dal reddito dei genitori che è altissimo questo genera delle diseguaglianze che nessuno può considerare accettabili neanche i liberali storici rispetto a questo bisognerebbe mettere in moto dei meccanismi di mobilitazione molto forti come è possibile che il figlio di uno che prende una famiglia e poi su un mercato del lavoro guadagna sistematicamente il 15-20% di più di un altro che ha peraltro il suo stesso titolo di studio questo è quello che avviene quello che avviene in Italia se voi togliete questa diseguaglianza che non so chi la può difendere ricordo che un candidato alla presidenza del consiglio di qualche anno fa disse adesso siamo arrivati al punto che il figlio dell'operaio vuole avere le stesse chance il figlio del manager cioè a parte questo diciamo questo approccio come dire è difficilissimo avere un argomento a favore della tesi per la quale va bene che due persone che hanno lo stesso grado di istruzione cioè solo perché provengono da famiglie con reddoli diversi devono avere accesso a reddoli diversi se noi eliminiamo queste diseguaglianze lavoriamo sui mercati arriviamo a un mondo che per la sinistra forse non è noto ma che andrebbe esplorato che è il mondo delle diseguaglianze giuste uno dice come la diseguaglianza può essere giusta e si può anche essere giusta la diseguaglianza se uno lavora tanto e un altro non lavora poco è certo che è giusta quella diseguaglianza se uno ha avuto le stesse opportunità e non le ha sfruttate è chiaro che deve guadagnare di meno di un altro ma se il mondo fosse diseguaglianze giuste le diseguaglianze che oggi noi vediamo verrebbero dimezzate un terzo verrebbero enormemente ridotte perché noi viviamo in un mondo di diseguaglianze profondamente ingiuste profondamente è un discorso facile? no si può affrontare con battute semplificate? no bisogna mettersi a lavorare però questo si chiama possibile e quindi deve essere possibile anche fare questo grazie grazie mille a Maurizio Franzini allora passiamo adesso a dare un benvenuto molto caldo a un ospite atteso che è Vincenzo Visco che invito ad avvicinarsi e che è uno che ha sempre avuto molto a cuore il tema dell'evasione eppure avendo una esperienza di governo non è mai stato su questo evasivo e quindi lo ringrazio per essere venuto bene io intanto vorrei iniziare ringraziando Pippo Civati che non c'è però lo ringrazio lo stesso per avermi invitato ma io sono venuto molto volentieri anche se come sapete io non ho condiviso la scelta che Pippo e altri hanno fatto perché mi sembra forse prematura anche se non infondato comunque poi oggi non vi parlerò di tasse se non brevemente mentre cercherò di parlare di economia in particolare della situazione che è stata presentata in questi giorni anche alla Leopolda e continuamente ci sentiamo a riproporre adesso c'è la legge di stabilità in discussione e quindi vorrei fare un momento il punto sull'economia italiana ora è comprensibile che un governo qualsiasi governo cerchi di valorizzare la sua attività e presentarsi e presentare in termini positivi la situazione questo serve a creare fiducia ed è un comportamento non solo comprensibile direi anche doveroso cioè quindi da questo punto di vista io non criticherei Renzi tuttavia qui c'è un rischio se la rappresentazione che viene fatta è troppo diversa dalla realtà e questo penso temo che stia facendo il governo Renzi e di questo la Leopolda è un esempio evidente e però appunto quando i messaggi positivi e tranquillizzanti si scontrano con la verità delle cose il rischio di un controcorpo di un backlash come si dice in inglese sono molto rilevanti e il rischio controcorpo anche di consenso è molto rilevante ora vediamo come stanno le cose l'Italia dopo la Grecia e Cipro è il paese che è uscito peggio dalla grande crisi 2007-2014 tra il 2007 e il punto di minima raggiunto nel 2014 il PIL italiano si è ridotto del 10% anche il PIL pro capita si è ridotto del 10% il che significa semplicemente noi siamo tornati al livello del 1996 cioè con lo stesso radio pro capita di allora il radio disponibile si è ridotto del 5% perché qui intervengono quei meccanismi che ricordava Franzini di redistribuzione e quindi c'è il welfare che funziona i consumi sono crollati dell'8% gli investimenti si sono ridotti di oltre il 30% la produzione manifatturiera e quindi il settore che caratterizza la nostra economia si è ridotta del 30% la disoccupazione è arrivata a sfiavare il 13% e la riduzione attuale è molto segnata dai sussidi governativi è chiaro sono stati dati molti soldi per fare certo tipo di assunzione e quelle vengono fatte l'incentivo funziona il problema è vedere quanto dureranno e se questi anticipi di assunzione non sono poi compensati a minore assunzione negli anni successivi le esportazioni questo è un dato molto inquietante non crescono o crescono meno di quelli di altri paesi nonostante la svoluzione dell'euro questa è la fotografia la cui bisogna ripartire ora c'è una ripresa ma una ripresa lenta e con chiari segnali di riduzione noi siamo partiti nel primo trimestre abbiamo fatto 0,4 al secondo 0,3 il terzo 0,2 e adesso tratteniamo il fiato per vedere che cosa succederà nel quarto trimestre nel 2015 come sapete si farà una crescita di 0,7 0,8 nel 2016 probabilmente in base alle previsioni condivise adesso siamo a più 1,3 il governo invece dice faremo 1,6 e speriamo che poi insomma quando si forzano queste stime poi il risultato che magari a metà anno dovremo essere costretti a aggiustare qualcosa insomma a fare manovre correttive di cui ci eravamo non dico dimenticati ma che avevamo negli ultimi anni evitato la ripresa italiana è inferiore alla media europea e l'altra cosa inquietante è che a differenza di quello successo in altri paesi come la Spagna all'Irlanda non c'è stato un rimbalzo veloce dall'abisso in cui siamo precipitati gli altri paesi hanno avuto un crollo minore dell'Italia ma poi hanno avuto una ripresa formidabile a colpo di 3-4% crescita e noi siamo più o meno come un pugile al tappeto che cerca un po' di rialzarsi e non si sa se riesce a mettersi in piedi oppure no la ripresa quindi è fragile è stata alimentata dalle scorte che sono il fattore più volatile del componente più volatile del pil questo soprattutto nel primo trimestre e non si può fare affidamento su ulteriori svalutazioni su ulteriori discesi dei tassi interessi su ulteriore calo del prezzo del petrolio siamo in deflazione la deflazione frena sia i consumi che gli investimenti le sofferenze bancarie frenano che derivano dalla crisi cioè quando uno o un'economia prende una sberla di meno 10% di bill è chiaro che poi si creano sofferenze bancarie cioè la gente non riesce più a pagare gli interessi i mutui ottenuti e quindi si crea un problema e queste sofferenze creano ostacolano frenano la propensione delle banche a fornire credito e questo lo vediamo in questa crisi di cui siamo pieni giornali negli ultimi giorni che ci dice varie cose ci dice per esempio che l'Italia poi non è che ha fatto tanto male nella gestione del sistema bancario perché nonostante una crisi del 10% diciamo la terza più alta d'Europa tutto sommato le banche in difficoltà sono piccole banche periferiche cioè quindi da questo punto di vista non mi sento di unirmi al coro di chi vorrebbe attaccare la banca d'Italia perché poi qui c'è una vocazione profonda in questo paese in particolare nel mondo politico improvvisato in cui noi viviamo che quando c'è un'istituzione che funziona è autonoma autorevole allora bisogna attaccarla per renderla uguale alla mediocrità generale del resto del paese piuttosto ci sono stati eroi politici dei governi adesso mi ricordo che i governi c'erano quando sono state cambiate le regole europee probabilmente c'era il governo Letta eroi serissimi da parte del sistema bancario quindi dell'ABI cioè delle banche in quanto tali comportamenti criminali da parte di alcuni banchieri che hanno fatto le cose che vediamo e un'assoluta diciamo mancanza di volontà della Consol di fare il suo dovere che è quello di assicurare la trasparenza cioè la tutela ai consumatori risparmiatori perché la Consol ha eliminato una procedura che era stata introdotta dal precedente presidente in base alla quale per ogni titolo che andava messo a disposizione della clientela le banche o gli intermediari dovevano indicare il grado di rischio ci sono delle tecniche che sono oggettive nei limiti in cui la scienza la statistica è oggettiva che consentono di fare questo e che avrebbero mostrato che questi prodotti avrebbero comportato il rischio di perdere il capitale del 50 60 30% a quel punto uno vede questa cosa questa sarebbe l'unica informazione a dare al cliente invece gli hanno un malloppo 60 pagine quindi questa è un'altra cosa stiamo attenti anche qui a non farci manipolare dalla nostra altessa indignazione questo è il comportamento di alcune forze politiche sappiamo tutti quali sono e la subalternità di altre che stanno in altri partiti anche di governo sono evidente i guasti che può produrre un altro punto ignorato è che la crisi ha avuto effetti devastanti nel mezzogiorno dove il PIL è crollato del 14% i consumi del 13% l'occupazione si è ridotta del 19% e contestualmente la disoccupazione è cresciuta al 21% le famiglie in povertà assoluta rappresentano il 12% gli investimenti manufatturieri sono crollati del 54% e quindi il sud rischia sostanzialmente una desertificazione industriale quando noi parliamo di medie appunto non ci accorgiamo che ci sono differenze enormi fra il paese e la crisi ha colpito di più la parte più debole il che guardate è una cosa inusuale una crisi come quella che abbiamo vissuto normalmente colpisce le zone più sviluppate le zone industriali mentre noi siamo stati colpiti soprattutto nella parte più debile del paese questo è dovuto a alcuni fattori fra cui da un lato il fatto del sud esporta meno e dall'altro più serio che il taglio della spesa pubblica in particolare della spesa per investimenti si fanno sentire molto di più a sud che al nord e sono stati molto più radicali a sud che al nord a tutto quello che ho detto vanno aggiunti i problemi di strutturali che sono di lunga data la bassa produttività del lavoro bassa crescita progresso tecnico assolutamente inadeguato inefficienza del settore pubblico alto tasso di illegalità malavita corruzione evasione fiscale eccetera e questo ultimo secondo me è uno dei principali problemi strutturali quando si parla di riforma strutturale bisognerebbe concentrarsi soprattutto su quello e questo viene fatto viene fatto un po' per finta un po' male e un po' per niente in sintesi sette anni di crisi hanno profondamente cambiato il tessuto economico sociale del paese hanno modificato la propensione al consumo e all'investimento delle famiglie e delle imprese hanno allargato la distanza di benessere tra l'Italia e la principale economia dell'eurozona e hanno messo a rischio il ruolo tradizionale dell'Italia in Europa e nel mondo noi avevamo la settima potenza industriale siamo la seconda economia manufatturiera e continuiamo a ripetercelo però sta roba qui è a rischio e quindi questo è lo scenario con cui la politica economica del paese dovrebbe fare i conti e sarebbe necessaria una forte consapevolezza e un impegno collettivo su un programma pluriannale coerente e cercare consenso su ipotesi di recupero e il riscatto e non sembra che la politica del governo vada in questa direzione essa sembra piuttosto orientata al perseguimento di un consenso di breve periodo piuttosto che affrontare il problema di un cambiamento delle prospettive a medio termine dell'economia italiana evidente e il consenso è importante però appunto la differenza tra una classe politica è un'altra un gruppo dirigente è un'altra è proprio quella se è in grado di parlare alla ragione del paese piuttosto che dei suoi istinti le risorse disponibili sono scarse a causa dell'osterità ma poi soprattutto a causa del debito pubblico che abbiamo accumulato e che guardate è tutto originato deriva dagli anni 80 del secolo scorso quindi i tentativi che avevamo fatto con i governi di centrosinistra di ridulli avevamo riuscito a portarlo a 103 a 107 sono stati immediatamente frustrati dal fatto che poi abbiamo perso le elezioni e gli altri hanno ripensato bene di portare le cose come stavano prima anche se le risorse sono scarse tuttavia esse potrebbero essere utilizzate meglio di quanto venga fatto la prima difficoltà è rappresentata guardando il bilancio pubblico dalle cosiddette clausole di salvaguardia che in esso sono inserite e che rappresentano debiti da smaltive se non si vogliono aumentare in modo divompente le imposte e si tratta di una priorità che tuttavia evidenzia come le risorse disponibili per il bilancio espansive sono e rimarranno per alcuni anni molto limitate per esempio nella legge di stabilità in discussione una volta eliminata opportunamente una clausa di salvaguardia per 17 miliardi circa su quasi 19 che gli altri due sono assorbiti in altro modo il quadro che emerge è il seguente le spese sono previste per l'anno prossimo in aumento per 4,9 miliardi cioè aumenta la spesa pubblica di 4,9 miliardi al tempo stesso le spese vengono ridotte grazie al spending review per 8,4 miliardi con un saldo in riduzione di 3,5 miliardi le entrate si riducono di 7 miliardi sono quelli di cui si è parlato IMU e quant'altro TASI in buona misura compensati da un incremento di 3,7 miliardi cioè ci sono si ridurre le tasse da una parte altre tasse aumentano le entrate fiscali con un saldo negativo questa volta di 3,3 miliardi quindi in conclusione la manovra netta fatti questi banali calcoli la manovra netta una volta pagata la clausola a Salloguardia consiste in una riduzione di entrate di 3,3 miliardi compensata da un taglio di spesa pubblica di 3,5 miliardi si tratta di circa lo 0,2% del PIL quindi gli effetti sull'economia insomma sono facilmente prevedibili si possono ritenere inesistenti e sicuramente non espansivi cioè quando io dico non mentite al paese oltre un certo limite mi riferisco a questo insomma cioè perché ora erano possibili alternativi la risposta è positiva invece di utilizzare i margini di flessibilità europea e risparmi derivanti dalla riduzione di spese per interesse e altre risorse disponibili per finanziare riduzione di imposte e contributi permanenti o transitori che abbiamo dato molti incentivi lì l'elenco si può fare ci sono degli 80 euro tagli gli incentivi per le assunzioni però sono stati anche tagli di imposte che in teoria andavano pure nella direzione giusta però questi sono stati coperti come si dice la flessibilità europea e questi risparmi che sono stati fatti invece di usarli in questo modo si dovrebbe prendere atto di un fatto ovvio evidente che un intervento di riduzione delle imposte in un paese come l'Italia è possibile solo nel contesto di un recupero di evasione fiscale noi non siamo in grado di abbassare la pressione fiscale in questo paese ma siamo in grado di redistribuirla in modo massiccio se si vuole e questo si può fare in tempi ragionevolmente brevi qui io richiamo le proposte che come Nenza abbiamo fatto un anno fa e che indiano la possibilità di interventi non dirompenti nessuna persecuzione nessuno stato di pulizia nessun blitz ma interventi normativi o organizzativi che sono in grado di farci recuperare più di 60 miliardi in tre anni se dato che alcuni di questi sono interventi richiederebbero una autorizzazione europea lì ci possono essere problemi limitiamoci a quelli che non la richiedono in questo caso i miliardi scendono a 40 45 e quindi non è poca cosa potremmo ridurre le tasse 40 45 miliardi a partire dall'IRPF eccetera ora qui la cosa interessante è che c'era stata da parte di Venzi un'apertura nell'ultima assemblea prima dell'inizio della discussione della legge stabilita nell'assemblea dei gruppi poi si è deciso di non fare nulla gli ammendamenti sono stati presentati al senato il governo è molto apprezzato dice ne parliamo alla camera alla camera ovviamente sono spariti e dice però poi vedremo più avanti se fare un intervento correttivo di alcuni decreti legislativi approvati l'anno scorso beh è chiaro che qui c'è un problema politico no perché in Italia l'evasione di massa sono nove punti di pille almeno e riguarda milioni di contribuenti e quindi parecchi milioni di elettori questo è un problema con cui bisogna fare i conti solo anche i conti si possono fare in modo diverso o evitando di disturbare questi otto milioni oppure mobilitando gli altri dicendo ma ridistribuiamo un po' meglio l'onore fiscale è tutta una questione di scelta ma se il mio obiettivo è quello di prendere voti nelle prossime elezioni comunali e allora diventa comprensibile detassare la prima casa e non occuparsi di avversione fiscale e quant'altro solo che così si va a fondo insieme al paese dopo a parte questa questione delle tasse e quindi meno tasse con meno evasione dopodiché i margini di flessibilità europea dovranno essere utilizzati per smaltire le clausi di salvaguardia mentre le risorse rese disponibili in questo modo quindi non sterilizzate a ridurre le tasse che lì trovo un altro strumento che valgono almeno un punto di pilla dovranno essere indiversate a un aumento degli investimenti pubblici che sono il vero problema in questo paese e che hanno un effetto moltiplicativo elevato cioè se io spendo 100 euro di investimenti pubblici il reddito cresce di 150 di 200 o addirittura di 300 euro mentre questo in base ai moltiplicatori stimati dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca d'Italia se riduco le tasse di 100 l'effetto positivo sull'economia si riduce a 80 quindi c'è un abisso tra la linea che andrà seguita e quella che viene seguita e i settori di intervento sono molteplici per esempio si va dalla ristrutturazione degli edifici pubblici per il risparmio energetico se vogliamo stare nei limiti di riduzione delle emissioni questo dovrebbe essere un argomento importante e questa è una misura che in gran parte si può autofinanziare si possono utilizzare fondi europei e solo in parte sono necessari fondi pubblici questa proposta io l'ho fatta al governo a Renzi ad altri un po' meno di due anni fa e non ha suscitato particolari interessi poi c'è tutto il campo della tutela del territorio del risanamento o delle periferie urbane della banda larga eccetera questi sono investimenti che creano più reddito si autofinanziano che creano reddito sono fra i pochi investimenti e su questo si può fondare una strategia di ripresa nei limiti delle ristrettezze finanziarie che abbiamo così quello stesso vale per la banda larga e altre questioni non è difficile vedere le carenze in questo paese vanno poi affrontate o con decisione i nodi di fondo che ostacolano la crescita in Italia il problema della legalità come ho detto che è un'emergenza sottovalutata la modifica di intere branche del diritto dell'economia diritto societario fallimentare processuale amministrativo del risparmio della concorrenza e questo andrebbe fatto con una logica unitaria bisogna cercare di aumentare la dimensione delle imprese per aumentare la produttività del sistema e qui anche qui è chiaro che lo sviluppo del futuro non è fatto anche di molte imprese di dimensioni limitate o medie ma non di micro imprese o pseudo imprese come noi abbiamo quella roba lì non ci porta a nessuna parte non confondiamo un'impresa vera con un'impresa apparente dovremmo eliminare le pratiche restrittive della concorrenza che sono molto presenti soprattutto a livello regionale e locale ridurre l'evasione fiscale redistribuire i redditi e carichi fiscali soprattutto l'IRPEF e introdurre ipotesi di reddito minimo soprattutto come tutela della disoccupazione rendere operativi i servizi del lavoro eccetera 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 cioè le cose da fare sono chiare si tratta di compiti difficili ma una sinistra di governo come voi volete essere non può pensare di risolvere i problemi del paese senza affrontare le radici le ragioni del nostro declino perché il declino c'è ed è evidente e deve soprattutto riuscire a formare una classe dirigente competente onesta colta consapevole e capace di agire e disinteressata ora questo è quello che va fatto vi auguro riuscire a farlo penso che le possibilità esistano insomma comunque questo è quello che è il compito che abbiamo davanti ringrazio grazie 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 davvero a Vincenzo Visco per questo preziosissimo contributo ora vorremmo chiedervi di lanciare un messaggio di ricambio generazionale nel senso che sarebbe bello se almeno qualcuno dei più giovani potesse lasciare un po' di posto per le persone che sono venute da più lontano io prima fuori ho incontrato qualcuno che è arrivato dalla campagna addirittura e magari fare un po' di ricambio rispetto a chi è fuori fuori si sente tutto e c'è anche il vent brulee quindi state tranquilli vi ringrazio poi una comunicazione di servizio se qualcuno come me ha bidonato delle feste di compleanno anche quella di mia nipote per venire qui e stare insieme in questa importante giornata se qualcuno si angoscia per il natale noi vendiamo qui fuori ad un banchetto il gioco che è possibile a prodotto che si chiama green city lo trovate qui fuori a 10 euro ed è un'ottima occasione per fare un regalo intelligente perché è una specie di gioco dell'oca però verde cioè un gioco dell'oca verde che in cui si va avanti si sviluppi delle buone pratiche e invece si arretra se inciampi nei soliti errori è un po' eventualmente a comprarlo è anche un modo di sostenerci ovviamente ed è particolarmente rilevante perché ci fa giocare insieme io intanto divago così facciamo un po' di posto ci fa giocare insieme ai ragazzi e ai bambini per sensibilizzarli all'importanza fondamentale della sostenibilità e lo dico a un giorno dalla chiusura della conferenza di Parigi COP21 che ahimè parleremo anche di questo negli interventi a seguire ha avuto un esito per me piuttosto deludente però sentiremo poi parlare anche di questo adesso c'è il video di Michele Raitano che fa parte del comitato scientifico di Possibile e che ci ha dato una mano a sviluppare appunto proprio eravamo su questo tema la nostra alternativa alla legge di stabilità la legge di possibilità fatelo pure partire buongiorno a tutte e tutti buona domenica a tutti mi dispiace non essere qui con voi però non riuscivo dovrò lasciarvi un messaggio via Skype prossima volta spero di essere presente di persone in modo da poter anche interagire come sfrutto questi 5 minuti a disposizione in questo video vi parlo di pensioni voi direte oddio ancora di pensioni le pensioni erano state affrontate la prima riforma per sempre del sistema pensionistico in Italia l'hanno fatta più di 20 anni fa Condini 5 anni fa abbiamo avuto 4 anni fa abbiamo avuto la riforma Fornero ancora parlare di pensioni ma perché bisogna continuare a parlare di pensioni sostanzialmente qual è il problema cosa ha lasciato risolto o soprattutto di aggravato la riforma del 2011 due principali limiti che non sono stati affrontati il primo il limite che non è stato affrontato e su cui vorrò dedicare poi qualche parola in più dopo è il fatto che abbiamo un sistema che non garantisce più in nessun modo nessun tipo di pensione minima alle persone che dovessero avere bassi redditi bassi prospettive durante la vita lavorativa è un qualcosa che al momento ancora non si percepisce ma già ci sono le prime evidenze che potrebbe diventare una bomba a cui bisognerebbe provare a dare risposta oggi il secondo problema è un problema che invece è stato creato dalla riforma delle pensioni del 2011 ovvero aver creato innalzato improvvisamente ed enormemente l'età pensionabile per tutti e questo ha creato come sapete i problemi degli esodati non ancora risolti per tutti ma soprattutto aver ingessato il sistema economico fissando un'età pensionabile uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dalle loro caratteristiche in questo quadro che succede negli ultimi mesi negli ultimi tempi al di là delle varie risposte delle varie proposte è entrato in campo l'Inps con il presidente Boeri con Tito Boeri che ha proposto un'ulteriore riforma del sistema pensionistico che al di là di alcune cose sicuramente meritorie rispetto ai problemi del welfare italiano come prevedere alcune forme di flessibilità dell'età prevedere una forma di rendito minimo ma soltanto per il 55 anni quindi rendendo ancora più ancora meno chiaro il quadro delle misure ha proposto l'idea di tagliare le pensioni in pagamento sopra una certa soglia seguendo l'idea che tutte le pensioni dovrebbero essere ricalcolate col sistema contributivo perché questo sarebbe l'unico sistema giusto e quindi andiamo un pochino adesso in questi pochi minuti a disposizione ragioniamo un pochino su questi aspetti primo problema che è stato fatto col sistema noi sappiamo che un sistema di welfare il sistema pensionistico il cardine di un sistema di welfare nasce per tutelare individui contro una serie di rischi per loro natura gli individui e l'esposizione di rischi agli individui è fortemente eterogenea c'è chi ha migliori prospettive lavorativa chi fa dei lavori più usuranti chi ha meno abilità e quindi rischia di andare in disoccupazione chi ha problemi di carichi familiari anche per questi motivi quasi tutti i sistemi pensionistici al di là dell'altezza dell'età pensionabile prevedono forme di pensionamento anticipato con o senza incentivi disincentivi e via discorrendo in Italia abbiamo fissato siamo stati più realisti del re abbiamo all'improvviso alzato l'età pensionabile e cancellato qualsiasi forma di flessibilità è un problema lo dicono tutti ormai l'ha detto anche lo stesso IMS con Boeri non si lavora sulla flessibilità nonostante guardate questo è un punto importantissimo recuperare delle forme di flessibilità sarebbe sicuramente più equo per i lavoratori in primis per i lavoratori che non possono continuare a lavorare perché magari rischiano disoccupazione e quindi rischiano di passare lunghi anni della loro vita senza pensione e lavoro oppure hanno una gravosità del loro lavoro ma anche soprattutto rischiano di recuperare efficienza per il sistema produttivo per il mondo produttivo un aspetto che è stato nascosto si è provato a reintrodurre nel dibattito subito ci si è fermati perché chiaramente flessibilità dell'età vuol dire impatto sul bilancio oggi a fronte di minori spese per il futuro quindi nel lungo periodo non ha nessun effetto sappiamo bene come il vincolo di bilancio per il nostro governo siano stringenti quando si vuole che siano stringenti assolutamente laschi quando si vuole che siano laschi però è qualcosa al quale bisognerebbe dare risposta al contrario però invece c'è un problema che diventa ancora più pressante che diventa quello del futuro perché velocemente stiamo andando in un mondo in cui le pensioni dipenderanno integralmente dal sistema contributivo ovvero si prenderà come pensione esattamente quello che si è contribuito dai giovani guardate da questo punto di vista c'è una retorica fortissima che tende a considerare questo sistema come un sistema equo implicitamente l'ha detto Poletti qualche giorno fa quando ha detto l'unico modo per avere pensioni è versare i contributi la logica è che un sistema pensionistico si deve basare unicamente su quanto è versato dei contributi attraverso delle logiche delle caratteristiche meritorie del sistema italiano che ha delle caratteristiche sicuramente valide dal punto di vista dell'equità attuariale il modo in cui considerare se vado in pensione prima o dopo rispetto alle prestazioni però il punto essenziale che vi voglio far notare è che nel momento in cui io applico una regola attuariale ovvero quanto ho messo da parte durante la vita attiva mi deve ritornare indietro come forma di pensione è una regola che è sicuramente neutrale ha i suoi pregi ha delle caratteristiche sicuramente da alcuni punti di vista nettamente migliori del precedente sistema ma parlare di neutralità non vuol dire in nessun modo parlare di un qualunque concetto di giustizia sociale di equità distributiva noi stiamo rischiando di confondere continuamente e da questo punto di vista le stesse proposte che ha fatto il Presidente Boeri di ricalcolare le pensioni col contributivo peccano di questo difetto da questo punto di vista di considerare congiuntamente i meccanismi di neutralità come fossero dei meccanismi giusti quello che è verso nel mercato del lavoro non può essere necessariamente una base di una giusta pensione perché per ragionare è un partito di sinistra o comunque un movimento che provi a ragionare su questi aspetti di giustizia sociale si deve andare a chiedere quello che accade nel mercato del lavoro se ho due persone che fanno esattamente lo stesso lavoro ma per vari motivi una riesce a fare 11 mesi all'anno anziché 13 spesso con periodi di part time involontario pagato di meno è giusto che il sistema pensionistico cristallizzerà queste differenze anche nel futuro a mio modo di vedere questo tipo di neutralità non è anche equa dal punto di vista sociale è uno schema deve essere neutrale come architravia ma poi dobbiamo seguire degli obiettivi di giustizia sociale che andrebbero rispettati secondo aspetto un po' più tecnico però spero di darvi un'intuizione il sistema futuro calcolerà le pensioni sulla base dell'aspettativa di vita media che ci si attenderà di vivere al momento del pensionamento il sistema è neutrale per l'individuo medio che vive come la media degli italiani il sistema sarà neutrale ma questo non è giusto perché intorno a quella vita media avremo una enorme eterogeneità dell'aspettativa di vita della vita effettiva delle persone il problema qual è? è che chi vive più a lungo tutti gli indicatori ce lo mostrano sono le persone che hanno redditi più alti fanno migliori lavori che non sono costretti ad aumentare forzosamente la loro età pensionabile che subiscono minori situazioni di stress e via discorrendo quindi da questo punto di vista se si parla e si deve parlare da questo punto di vista di intervenire nuovamente sul sistema pensionistico bisogna intervenire nei punti giusti del sistema pensionistico non ricalcolare le pensioni in pagamento seguendo una logica per cui l'unico modo possibile per calcolare le pensioni sia quello contributivo che esiste in tre paesi e l'Unione Europea su 28 quindi evidentemente non vuol dire che è un sistema che necessariamente si deve avere questo sistema con queste caratteristiche ma bisogna pensare al fatto che quello che sta succedendo e in realtà succede da vent'anni nel mercato del lavoro italiano per le giovani generazioni ormai non più giovani ma non solo non è equo quindi se abbiamo semplicemente un sistema che cristallizza queste differenze vorrei dire avere un sistema che continuerà a cristallizzare iniquità e inefficienza nel mercato del lavoro di lungo periodo quindi qual è la mia idea da questo punto di vista di cui spero di poter parlare con voi in futuro in un ambiente più con una maggiore interazione mantenere all'interno del sistema pensionistico sicuramente lo schema contributivo che permette di creare dei meccanismi incentivanti corretti che vanno sicuramente mantenuti ma da lì muoversi per creare delle forme di redistribuzione trasparente verso tutte le persone che per loro non per loro colpa ma per loro sfortuna sono state svantaggiate nel mercato del lavoro per vari motivi e da questo punto di vista io da anni ho lavorato su proposte di integrazioni al minimo per cui la politica che decide qual è il livello socialmente accettabile di reddito che dovrebbe avere una persona ad esempio dopo 40 anni di attività e si integrano queste differenze guardate che la Svezia che ha un sistema come quello italiano a cui ci si dice che si dovrebbe ispirare il sistema italiano per alcuni limiti del suo sistema in realtà in Svezia esiste il sistema contributivo ma ci sono nonostante questo delle forme di redistribuzione molto forte e quindi nuovamente una politica un movimento che si ispira a criteri di giustizia sociale deve dare la sua idea del mondo sulla giustizia sociale e intervenire mandando questo tipo di messaggi e questo tipo di segnali che tra l'altro misure di questo tipo non avrebbero nessun impatto sul bilancio pubblico di oggi ma sarebbero finalmente un segnale forte di interventi di politica che vadano a pensare anche alle giovani generazioni non unicamente a meritori però probabilmente parziali interventi rispetto a chi è vicino alla pensione e chi è andato da poco in pensione mi auguro che da questo punto di vista si riesca ad aprire un dibattito serio mi auguro che l'iniziativa di oggi di Verona sia uno dei primi momenti per cui partire per questo intervento non vi tedio oltre perché ascoltare un intervento via Skype penso che sia sempre molto noioso vi saluto caldamente e ci sentiremo e vedremo presto ora abbiamo l'intervento dal vivo è un momento anche eroticamente interessante di Peppe Allegri di cui io sono un fan pericoloso che si occupa di un tema di cui tutti straparlano che è il reddito minimo ma che ha un'ambizione più grande questa mattina di raccontarci come può cambiare il welfare e come può cambiare la società scoprendo forse alla fine che la società è già cambiata e che le riforme del welfare arrancano dietro di lei professore se ho sbagliato qualcosa perché ci rimango molto male sono anche in un banchino e fuori fa un po' freddo tra l'altro scusami siamo in una classe siamo in una classe ma fa bene studiare poi faremo dei libri di testo delle cose così degli esercizi invece siccome vedo dei posti vuoti non eccediamo dall'altra parte c'è spazio lo dico per chi sta seguendo qui fuori col Vimbrulè che ha già iniziato a creare delle vittime a cominciare da me possono venire qui dentro diciamo alla spicciolata e dare un ricambio che mi sembra egualitario visto che siamo ossessionati da questo tema va bene grazie dell'invito allora io Pippo ti chiederei di darmi il tempo perché tendo a perdermi allora quando mi sta per finire il tempo mi avverti così faccio la chiusura allora dunque a me ovviamente sono felicissimo di stare qui perché la cosa di possibile che mi piace di più è e da questo vorrei partire pensare è possibile ancora prima che come uno spazio diciamo di movimento politico anche e soprattutto di movimento culturale ok allora la no l'idea l'idea di guardare qua a vent'anni insomma no e 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 molto più ampio dell'ipotetico spazio politico ma questa magari è forse essere troppo ottimista ma 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 neanche troppo allora la mia idea sarebbe di eh ci avrei una quindicina di punti spero di dirli tutti mh forse sono troppi vorrei utilizzare una formula di del grande andrei corzo no che era uno dei primi studiosi della crisi della società salariale il quale è scritto un libro fantastico che mi mi meraviglio che Pippo non abbia mai citato perché il titolo era misere del presente e ricchezze del possibile eh allora io partirei dalle miserie del presente e del passato però vorrei vorrei dare la prospettiva invece del possibile delle ricchezze del possibile futuro e di questo possibile allora e la mia e l'avrei voluta così titolare la libera repubblica europea delle città welfare universale e libere attività indipendenti riprendendo alcune cose che comunque ha già detto sia l'ottimo Luigi Corvo sia Stefano Feltri in quell'intervento molto breve però per certi versi molto condivisibile proprio perché secondo me lo spazio della città e lo spazio dell'Europa dentro l'idea di trasformazione del paese sono i due spazi politici delle possibilità delle possibilità e del possibile evidentemente parto dalle miserie del presente la faccio breve per evitare le passioni tristi che molto accompagnano la sinistra da variati decenni però non posso non ricordare la retratezza del welfare italiano rispetto al contesto europeo diciamo in questi giorni ricorre poco più che il settantennale del famoso rapporto Beveridge quello che introdusse il sistema di welfare universale in Gran Bretagna una delle battute che facciamo spesso quando arriverà Beveridge a Roma questa domanda in realtà se la posero quasi i costituenti nel 1947 stesso ci fu una prima commissione che era la commissione d'Aragona del 1947 che cercò di introdurre in Italia un sistema di welfare universalistico e che fallì il 1947 50 anni dopo proprio dopo Prodi ci fu la commissione Onofri che forse qualcuno di voi ricorderà che insistette sul fatto 50 anni dopo la commissione d'Aragona della mancanza in Italia di una struttura di welfare universale a partire dal reddito minimo garantito dicendo vera grande anomalia della situazione italiana rispetto a tutto il contesto europeo qui c'era la spinta prodiana del dire portiamo le garanzie europee dell'Europa del modello sociale ovviamente non dell'Europa del neoliberismo portiamo le garanzie del modello sociale europeo in Europa il problema qual è stato è che invece gli anni 90 tanto perché qui ho visto che si promuovono libri anche con Roberto Ciccarelli abbiamo scritto qualche anno fa un libretto che si intitolava La furia dei cervelli e parliamo degli anni 90 come la decada malefica perché purtroppo gli anni 90 nonostante la spinta di visione che aveva Prodi però ci importarono che cosa in realtà la riforma IMS gestione separata di Dini e company il pacchetto tra EU 96 97 insomma tutto quel meccanismo che in realtà adesso poi è diventato regime sistema ok ecco sempre per fare le pubblicità con Roberto abbiamo scritto un altro libro che è il titolo Il Quinto Stato in cui proviamo a nominare come la crisi della classe media e delle classi operose ha in realtà istituzionalizzato una condizione di vita fuori dalla cittadinanza sociale questo Quinto Stato che non è né più terzo né più quarto ecco l'origine di tutti quei danni purtroppo sono nell'incapacità degli anni 90 di leggere quelle trasformazioni che già si realizzavano sia dal punto di vista di innovazione tecnologica sia dal punto di vista dei sistemi di welfare e di garanzie universali e che invece in Italia non attecchidono tanto che è roba di questi giorni la questione delle pensioni di cui parlava Reitano ma non solo il nuovo proletariato è quello delle partite IVA la forme di precarizzazione che in realtà sono entrate anche laddove il lavoro subordiano tradizionale era più garantito insomma tutte le riforme del pacchetto intorno al Jobs Act allora togliendo questo aspetto depressivo che forse l'ho fatto anche troppo lungo e incubisce noi siamo abbastanza convinti invece che dentro queste trasformazioni degli anni 90 e degli ultimi 20 anni ci sia invece la possibilità e questa è la possibilità concreta invece di affermare una nuova idea di società e i soggetti del quinto stato fuori dalla cittadinanza sociale esistente insomma quella formula siamo tutti diventati siamo tutti diventando freelance Robert Reich il ministro del lavoro di Clinton ha scritto un bellissimo saggio dicendo siamo tutti lavoratori a contratto e indipendenti senza però nessuna garanzia allora come è possibile pensare il reddito il salario la distribuzione delle ricchezze il benessere al di là della cittadinanza del lavoro tradizionale la domanda che si faceva anche all'ensupio sempre negli anni 90 di pensare una nuova cittadinanza sociale al di là dell'impiego in realtà al di là del lavoro tradizionale che è anche una cosa che sta dentro una cosa che forse oggi è circolata molto poco dentro la tradizione del movimento femminista di riconoscere il lavoro al di là dell'impiego tradizionale che è sempre pensato per il maschio padre di famiglia assunto a tempo indeterminato e via dicendo allora questa rivoluzione qui questo spazio di visione di una nuova società deve stare può stare in realtà dentro le trasformazioni attuali questo sarebbe secondo me lo sforzo che dobbiamo provare a fare per pensare 1995 2015 2035 il buon Luigi Corvo parlava di innovazione sociale di economia collaborativa ecco lo spazio è questo qui dentro le trasformazioni del capitalismo nella sua epoca del web 3.0 dell'industria 4.0 come vogliamo chiamarle i movimenti che cercano di auto-organizzarsi dentro quelle dinamiche pensando nuove forme di mutualismo nuova forma di cooperazione sociale cioè affrancandosi dall'ideologia liberale che vuole tutti imprenditori di se stessi tutti rinchiusi nel loro individualismo è questo è lo spazio che però si dà immediatamente si dà dentro le cose che accadono dentro la possibilità di pensare appunto dentro le miserie del presente le ricchezze possibili che però stanno qui allora Uber e company come è possibile pensare la tutela delle attività indipendenti sganciandole dal welfare paternalistico caritatevole quello che noi conosciamo purtroppo molto bene è molto iniquo profondamente ingiusto diciamo allora da una parte ci sono grandi movimenti di lavoratori autonomi freelance e vi dicendo che si stanno organizzando sapete che uno dei collegati della finanziaria è anche la carta del lavoro autonomo ecco c'è una riscrittura dal basso di cose che anche tentò Treu ma non ci riuscì fino in fondo di una nuova carta dei lavori una nuova carta del lavoro indipendente e autonomo che in realtà diventerebbe la carta della tutela delle attività indipendenti del lavoro utilizzava il buon Massimo D'Antona in questo caso sarebbe da recuperare quella grande tradizione che sta dentro quindi anche una tradizione progressiva della sinistra di pensare il lavoro senza aggettivi il lavoro senza aggettivi evidentemente i tre corni sarebbero di nuovo riproporre a spese invariate perché il costo del welfare italiano è il costo del welfare tedesco che prevede questi strumenti il reddito minimo garantito il reddito di base il sostegno universale di disoccupazione che sappiamo che in Italia non esiste non è mai esistito perché in realtà il disoccupato è colui che cerca lavoro non colui che lo ha perso e dentro le trasformazioni dell'economia capitalistica della sharing economy o come vogliamo chiamarle in realtà siamo tutti lavoratori tendenzialmente disoccupati o poco occupati l'altro aspetto sarebbe quello del cosiddetto equocompenso o il salario minimo sociale una formula che ha utilizzato anche Juncker prima di essere presidente della commissione era presidente dell'Eurogruppo quando abbandonò la presidenza dell'Eurogruppo alla fine del 2012 fece una conferenza stampa in modo molto furbo qui Pippo prima ha utilizzato un'altra parola che forse sarebbe adatta a definirlo perché disse qui se non prevediamo una forma di tutela universale a livello europeo citando Marx addirittura ci perdiamo il consenso della classe operaia perché serve un sussidio universale di disoccupazione per legare solidarietà continentale con una nuova idea di cittadinanza sociale continentale quindi lo stesso Juncker lo cita lui Marx non possiamo pensare di citarlo noi e di recuperarlo perché questo perché in realtà l'idea di un welfare universale e qui mi convince molto la questione sulla lotta alla povertà sì da una parte è la lotta alla povertà ovviamente ma soprattutto il welfare universale è la tutela dell'indipendenza della persona l'investimento che le istituzioni fanno nei confronti della libertà dell'individuo della libertà di scelta di dire no ai ricatti di stare fuori della precarietà insomma in Inghilterra grazie ma in Inghilterra per fare una battuta forse che non troverà molti consensi ma insomma la faccio lo stesso in Inghilterra il welfare universale inglese ha finanziato la formazione dei clash cioè il più grande gruppo punk rock ha sempre raccontato che i soldi attraverso i quali sono riusciti a comprare i primi strumenti i primi amplificatori è stato con il DOL cioè con il Sussidio Universale di Disoccupazione e con il Support Income che è il Sussidio di Sostegno al Reddito diciamo e allora capiamo bene insomma che dirò di più negli anni 90 Blair voleva riformare il sistema delle garanzie sociali l'unica opposizione che incontrò fu quella del movimento delle industrie dell'industria dello spettacolo la stessa cosa è successo un paio di anni fa con Cameron l'opposizione che trovò fu quella delle etichette indipendenti che dissero qui se togliete questa cosa se togliete quindi un welfare universale togliete la ricchezza la disponibilità ai ragazzi di investire su quella che è una delle industrie deportanti dell'Inghilterra dagli anni 50 e 60 diciamo cioè l'industria discografica l'industria musicale che poi è diventata quella dell'hip hop quella della musica elettronica e via dicendo allora e qui ma vi a chiudere con la visione no anche perché diciamo questo sono nuove tecnologie può apparire no rischiamo di fare in sedicesimi Renzi Riccardo Luna al Digital Champions no a me per fare un cortocircuito temporale di nuovo mi viene sempre in mente un testo che probabilmente conoscerete bene anche voi ovviamente insomma il testo di Keynes del 31 no le proposte economiche per i nostri nipoti il buon Keynes nel 31 prevedeva quindi faceva un discorso a 100 anni accadrà a 100 anni questa cosa ma incomincerà ad accadere da subito e parlava di disoccupazione tecnologica di tempo liberato dal lavoro di possibilità di lavorare 3 ore a settimana 15 3 ore al giorno 3 ore a settimana sarebbe un po' troppo 15 ore a settimana e avere lo stesso la possibilità di distribuire le ricchezze diceva bisogna eliminare alcune antiche superstizioni che ci fanno pensare ancora al lavoro come la maledizione di Adamo la maledizione biblica e questa cosa qui dobbiamo provare a recuperare la capacità visionaria immaginifica di proiettarci in un futuro che però è già presente e che il buon il buon Keynes ci diceva che sarebbe poi diventata regola e nuova forma di vita nel nel 2030 quindi proprio nel tempo nel lasto di tempo che noi vorremmo investire dal 2015 al 2035 e qui diciamo spostandoci da Marx e andando dopo Marx mi verrebbe da citare invece così non cito un libro di quelli a fare autopromozione no? ma un libro che invece verrà tradotto da poco a gennaio-febbraio in italiano che è già uscito in Inghilterra che è un libro di Paul Mason che non a caso è titolato post-capitalism perché cerca di recuperare il frammento sulle macchine di Marx quello sul general intellect e Keynes ovviamente degli anni 30 e le cosiddette tendenze accelerazionistiche dentro il capitalismo digitale e così invece di citare me stesso vorrei andare a chiudere citando un passaggio di questo libro di Mason che uscirà per il saggiatore così faccio pubblicità a un'altra casa di Trish lui dice i sostenitori del post-capitalismo dovranno concentrarsi sulla costruzione di alternative all'interno del sistema perché non possiamo immaginare una vita ideale costruita intorno all'abbondanza di informazioni al lavoro non gerarchico e alla separazione tra lavoro e salario milioni di persone cominciano a rendersi conto che gli è stato venduto un sogno che in contrasta con la realtà la loro risposta e questo parla proprio oggi è la rabbia e la ritirata verso forme nazionali di capitalismo che porteranno fatalmente alla disgregazione del mondo forme nazionali di capitalismo ha a che fare col dramma del sovranismo ovviamente del front nazionale di quella cosa orribile che è Orban in Ungheria di tutte le passioni più triste possibili dell'esclusione della cittadinanza della maggior parte delle persone che si muovono per una vita degna e chiude dicendo così non bastano i sogni o qualche progetto orizzontale quindi né visione messianica né semplice auto-organizzazione dei movimenti dal basso che poi non riescono a dare continuità agli spazi che attraversano serve invece un progetto fondato sulla ragione e su elementi concreti e verificabili capace di invertire il corso della storia e di essere sostenibile per il pianeta ed è nostro precipuo compito e dovere quello di portarlo avanti e questo dovrebbe servire possibile convinto che gli spazi di sperimentazioni però non siano più rinviabili e allora approfittare anche magari delle campagne elettorali primaverili per esempio quelle per i comuni insomma dare l'idea che è possibile tenere insieme città e Europa non bypassando il livello nazionale il livello statuale tutt'altro ma pensando che proprio l'idea di un nuovo diritto alla città è l'idea di una solidarietà paneuropea solidarietà continentale sia dentro le dinamiche attuali che possiamo attraversare in Italia e nel resto d'Europa grazie peppe allegri ci dice delle cose che riprenderemo nelle conclusioni perché colgono il senso anche di quello che stiamo cercando di fare molti ci chiedono si interrogano ma possibile con chi si allea con quali altre sigle quali altre etichette francamente francamente non con il partito della nazione come primo dato vedo ancora molti equivoci su tentativi di arancioni di inserire un po' di sinistra dentro sala che è fantastico cioè se ci pensate è un esperimento tipo Frankenstein però motivato curiosamente dagli stessi che fanno che hanno posizioni di potere anche questo è un po' curioso dicevo non ci alleiamo con sigle etichette non ci interessa vogliamo progettare insieme delle cose e ascoltare persone che non sono di possibile non ci sono cerchi concentrici di adesione è un'apertura di senso di cui qualcuno si deve occupare razionale però capace anche di mettere in gioco delle cose che non ci sono nel dibattito politico attuale perché fare le cose nello stesso modo ci porterebbe alle stesse conclusioni io darei la parola a Gianfranco Viesti che è un professore universitario che seguiamo da tempo che è collegato in video e si prepari a intervenire un uomo fantastico come Vito Gulli che spero ci sia perché sarebbe ancora più fantastico se c'è davvero è lì Gianfranco Viesti Buongiorno a tutti mi spiace non essere lì con voi vi auguro il miglior lavoro purtroppo mi è stato impossibile arrivare da voi oggi e volevo comunque lasciare una brevissima testimonianza sulla questione meridionale e il problema delle differenze all'interno del paese fra i suoi territori normalmente si pensa che sia un tema estremamente noioso molto tecnico si parla di fondi europei di master plan di questioni molto dettagliate che non prendono il cuore soprattutto sembrano delle grandi questioni tecniche amministrative e non sono delle questioni politiche che invece sono delle questioni politiche di primissima rilevanza perché attengono a quello che sarà l'Italia nei prossimi anni nei prossimi lustri a lungo il tema è duplice da un lato dare a tutti gli italiani dei diritti di cittadinanza che siano simili e quindi nel rispetto della Costituzione garantire a tutti ai più giovani in primo luogo diritti più simili possibili quelli che ci possiamo permettere quelli che riusciamo a garantire e l'altro lato è quello di usare tutte le forze del paese le persone soprattutto di tutto il paese per riprendere un percorso di crescita economica di sviluppo e di maggiore benessere per tutti quanti quello che è successo negli ultimi anni è stata una grande marcia indietro di tutto il paese in questa marcia indietro soprattutto il sud è andato ancora più indietro questo non cade dal cielo dipende dal fatto che la crisi è stata soprattutto una crisi di domanda interna ma soprattutto dipende dal fatto che l'austerity le politiche di austerità l'aumento della pressione fiscale Italia la spesa sono stati forti in tutta Italia ma sono stati ancora più forti nel mezzogiorno quindi questa divaricazione tra le parti del paese che si è vista negli ultimi anni rischia di aumentare perché è cambiato il modo con cui l'Italia sta nel mondo e il modo con cui l'Italia è vera governata e questo normalmente porta alla richiesta di politiche speciali di interventi straordinari e invece attiene a tre grandi politiche che riguardano tutto il paese la prima politica è quella appunto dei diritti di cittadinanza significa sanità significa assistenza quindi lotta alla povertà significa sicurezza significa istruzione la domanda è questa dobbiamo rassegnarci ad avere dei diritti di cittadinanza minori più mercato chi se li può permettere se li prende gli altri si arrangiano o dobbiamo cercare di disegnare dei servizi migliori che costino anche meno questo è interessantissimo soprattutto nel mezzogiorno dove i servizi sono di meno e mediamente meno efficienti e quindi ha a che fare con una cosa esaltante che è il ridisegno delle grandi politiche pubbliche più moderne più adatte ai nostri tempi per i prossimi anni un tema che mi sta molto a cuore ad esempio è quello dell'istruzione universitaria che è un fondamentale ascensore sociale per i ragazzi che si è molto ridotto negli ultimi anni abbiamo fatto un grande disinvestimento come paese sull'università noi abbiamo pubblicato tre giorni fa un rapporto dettagliato che è disponibile su internet che racconta tutte queste cose ma che essendo un grande disinvestimento del paese colpisce soprattutto i giovani delle regioni più deboli che hanno molte meno possibilità in termini di diritto allo studio e di occasioni di apprendimento che ci sono quindi come ridisegniamo la scuola l'università gli ospedali del nostro paese questa è la traduzione politica di che cosa significa oggi la questione del mezzogiorno e delle disparità l'altro grande tema è quello delle condizioni ambientali e cioè delle infrastrutture della difesa del suolo dell'ambiente che ci sono in tutte le parti del paese anche qui l'austerità ci ha portato un crollo degli investimenti pubblici gli investimenti pubblici vanno rilanciati vanno fatti senza corruzione vanno fatti molto più velocemente vanno fatti utilizzando le risorse che ci sono anche questo sembra un tema tecnico ha molti aspetti tecnici ma è un grande tema politico quali interventi facciamo un esempio un intervento assolutamente prioritario è quello dei servizi di trasporto nelle città e per i pendolari più che fare grandi opere forse serve concentrare le risorse che ci sono nel garantire a tutte le persone di potersi spostare in modo civile in modo europeo a costi ragionevoli infine la crescita economica il paese non cresce se non cresce tutto quanto ma la crescita non viene solo dal mercato non cade solo dal cielo viene anche dal fatto che il paese faccia per esempio una buona politica industriale come quella che fa la Germania come quella che fanno gli altri paesi europei di politica industriale non si parla più c'è un eccesso di fiducia nel mercato anche qui io credo la sinistra non deve guardarsi indietro meglio deve guardare sempre indietro per apprendere le lezioni della storia ma deve guardare soprattutto avanti cos'è la politica industriale nel ventunesimo secolo come si promuove l'innovazione lo sviluppo dell'impresa nel ventunesimo secolo se riusciamo a fare questo anche nel sud ne trae un beneficio straordinario tutto il paese che non cresce se un pezzo è fermo se tutti i pezzi del paese si mettono in funzione il beneficio vanno a tutti i cittadini italiani dunque il tema del mezzogiorno non è solo per i meridionali per far star meglio i meridionali è per accrescere lo sviluppo di tutto il paese per renderlo più civile dal punto di vista dei diritti di cittadinanza quindi si tratta un po' come negli anni 50 di ripartire dopo una grande crisi a ridisegnare il paese in cui viviamo le regole devono essere le stesse a nord e sud bisogna recuperare laddove c'è più da recuperare ma soprattutto farlo con politiche nuove moderne molto più efficienti di quelle che abbiamo fatte quindi viene fuori addirittura un paradosso che occuparsi di mezzogiorno è occuparsi delle cose più importanti per far diventare l'Italia migliore dove c'è più bisogno e dove c'è più indietro vi auguro un'ottima prosecuzione di lavoro ringraziamo Viesti che abbiamo incontrato anche a Taranto in occasione del nostro lavoro sul sud che rimane prioritario come ci ricordava già Vincenzo Visco dico a Vincenzo che io lo ascoltavo ero fuori c'è un ottimo vino e uno schermo quindi si sente con molto piacere quello che si sente anche qui dentro ci sono continuamente posti vuoti il paradosso che poi arriverà la RAI e dirà che è tutto vuoto ma in realtà sono tutti fuori cerchiamo di evitare visto che c'era tanta gente che si è giustamente arrabbiata per non poter entrare di sembrare pochi dentro io volevo dire che con Vito Gulli che qui è un uomo bellissimo secondo me a cui lo accogliamo con un applauso scrosciante tra le altre cose lui fa il tonno ma ci parlerà in tonno buono ma non è il caso di fare pubblicità dopo Peppe Allegri che ci ha consigliato libri fino al 2035 non è il caso di fare ulteriormente pubblicità e ci farà un discorso che riguarda il valore il lavoro la tribù e la consapevolezza perché io sono uno studioso attento di Vito segnalo tra l'altro che ci sono in sala Andrea Maestri e Beatrice Bidignone che con Rita Castellani per chiudere il ragionamento sull'economia assicureranno una vigilanza un accompagnamento a tutti quelli che sono rimasti fregati dalle banche diciamo per sintetizzare non lo faremo però con le felpe secondo me le felpe non servono diciamo per intervenire dal punto di vista legislativo lo faremo con intelligenza e assicurando anche alcuni consigli per l'assistenza legale se vi saranno occasioni di esercitare questo conflitto che per ora nel decreto non ci sono e aspettiamo oggi pomeriggio per dire che parliamo di grandi temi e lascio immediatamente la parola a Vito Gulli ma ci occupiamo anche del contingente della vita quotidiana delle persone mi piace iniziare precisando che sono più di 40 anni che io non partecipo e non intervengo in un consesso politico mi piace dirlo per ribadire che sono qui invece per rispetto dell'intelligenza e della coerenza costosa coerenza di Pippo e della bellezza della bellezza di Pippo così siamo pari una quei pochi che mi conoscono mi riconoscono per l'attività che come imprenditore la mia azienda ho fatto con la mia azienda perché è come se avessi fatto due cose particolarmente strane atipiche sì ma non strane atipiche nei tempi in cui le ho fatte e cioè concentrarsi sul tema della sostenibilità e soprattutto essere stato tra i primi tanti anni fa a fare la rilocalizzazione molto più conosciuta come reshoring perché fa più fine pur non l'avendo mai delocalizzato prima ci tengo a sottolinearlo io ho sempre detto e creduto che un imprenditore non eccezionale ma uno che non è stupido non può non capire che deve fare sostenibilità per suo interesse quindi se poi questo interesse coincide con tutti è meglio ma come potrebbe un imprenditore degno di poter fare impresa che è una parola che il il vocabulaio dei sinonimi e dei contrari fa capire che impresa è il contrario di cosa facile quindi impresa è una cosa difficile appunto come fai a fare una cosa difficile se non capisci che devi preservare almeno se guardi al futuro se guardi alla speculazione del breve è un altro tema è un altro mestiere ma se pensi al futuro una visione almeno ventennale della tua vita dei tuoi figli dei tuoi lavoratori insomma di tutto come fai a cercare di non preservare quelle due o tre materie prime che ti permettono di vivere oggi e domani una la materia prima con cui vivi qualsiasi sia che venga dalla natura ovviamente è ancora più difficile ma che che venga pure da qualsiasi altro elemento chimico che poi deriva sempre dalla natura come fai a non preservarlo come fai a non preservare l'altra materia prima fondamentale di cui hai bisogno e scusatemi se la chiamo così ma va detta così che è il tuo lavoratore senza quale non fai nessuna impresa e altrettanto la terza importante materia prima che poi è uguale identica a quella che ho nominato per secondo che è il tuo consumatore quindi questa premessa è per dire non esistono imprenditori buoni o imprenditori stronzi semmai scemi e furbi e furbi insomma e normali quindi è fare male a se stessi non fare sostenibilità e le cose che dicevo prima penso facciano a parire è chiaro che la sostenibilità almeno dal mio punto di vista non è per l'ambiente fino a se stesso io non non ha senso il verde per il verde ha senso il verde per l'uomo cioè io credo che se facciamo tutti qualcosa perché sto mondo rimanga o ritorni ad essere bello e duraturo non lo facciamo mica per l'aria che ci sia l'aria pulita non lo facciamo mica per l'acqua perché sia bella e limpida lo facciamo per berla e per respirarla non è egocentismo ed egoismo quindi per sostenere l'ambiente da un punto di vista appunto della sua natura bisogna contemporaneamente sostenere l'uomo e per sostenere l'uomo visto che c'è la condanna biblica purtroppo di cui si parlava prima bisogna lavorare e quindi per sostenere l'uomo dobbiamo avere un lavoro e la civiltà secondo me si distingue proprio nel sì che anno dopo anno secolo dopo secolo questa parola lavoro si trasformi sempre di più in quello che io chiamo l'anagramma della dignità del lavoro cioè il lavoro cambiare solo una letterina la L e la V diventa valoro e io credo che questo sia l'unico segno di civiltà detto ciò quando quando si parla di appunto come ho detto di sostenibilità ci si riferisce sempre all'ambiente e al lavoro e quando si parla di lavoro si parla del lavoro di chi viene spontaneo a parlare del proprio lavoro e del lavoro delle persone che si conosce e delle persone che abbiamo vicino e per questo che io parlo sempre un po' per non sembrare né nazionalista né ancora cose peggiori dico sempre che io voglio bene alla mia tribù alla tribù vicina alla mia tribù e per la proprietà transitiva dell'eguaglianza amo tutte le tribù del mondo ma non posso fare a meno di impegnarmi per le tribù che ho più vicine ma senza tralasciare quelle che sono lontane i miei discorsi a volte appaiono ripeto antiterzomondisti invece sono l'unica cosa pro lavoro nel terzo mondo e cioè i lavoratori del terzo mondo non perdono lavoro se noi facciamo più lavoro qua non lo perdono perché non è lavoro è condizioni da schiavi il vero lavoro l'avranno solo quando anche là non verranno più considerati solo lavoratori ma finalmente consumatori oggi nonostante le maggiori le maggiori produzioni che vengono in quei paesi si arricchiscono in 5 rimangono sempre poveri gli altri miliardi perché perché noi e da noi dipende tutto questo questa cosa brutta perché noi vogliamo che là si lavori a pochi soldi per risparmiare soldi e vendere qui a costi a prezzi alti quindi non ci interessa che tu guadagni i soldi perché tu non devi essere un mio consumatore tu basta che sia un mio lavoratore anzi no uno schiavo più basso peggio ti pago più io guadagno perché chi mi paga è là nell'occidente che dove i soldi girano ecco quindi solo nel momento in cui loro saranno riconosciuti consumatori potranno diventare dei lavoratori con dignità perché sarà interesse di chi da loro lavoro che possono diventare consumatori utilizzatori questo a mio parere è anche e non voglio passare per né bunista né filosofo né cavolate varie per me è un aspetto proprio pratico quello che dico ma questa è una strada se non l'unica per poter anche evitare tutte le guerre del mondo cioè la prima questa cosiddetta santa maledetta cioè solo se diamo lavoro a tutto questo oriente noi che ci chiamiamo presuntosamente ed egoceticamente occidente chissà perché l'abbiamo deciso noi solo in questo modo riusciremo a come dire a io dico a riconquistare la nostra credibilità con noi stessi e condividerla con loro dandogli lavoro farei una bella legge internazionale in cui per vengono costituiti dei bei fondi internazionali semplicemente prendendo i soldi da tutto quello che sono armamento e contramamento eccetera eccetera bastano i fondi di due anni di tutti gli armamenti mondiali e li investirei in questi paesi per dare loro del vero lavoro dignitoso e credetemi che bastano due anni perché Keynes insegna che accendendo un volano del genere e avendo loro dalla loro la demografia almeno questo ce l'hanno di loro il volano si genera da solo e diventano e possono diventare anche loro esseri umani in fondo ci pensavo poco fa anche l'Italia era così 30-40 anni fa c'erano le gabbie salariali sapete che si guadagnava non dico la metà ma quasi al sud ma non un operaio un professore dello stato italiano una maestra dello stato italiano guadagnava un poco più della metà credo un 70% di quello che si guadagnava al nord una roba che non dava assolutamente la possibilità di sviluppo e cosa succedeva che quelli del nord andavano al sud per pagare meno per poi consumare al sud e quindi non si accendeva a volano dal momento in cui sono finite quelle gabbie il meridione ha avuto un impulso positivo chiaramente poi è successo quello che è successo e lo sappiamo io credo che non abbia altre cose granché da dire se non aver portato questa mia testimonianza che si può fare impresa viene spesso definita etica ma è fraintendibile ripeto si può fare impresa semplicemente con una visione del futuro che miri a ottenere sostenibilità e lavoro ma chi lo deve fare e qui Pippo non sarà contento ma io sono con Feltri la politica può fare poco ancor più oggi con le regole di oggi e invece chi può fare molto sono coloro che votano perché si può votare un'idea un'ideologia ma soprattutto si può votare per un mondo migliore esercitando i propri poteri di cittadino cioè scegliendo aziende servizi partiti che hanno un atteggiamento con dei valori condivisi condivisi ovviamente e quindi si indica alle imprese che oggi non lo fanno la strada è andata a prendere finisco facendo un esempio io sono nel mio mondo di pesci vendoli sono molto conosciuto proprio per questo tema della sostenibilità che abbiamo iniziato almeno 10-11 anni fa quando in pochi ne sapevano il significato e oggi tutto il nostro mercato a livello mondiale non c'è più uno che non parli almeno di sostenibilità ecco è una cosa che mi dà da una parte rabbia sarei bugiata non dirlo perché chi ha la voce grossa parla molto seppur fa poco ma ho una soddisfazione enorme perché quel poco aggiunto a tutto il poco di tutti gli altri che parlano tanto e fanno poco alla fine diventa molto vi posso garantire che nel nostro mercato in questa benedetta maledetta produzione della pesca si vedono già dei risultati io ho l'orgoglio che quelli che definisco i integralisti che più talibani non si può di Greenpeace che devo dire è una delle poche volte in cui quando si indica la luna con un dito basta già fermarsi al dito ci hanno dato un colore verde insomma degli apprezzamenti non da poco dell'industria perché comunque siamo sempre industria e non ci piove è stata una grande soddisfazione e sono sicuro che serva a indicare ad altri comportamenti virtuosi che i consumatori che mi piace sempre chiamare consumatori con tante t per definirli proprio gli attori dell'unica possibile ripresa possibile ripresa che si possa fare ultima cosa e smetto è un un gioco stupido ma talmente ridico talmente minimo che non si può non capirlo questo l'occidente non può crescere parlare di crescita è un'utopia se ci riferiamo a consumare di più perché c'è molta confusione su questo termine crescere non può voler dire consumare di più premesso che abbiamo un 25% da recuperare bene quindi si può comunque crescere in senso di ricchezza distribuita attraverso il cambio del mix degli stessi consumi è proprio il discorso che facevo prima cioè se noi cambiamo il mix dei nostri consumi qui in occidente dell'oriente ho già parlato prima con il cambio del solo 10% delle mie abitudini io consumo come tutta la media italiana il 60-70% produzione di beni servizi italiani un 20-30 stranieri ok io cambio il 10% solo il 10% di quel 60% fate i conti di cosa vuol dire in termini di PIL non esagero scattano PIL da Cina ammesso che il PIL abbia un senso sorry vai ringraziamo tantissimo Vito Gulli ora facciamo il punto della situazione ci sono i diavoli che si presentano da soli e sono un network di professionalità con cui vorremmo collaborare hanno un video è l'ultimo video che poi uno dice se no stavo a casa e guardavo i video e invece ci sono ancora Camilla Seibezzi che ci parlerà in generale di diritti e in particolare della filosofia del gender che soprattutto da queste parti sta seminando il panico pur non esistendo è abbastanza incredibile è un po' uno spettro diciamo così poi c'è Veronica Caciagli che ci parla di quello che è successo a Parigi e di una politica in campo ambientale che esista in quel caso c'è una cosa come il gender che è il ministro Galletti secondo me non esiste Galletti però possiamo approfondire l'argomento da ultimo ci sarà Stefano Bartezaghi che è un uomo che ha già raccontato in un'altra occasione che cos'è la sinistra usando la parola manca che quindi capirete ci darà una ci offrirà una riflessione sul concetto di nuovo e anche perché in questo momento sta parlando uno nuovo a Firenze proprio in questi minuti c'è un po' di elettricità nell'aria e da ultimo io parlerò pochissimo perché siamo andati un po' lunghi però insomma cercheremo di fare una sintesi operativa della giornata e di fare tesoro di quanto avete ascoltato per cui io manderei il video dei diavoli ricordando a tutti che poi c'è anche un momento di rinfresco alla fine a pochi metri da qui c'è un po' freddo fuori ripeto ci sono un po' di sedie vuote dentro capisco che adesso non voglio entrare più nessuno ma è un peccato grazie insieme le due sponde dell'Atlantico formano un mercato di circa 800 milioni di consumatori e allora è lecito chiedersi in questo contesto non è che forse l'Italia alla fine sarà chiamata a pagare gran parte del conto di una grande abbuffata dove al massimo potrà mangiare l'antipasto gli ultimi sei anni di crisi hanno messo l'accento sul ruolo che può avere l'informazione il ruolo che ha avuto l'informazione in questi sei anni per raccontare che cosa stava succedendo al mondo c'è un limite nel racconto che ne fanno i giornali che secondo me è anche il limite che ha tutta la nostra società nell'affrontare questo cambiamento siamo dominati dalla paura all'interno del mondo dell'innovazione sociale si deve essere sociali nei fini e si deve essere sociali anche nei valori siamo il paese costantemente sull'orlo del fallimento in realtà noi siamo un paese ricco abitato da poveri lo stipendio medio degli italiani secondo l'istat è 1.286 euro spicci la soglia di povertà è 1.11 euro sai cosa vuol dire questo? che se un mese ti si rompe la lavatrice tu crolli nella soglia di povertà e diventi povero non coerenza tra quello che si dice e quello che si fa quello del non rubare credo che sia il più non preso in considerazione dei comandamenti allora la la maggioranza invisibile sono 25 milioni di italiani parliamo di disoccupati precari mit migranti e pensionati poveri pensionati sotto i 1000 euro al mese ignorati tra virgolette dalla politica che è l'esempio più lampante quello dei lavoratori precari che non hanno un vero sussidio di disoccupazione o non hanno un rendito minimo garantito come nella maggior parte degli altri paesi europei il fatto che il terzo settore molte volte si sostituisca le istituzioni è utile per il nostro paese ma non è assolutamente un fatto positivo perché sono le istituzioni la politica che devono prioritariamente garantire welfare in questo paese che devono assumersi responsabilità è troppo facile delegare al terzo settore in questo modo deresponsabilizzarsi quelle che sono le scelte le azioni che la politica il governo centrale in modo particolare devono prendere devono assumere per il futuro delle nuove generazioni le priorità che si scelgono e che si finanziano devono essere coerenti a un disegno di paese di sviluppo che noi vogliamo quanto riguarda in particolare il livello di inquinamento delle nostre città delle città italiane una cosa assolutamente cruciale è che l'inquinamento non si spalma non è uguale dappertutto uno dei messaggi che sarebbe importante che i nostri amministratori capissero è che non contano tanto i livelli di PM10 della città ma conta effettivamente i livelli di Black Carbon che è una parte del particolato sottile ogni volta che trevi in banca compriamo qualcosa un conto corrente una carta di chiarito un mutuo tutta merce in vendita perché il consulente ti consiglia tra i prodotti che il suo datore di lavoro gli dice di vendere è il consulente della banca non il tuo gli sportelli non chiudono perché c'è la crisi chiudono per tagliare i costi e fare più utili sfruttando la crisi vuoi un telefonino vuoi un tablet poi una bici uno scooter un tapirulano hanno tutto di tutto ma non sanno nulla di quello che vendono perché non compete a loro sono concorrenti troppo forti per qualsiasi commerciante insomma la banca vende tutto è comodo? sì quanto è comodo lasciare pensare gli altri al posto tuo in debita di questa è la felicità dall'altra parte c'è la tua amica banca che ti vende il benessere a rate e ti farà delle proposte che non puoi rifiutare i diavoli sono la nuova cupola di potere che dal 2000 in poi ha cercato di preservare il mondo da una crisi drammatica ma che con le sue mosse ha consentito un accumulo di ricchezza in pochissime mani un aumento della povertà e la riduzione della classe media le elite economiche mondiali agiscono sulle classi dirigenti politiche per truccare le regole del gioco economico erodendo il funzionamento delle istituzioni democratiche e generando un mondo in cui 85 super ricchi possiedono l'equivalente di quanto detenuto da metà della popolazione mondiale i diavoli agiscono all'interno di un contesto nel quale la politica si scopre debole e rinunciataria un contesto in cui la politica pare aver abdicato tuttavia apologia o condanna non sono di nostro interesse verità trasparenza ed equità sì secondo la classifica sull'educazione finanziaria curata da Standard & Poor's Ratings Services l'Italia arranca in 63esima posizione dietro a nazioni come Senegal Benin Togo Zambia e Madagascar è un problema? è un problema lo è innanzitutto perché costa un sacco di soldi secondo quanto spiega la ricerca infatti conoscere l'ABC finanziario permette di pianificare meglio e diversificare il proprio risparmio non a caso lo studio conferma che chi ha maggiori risorse economiche è più ferrato in materia rispetto a chi è meno facoltoso per questo motivo occorre offrire maggiori conoscenze in materia di prodotti bancari e finanziari tali competenze sono oggi sempre più indispensabili al fine di compiere scelte consapevoli un'inappropriata gestione individuale del debito infatti può portare gravi conseguenze non solo per i singoli cittadini ma anche per l'economia pubblica se a tutti appare ormai chiaro che è la finanza a guidare le scelte dei governi e a dettare l'agenda politica pochi sono in grado di forzare la scatola nera del potere finanziario per svelarne meccanismi e storture il motivo? i diavoli agiscono nell'ombra lontano dai riflettori e per molti versi dalla realtà per assurdo i diavoli plasmano i destini del mondo ma sono immuni agli eventi alcuni pensano ancora che i mercati siano uno specchio che riflettano semplicemente il reale sbagliano pensano che della paura siano un semplice indicatore sbagliano al fine di riuscire a correggere gli errori di questo sistema che segna la vita di milioni d'uomini e donne diventa pertanto necessario e urgente sgombrare il campo dagli equivoci rivelare e mostrare in maniera chiara e trasparente il funzionamento del dispositivo sensibilizzare i decisori verso una ripartizione della ricchezza più equa e il fine ultimo è questo perché ciò accada richiamiamo alle proprie responsabilità l'1% d'Italia la leva del cambiamento è nelle vostre mani attivarla una nostra incombenza grazie a tutti camilla eccola qui camilla sei bezzi da venezia non c'è molto da dire dirà tutto lei è una di quelle persone che ci piacerebbe coinvolgere sempre di più e capirete immediatamente perché anche tu aspetti il tuo certo sono come tutti gli altri combatto le discriminazioni fin d'ora scherzo allora non sarà facile parlare di quanto vorrei perché il tema è vastissimo è molto dibattuto su tutti i giornali il tema dei diritti civili e al tempo stesso a differenza di molti altri non ha un denominatore comune non ha un vocabolario condiviso e quindi il più grande problema che abbiamo dibattere di diritti civili che anziché scendere in quelle che sono state le scoperte scientifiche la ricerca accademica in quanto è stato il pensiero della differenza e poi oltre l'evoluzione che ha avuto il tema dei diritti civili nel mondo ci ritroviamo in un paese che avendo delegato i diritti civili sempre all'ultimo posto ha fatto sì un pochino che tutti ne parlino senza mai conoscere il tema a fondo e questa non è una presunzione di ignoranza o di conoscenza è una realtà è una realtà che emerge con grandissima evidenza in questi giorni in cui ci si avvicina al dibattito del DDL Cirinna sulle unioni civili in Parlamento e si vede come un tema che è stato sempre considerato residuale ma che è stato capace di spaccare diversi governi si è diventato invece un'emergenza per tutti all'improvviso come dire il tema del diritto è residuale solo quando non viene rivendicato e chiesto nel momento in cui lo si chiede e lo si cerca di affermare diventa fastidioso praticamente per tutti un'altra cosa che sottolinea la discussione il dibattito sui diritti civili è l'infinita zona d'ombra di questo paese e l'idea come qui la ragione per cui io vengo a parlare possibile è che si parla costantemente di combattere le diseguaglianze si parla di uguaglianza e non si parla di tolleranza e questo è un pochino il punto io credo che noi in termini di emozioni e anche di pensiero si sia arrivati appena appena a considerare il tema della tolleranza ma mai fino in fondo il tema dell'uguaglianza quando vorrei potremmo parlare da delle teorizzazioni però veramente il tempo è strettissimo e quindi in fondo in fondo vado a cercare dei piccoli esempi di vita concreta che ho avuto modo di esperire o di cui essere anche protagonista talvolta per cercare di spiegare qual è il pensiero sottostante a quanto sto dicendo allora nel 2013 sono stata nominata dal sindaco di Venezia delegata ai diritti civili il primo giorno di mandato ho fatto la conferenza stampa su quelle che erano le linee programmatiche del mio mandato tra i tanti punti decisi uno l'adattamento della modulistica di iscrizione degli asili nido e le scuole materne del comune di Venezia in direzione antidiscriminatoria in realtà decisi di fare una modifica di tutto il linguaggio affinché comprendesse come dire una direzione antidiscriminatoria di quella che era lo statuto il regolamento comunale e così via come dire l'amministrazione che si fa portatrice di significati nuovi di trasformazioni sociali allora decido e penso la delega ai diritti civili rischia sempre di essere come dire una dichiarazione di intenti la città ricoperta di manifesti sull'uguaglianza la libertà la fraternità siamo tutti fratelli siamo tutti belli e così via però rischia di non raggiungere mai un traguardo concreto sicché il primo giorno disse io da domani mattina cambio i mobili di iscrizione dei bambini all'asilo unido e alla scuola materna al posto di genitore e madre metto genitore uno e due che come è stato dibattuto poi sui giornali da due anni a questa parte è come dire il manifesto dei movimenti pro vita degli omofobi è un errore giornalistico dell'inizio in realtà la sostituzione era semplicemente mettere al posto di padre e madre genitore genitore perché per cancellare la differenza tra i sessi sarebbe una delle più grandi dizie di questo secolo no semplicemente per dire che dal giorno dopo tutte le famiglie tutte le presenze come dire effettive del nostro universo emotivo che popolano le nostre aule scolastiche dal giorno dopo sarebbero state riconosciute come uguali parimenti dignitose non era un genere non è neutro usare il termine genitore era semplicemente spostare l'asse delle minoranze per includerle all'interno di una maggioranza sovraordinata era spostare il termine madre-padre alla categoria genitoriale non in quanto generante ma in quanto come dire sovracategoria linguistica che permetta a tutti di essere riconosciuti coppie eterosessuali coppie adottive coppie affidatarie coppie lesbiche coppie di gay le donne sole con dei figli i padri soli con dei figli come dire non sono famiglie manchevoli di un pezzo sono realtà familiari che sono descritte da un adulto e uno o più bambini fine sono tutti uguali bene questo perché fare una scelta di questo tipo perché veramente quando parliamo delle discriminazioni parliamo dell'inchiostro birichino cioè parliamo dell'inchiostro invisibile non si vede non si tocca è come il tema del femminicidio è come il tema della violenza sulle donne prima di riuscire a provarla ci sono una quantità di elementi è come nel caso degli abusi sui minori cioè devi arrivare a delle situazioni tale disastrate per cui non solo la prevenzione ma anche il rimedio il recupero sono faticosissimi e vanno a giocare su delle ferite ormai profondissime quindi io quello che volevo dire a un Parlamento che stentava ad approvare la legge contro l'omofobia e altre leggi appunto sul femminicidio e così via vuol dire che dai territori dal basso da una minoranza dalla minoranza della minoranza può nascere una sollecitazione capace di una trasformazione sociale grande così grande come la punta di un'unghia e così ho preso questa decisione abbiamo fatto l'atto e dal giorno dopo è scoppiata una piccola rivoluzione sono arrivate minacce di me di morte sul web via Lettra sono venuti i fascisti a prendermi in comune si è attivata la Digos ora sembra un mondo fantasmatico sembra andare nel giurassico ma è andata veramente così si è andata in Inter ci sono fiori di filmati hanno fatto una prima manifestazione di forza nuova regionale una seconda manifestazione regionale la terza manifestazione nazionale sempre per dire quanto è importante o quanto è residuale il tema dei diritti e non stavamo facendo una legge in Parlamento stavamo facendo una trasformazione sociale di questa entità così perché ho scelto genitore? perché volevo che le parole tornassero a avere significato volevo vedere se il fatto che lo uso io genitore spiegando perché o se esiste nei moduli e nelle pagella del 1938 cioè sotto Mussolini esiste dei sei anni in su già avrebbe fatto la differenza beh tutta la popolazione ma non solo di centrodestra anche di centrosinistra si è sentita colpire alla pancia e allora lì la cartina torna sola ed è dove è la discriminazione e di quanto fa la differenza chi e cosa dice e quanto cioè a parità di vocabolo quindi con lo controllo scientifico delle variabili a parità di situazione se Benito Mussolini dal 1938 fa firmare tutti noi lesbiche, gay, sessuali mamma sola, papà sola genitore non si lamenta nessuno se lo faccio io primo giorno d'incarico notoriamente lesbica una figlia famiglia del paleno ma non solo per quello come dire con un riconoscimento sociale di status sociale positivo nasce veramente un attentato quella che viene ritenuta l'identità culturale del nostro paese l'attentato non era all'identità culturale l'attentato era alla sovranità culturale all'idea che esista una maggioranza che debba decidere sempre comune comunque di una minoranza cioè a uno sguardo pietistico ma non ugualitario verso l'altro allora può sembrare una sciocchezza ma dire che da domani mattina chiunque viene in contatto con quel modulo lì deve ragionare che quello che sta a sinistra è quello che sta a destra dei suoi genitori la segretaria della scuola tanto quanto la presi tanto quanto quello dall'ufficio del comune e così via quando toccano quel modulo è stato detto che genitore sono genitori tutti è il cambiamento di uno schema cognitivo questo è un piccolo esempio però è andato così l'anno precedente prima ancora di essere delegata ai diritti civili ero consigliera comunale presidente della commissione delle differenze feci un emendamento al bilancio per far sì che ci fosse un corso di sei mesi per tutti gli educatori e le educatrici del comune di Venezia contro le discriminazioni è stato scelto dal corpo insegnante non da me tra tanti corsi ha avuto successo tutto quanto l'anno dopo appena eletta delegata ho acquistato 50 titoli di favole contro le discriminazioni per ogni scuola del comprensorio del comune di Venezia le favole contro le discriminazioni perché? perché e per tutte le discriminazioni di nuovo per riportare le famiglie arcobalino ma non solo il tema del razzismo il tema degli stereotipi di genere il tema di tutte le discriminazioni che ancora popolano veramente le nostre classi fino al mondo adulto ma con una tenacia e una perseveranza e una pervicacia veramente quasi invincibile non ho composto io la lista come tutti dibattono sui giornali ho dato l'incarico agli esperti delle università di psicopedagogia alle reti contro le discriminazioni alle psicopedagogiste del comune di Venezia anche lì perché come dire la valorizzazione delle risorse non sia teorica ma sia frutto veramente di quel che abbiamo e mettiamo frutto e così furono comprate questi 50 titoli per tutte le scuole e furono dorate alle biblioteche degli asili nido che cosa significa questo? significa che le ricerche scientifiche dice che gli stereotipi negativi si formano a partire dai tre anni di età nella mente dei bambini quindi se noi iniziamo a educarli a un mondo che contempli la realtà ma senza neanche dare un giudizio di merito semplicemente era il racconto di una realtà speculare a quella che hanno nei banchi di scuola né più né meno esiste non migliore o peggiore esiste ed è così anche questo lo sapete bene perché ne discutiamo ancora oggi è stata come dire una piccola rivoluzione culturale perché siamo tutti felici finché ci sediamo al bar a dire beati in Norvegia beati in Svezia che sono così avanti nella lotta delle discriminazioni però quando poi si devono realizzare nel nostro paese sembra un tema impensabile e impossibile allora questo che cosa racconta c'è un primo attacco una prima censura di quei libri addirittura all'interno del centro-sinistra perché il fuoco amico è il secondo grande problema di questo paese e poi ci fu invece la censura che è andata su tutti i giornali sia nazionali che ancora ci va è andata su New York Times The Independent The Guardian è diventato un caso internazionale del sindaco di Venezia noto bigotto zotico che da un punto di vista così anche di semi inalfabeto però ne è fatta come dire una crociata allora il virus della persecuzione dell'ideologia gender viene sì dalla Francia viene da parte dell'America ma viene anche dal fatto che due anni e mezzo fa quasi tre anni fa si sia detto per un attimo che la popolazione ferita dalle discriminazioni poteva finalmente avere uno stupidissimo modulo ininfluente e qualche libro per i bambini in cui si dice che siamo tutti uguali effettivamente tutti uguali questo è bastato perché ci sia una discussione nel nostro paese per arrivare alla censura dei libri cioè la censura di delle fiabe per bambini di tre anni ok tra le mille domande che mi sono state rivolte ce ne sono state tantissime tantissime anche da persone a me molto vicine gente che ha lavorato in psicofedagogia e così via insomma non sto parlando del popolo ignorante ezotico sto dicendo di una paura che serpeggia dentro di noi perché evidentemente le identità sono veramente fragili e i confini della tolleranza e dell'uguaglianza sono profondamente incerti perché altrimenti i movimenti appunto di persecuzione dell'ideologia gender non sarebbero stati così pervasivi e non ci sarebbe stato nemmeno all'interno del centro-sinistra una come dire una reazione così profonda io ho sentito Fior di Padre Fior di Madri temere che il modulo potesse cancellare in qualche modo scalfire la loro capacità o la loro riconoscibilità come genitori e questo ci dice di un mondo che è presto che impazzito no? di un mondo che è stato fatto di parole ma che non ha più contenuti da una vita e mezza non da un mese due mesi da un anno il periodo di crisi da 30 anni ci dice dei diritti mai conquistati fino in fondo perché questo è il tema non c'è solo il virus dell'ideologia gender c'è la discussione di nuovo sulla legge sull'aborto c'è dall'87 al 92% di obiezione di coscienza sugli ospedali pubblici c'è nel guarda di Milano che non pratica più l'interruzione a gravidanza con la 194 e a Roma che se va l'unico ginecologo che praticava l'aborto in pensione non si può più fare l'interruzione di gravidanza in una struttura pubblica cioè riguarda i temi dell'immigrazione perché riguarda di fatto e profondamente il fatto che non si è capito che non esistono le minoranze esistono i tratti discriminanti minoritari che è profondamente diverso perché ognuno non deve guardare all'altro con benevolenza sì anche tu in ufficio o a me gli voglio un sacco di bene ma è gay per fare un esempio perché l'omofobia e la discriminazione è fatta dalla somma delle congiunzioni avversative c'è sempre qualcosa che afferma e un pezzetto che la nega ma però siccome allora queste congiunzioni avversative vanno spazzate via perché o è una malattia o non lo è nel far questo nel parlare di uguaglianza si diventa improvvisamente estremisti cioè a me quando mi parlano mi dicono che sono di estrema sinistra ma di estrema sinistra perché penso che ci debba essere una piena uguaglianza tra le persone e a me questo non mi sembra un connotato dell'estrema sinistra no mi sembra un connotato di una pratica politica che usa delle parole e cerca di praticarle ora non voglio dilungarmi annoiando tutti quanti però è proprio questo capito è sapere che tu sei la maggioranza delle persone e il tuo tratto di essere omosessuale è uno dei cento tratti che descrivono la tua persona tu sei non esiste l'immigrato in quanto tale non esiste il nero in quanto tale e anche sull'identità di genere si può aprire una grossissima discussione ma bisogna tornare a capire che cosa è successo nella scienza negli ultimi 30 anni bisogna sapere che la distinzione dei cromosomi sessuali 25 anni fa era data XXXY perché subentrava Y ma le varianti genetiche sono uno spettro di continuità biologica quindi come dire non si può far politica in mezzo alla nebbia innanzitutto bisogna spazzare via la nebbia e capirci siamo la minoranza dei malati di tumori sono la minoranza cioè come dire essere tutti maggioranza e minoranza non possiamo aspettare che sia nostra nipota essere omosessuale che sia nostra sorella essere discriminata perché andata per un posto di lavoro non l'hanno presa perché magari poteva rimanere incinta e così via cioè è un carico che fa parte dell'esistenza di tutti di noi e se noi non usciamo da questo piccolo cappello secondo me non si va da nessuna parte e non si va da nessuna parte perché non basta un workshop una settimana a 18 anni per combattere la discriminazione perché ormai si è cristallizzata nella testa delle persone dei nostri giovani in modo profondissimo e scalfirla è difficile e lo dico perché è un percorso che ognuno di noi deve fare perché è cresciuto in quel contesto culturale storico non in un altro non è facile invisibile anche al proprio stesso sguardo e quindi io credo che la strada sia questa uno potrebbe dire eri sola io ero indipendente non ero iscritta in un partito ero donna ero lesbica cioè veramente come dire non mi mancava nessuna pecca si può essere minoranza e diventare maggioranza se noi troviamo l'anello attraverso il quale riuscire a capire quanto e come condividiamo non solo in termini teorici per questo io non ho voluto fare riferimento alla filosofia alta alla filosofia accademica ma al sentire dobbiamo tornare a sentire le cose molto più vicine a noi stessi non perché non abbiamo gli strumenti teorici ma perché li traduciamo in realtà quando a me mi hanno messo all'angolo subito mi hanno detto su tutti i giornali gli togliamo la delego ho detto prendila non importa e cosa ho fatto da quell'angolo ho chiamato la rete rete i rete di 70 amministrazioni italiane contro le discriminazioni ho detto sei una rete comportati da rete e in 4 giorni in 70 persone hanno scritto al sindaco di Venezia chiedendo di supportare l'iniziativa e lui non ha più potuto togliersi da là quando mi hanno accusato che i 3 anni era troppo presto per dare in mano ai bambini questi libri perché avrebbero fatto confusione sull'identità sessuale ho preso il telefono in mano ho aperto internet ho guardato tutti i dipartimenti di psicopedagogia delle università italiane io ho telefonato allora ho telefonato la Sapienza l'università di Ferrara di Bologna di Milano perché non si può dire quanti fondi diamo alla ricerca universitaria se poi della ricerca universitaria non ce ne facciamo niente e così sono intervenute le università a supporto mi hanno detto fuori sei bezzi promossa dall'università italiane ma non era Camilla sei bezzi in quanto tale è un principio è tornare a dare restituire a tutti gli agenti sociali del nostro paese come dire la responsabilità che gli spetta e anche il prestigio delle ricerche che hanno fatto allora a quel punto non ero più sola ecco io credo che questa minoranza anche la minoranza impossibile possa diventare una maggioranza se riesce a far passare questo messaggio grazie 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 mille a Camilla passiamo rapidamente la parola a Veronica Cacciagli che addirittura è arrivata da Parigi per stare qui oggi con noi e che ci racconterà luci ed ombre dell'esito della Cop 21 Sera grazie per l'invito devo dire che mi è stato anche un po' in imbarazzo a parlare dopo tanto intervento ma spero di appassionarvi a questa tematica come siamo stati appassionati noi che eravamo là alla conferenza di Parigi dico noi perché faccio parte di un'associazione che si chiama Italian Climate Network e lavoriamo da diversi anni sulla questione dei cambiamenti climatici e proprio quest'anno eravamo a Parigi con un gruppo di giovani 10 la prima settimana e 10 la seconda settimana e quindi abbiamo potuto vivere questa esperienza insieme con grande grande emozione e ecco io vorrei raccontare la conferenza anche nei contenuti e nelle conseguenze ma vorrei iniziare in realtà dalla fine dai commenti che sono venuti sulla conferenza e sugli esiti della conferenza l'Unione Europea ha commentato questo è un manifesto per un futuro migliore giusto e sostenibile migliore è la qualità della vita la sicurezza e la salute e questo più o meno noi ce lo potremo aspettare tranquillamente perché sappiamo che i diplomatici dell'Unione Europea sono anche molto bravi a dimostrare poi le loro azioni in questi contesti andiamo poi avanti negli altri commenti degli altri stati la Coppa è un punto di svolta nella lotta globale contro i cambiamenti climatici il suo successo è importante per il futuro del mondo intero l'accordo è equo e giusto comprensivo e bilanciato molto ambizioso duratura e efficace l'accordo invia un segnale forte e positivo al mondo verso un'economia low carbon e questo noi ce lo potremmo aspettare da una Danimarca ebbene questo era il discorso conclusivo della Cina e non solo la Cina andando avanti abbiamo Carri che ha commentato che l'accordo è una vittoria del multilateralismo l'India che ha fatto un discorso molto anche questo emozionante scusate l'emozione è una parola che ritornerà spesso nel mio discorso non solo abbiamo adottato un accordo ma abbiamo iniziato un capitolo di speranza e poi la Venezuela questo accordo è rivoluzionario per i principi che contiene diritti umani questioni femminile tra l'altro ha citato proprio la gender equality e la woman empowerment e poi anche il riferimento alla madre terra e poi anche ha citato Ugo Chavez perché era stato uno degli oppositori durante la conferenza di Copenaghen che poi era fallita dicendo che appunto secondo lei Ugo Chavez ha fatto bene a far fallire Copenaghen perché questa volta invece a Parigi siamo arrivati fino alla vittoria anche dalla parte delle situazioni ambientaliste sono venuti commenti molto positivi e si dice infatti per esempio il direttore di Greenpeace ha commentato che l'accordo mostra la fine dell'era delle fossili quindi andiamo un pochino nel dettaglio che cosa c'è in questo accordo tanto importante dove ci porta ecco innanzitutto l'obiettivo di lungo termine l'obiettivo di lungo termine dell'accordo è quello di arrivare a un contenitore dell'aumento dell'emissione di gas serra e anche a un mantenimento di una temperatura scusate la stabilizzazione della temperatura media globale a 2 gradi centigradi però aggiunge anche un riferimento a 1.5 gradi centigradi che ci saranno degli sforzi aggiuntivi per arrivare a 1.5 gradi centigradi questo è un dettaglio che può sembrare una cosa insomma da ned degli negoziati ma in realtà è molto molto importante perché 1.5 gradi centigradi è quella che viene considerata la soglia di limite di rischio dagli scienziati e ecco oltre a questo a questo obiettivo lungo termine si segna un percorso un percorso che ci porterà a rivedere gli impegni degli stati ogni 5 anni e qua si dice naturalmente che insomma ci sarà questo percorso ci pone anche il dubbio ma poi questo percorso effettivamente verrà attuato e qui potrebbero sorgere delle critiche perché c'è una una parte che in realtà è di è che è ancora in attuazione però su questo insomma sarà il futuro a dirci quello che succederà quello che è sicuro è che noi saremo a combattere per cercare di aumentare l'impegno e di arrivare poi alla fine dell'obiettivo poi una parte importante dell'accordo sono le misure di adattamento che sono molto ben dettagliate perché noi sappiamo che una parte dei cambiamenti climatici ormai è inarrestabile noi ci dovremmo adattare nei paesi industrializzati sarà più semplice perché avremo anche la capacità economica per porvi il rimedio mentre nei paesi emergenti ecco nei paesi di sviluppo sarà un po' più complicato infatti uno dei punti chiave dell'accordo era anche quello sulla finanza sui trasferimenti dai paesi industrializzati ai paesi emergenti ed è stato stabilito che dal 2020 dovranno essere mobilitati 100 miliardi di dollari all'anno come minimo e questo numero poi andrà a crescere e questo servirà a finanziare sia le azioni di mitigazione e quindi di riduzione delle emissioni di gas serra che anche quelle di adattamento poi c'è un dettaglio che a noi ci è molto piaciuto e cioè che è stato inserito il principio dell'equità intergenerazionale equità intergenerazionale significa che i nostri figli e le generazioni future dovranno ereditare una terra che gli offra le stesse possibilità che abbiamo avuto noi e le stesse possibilità e anche le stesse risorse che abbiamo avuto noi questa è una cosa fondamentale nelle negoziate perché significherà che questo principio potrà anche essere utilizzato successivamente per cercare di incrementare gli impegni e tra l'altro è anche una vittoria dei giovani perché sono stati proprio giovani e anche alcuni della nostra associazione a proporre di introdurre questo principio nel negoziato ecco che cosa volevo dire poi che a questo punto si apre un percorso e dobbiamo essere ben coscienti che quindi Parigi non è il punto di arrivo ma solo il punto di partenza però questo percorso ha un obiettivo di lungo termine che è proprio la decarbonizzazione dell'economia la decarbonizzazione dell'economia globale e tutti i paesi del mondo sono d'accordo questa è la grande novità tutti i paesi del mondo sono d'accordo per cui quello che prima dicevano Greenpeace che dicevamo noi ci guardavano con gli occhi aperti come se parlassimo veramente di scienza delle merendine questo sta succedendo è una rivoluzione proprio come diceva la delegata del Venezuela questa è l'inizio di una rivoluzione e questa rivoluzione poi la dovremo attuare anche in Italia questa è un pochino la nostra la nostra conclusione dopo questo dopo questo passaggio la dovremo attuare sia nelle azioni di adattamento a cambiamenti climatici perché vediamo quali sono le conseguenze dei cambiamenti climatici sul nostro paese sia per quanto riguarda gli eventi atmosferici estremi che poi essiccità poi ci sono delle malattie anche delle piante che prima non avevamo queste sono anche delle cose nuove che vengono portate anche dal in parte da cambiamenti climatici e poi anche per la riduzione delle emissioni secondo noi il governo la politica si dovrebbe occupare anche di realizzare un piano delle emissioni quindi un piano per la riduzione delle emissioni a lungo termine non semplicemente sempre incorrendo quello che ci impone l'Unione Europea noi sappiamo già che nel 2050 l'economia europea dovrà essere emissioni zero e allora perché non cominciamo a prepararci perché facciamo degli investimenti adesso per esempio stiamo cercando anche di di fare dell'Italia l'hub del gas sì ma chi me lo dice a me che questo l'hub del gas effettivamente ci serva perché c'è una cosa che risulta abbastanza particolare nelle scelte energetiche che sembra che quando si parla dei combustibili fossili si parli di investimenti quando si parla di rinnovabili si parla solo dei costi mentre in realtà è perfettamente il contrario dobbiamo cominciare a dirla questa cosa gli investimenti nelle fossili non esistono esistono solo investimenti nelle rinnovabili e ecco un percorso di questo tipo poi naturalmente ci potrebbe anche cogliere le opportunità di questa trasformazione opportunità naturalmente di tipo economico ma non solo perché facciamo un esempio anche sulle nostre città migliorare i trasporti significa diminuire l'emissione di gas serra ma significa anche migliorare la qualità della vita dei cittadini significa anche migliorare la salute dei cittadini per cui ecco non dovremmo considerare le scelte ambientali ambientaliste come se fossero qualcosa a parte e slegato dal contesto e su questo un piccolo punto ho sentito parlare prima molto di PIL e di crescita forse sarebbe più opportuno parlare di sviluppo perché comprende un po' più di concetti anche un concetto generale della qualità della vita e l'ultimo punto su cui noi faremo dell'attività del prossimo anno e penso che sarà molto importante riguardo il disinvestimento di togliere i soldi alle fossili ecco noi stiamo cominciando la campagna anche insieme ad altre associazioni in cui chiediamo proprio alle istituzioni pubbliche private di smettere di finanziare la produzione di energia da fonti fossili ecco questo ha due tipi di motivazioni uno di tipo etico perché se è sbagliato produrre energia da fonte fossile è anche sbagliato tranne profitto questo è molto chiaro e tra l'altro il mondo cattolico dopo tutto quello che ha detto Papa Francesco si dovrebbe anche ascoltare e poi c'è un altro ordine di motivazioni che è di tipo finanziario ho sentito prima un intervento in cui si parlava del rischio finanziario ecco noi presto ci approccieremo a un nuovo tipo di rischio finanziato finanziario che è chiamato carbon bubble la bolla del carbonio che cos'è questa bolla? beh noi sappiamo che gran parte dei combustibili fossili che sono stati scoperti non saranno utilizzati questo è un dato di fatto che ci viene anche da da Parigi ci sono anche degli studi c'è uno studio di Nature che ci dice esattamente quanta parte dei combustibili fossili dovranno rimani sottoterra e dove sono localizzate queste queste riserve beh queste riserve però adesso figurano negli attivi di bilancio delle aziende energetiche è chiaro che quando quegli attivi di bilancio diventeranno calta straccia perché diventeranno calta straccia qualcuno ne pagherà le conseguenze non solo ambientali ma proprio finanziarie e quindi ci preoccupano in particolare i fondi pensione ad esempio oppure ci preoccupano quando ecco le banche danno delle azioni di obligazioni senza spiegare bene i rischi come è accaduto proprio recentemente alle banche di cui stiamo parlando in questi giorni ecco quindi penso che quello che noi dovremmo chiedere alla politica è un pochino di rivedere le decisioni e cercare di avere un approccio più olistico di sistema per metterle insieme e cercare di assicurarci veramente un futuro più sostenibile grazie Veronica forse dovremmo aggiungere solo una cosa che quando c'è una prescrizione ci deve essere anche una sanzione ecco l'accordo di Parigi mi sembra scontare un difetto molto italiano che si danno delle indicazioni di massima però nessuno se non le corrisponde poi rischia nulla ecco su questo credo che dovremmo metterci molta politica che è l'unica speranza che abbiamo per passare da cose importanti a cose che lo sono ancora di più subito dopo l'intervento di Bartezaghi e mio ci sarà un ritrovo in un locale che si chiama Gnoc e Lambrusque che mi sembra dichiarato scusate la pronuncia che non sono né veronese né emiliano quindi non riesco a fare nessuna delle due cose è in vicolo volto cittadella a 500 metri da qui chi acquista il ticket qui non fa la coda là e non sta al freddo che è un po' il tema della giornata fa molto freddo in questo paese introduco senz'altro Stefano Bartezaghi che mi riempie di gioia per il semplice fatto che è qui con noi grazie 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 Pippo io qui porto un contributo dopo appunto tante cose sul merito delle questioni parlo quasi per ultimo e parlerò più che altro di questioni di metodo sapete io mi occupo di linguaggio per quanto in realtà non sono soltanto parole ma sono sappiamo visioni traduzioni del mondo ed è stato proprio occupandomi di una questione letteraria su Joyce non vi sto neanche a raccontare che ho notato mi è venuto da fare un piccolo modello che secondo me si applica ad alcune situazioni italiane che spero vi possano interessare e ci ho ripensato quando è stato due settimane fa il ministro Giuliano Poletti ha fatto questa affermazione che spero di aver trascritto correttamente dovremmo immaginare contratti che non abbiano come unico riferimento il rapporto ora lavoro ma misurare l'apporto dell'opera la misurazione ora lavoro è un attrezzo vecchio che frena rispetto a elementi di innovazione è successo un can can il giorno prima aveva parlato di studenti o cose del genere penso che appunto abbia avuto qualche problema con i dosaggi in quel periodo ma ci sono due cose ho notato due cose la prima è che c'è un fatto incontestabile sul fatto che sono cambiati i tempi sociali l'organizzazione dei tempi sociali penso che molti di noi lavorino in un modo molto diverso da come lavoravano i propri genitori e questo è un fatto incontestabile ma non appena lo si fa notare in una scena politica è ovvio che ci si chiede subito ma dove stia andando a parare la politica è un po' anche una traduzione il rapporto tra realtà e politica c'è anche questa traduzione e perché normalmente il fatto incontestabile serve per creare del senso comune io mi ricordo da questo punto di vista penso che sia stato uno dei casi più clamorosi la campagna per la giustizia giusta è una tautologia cioè chi è che non è per la giustizia giusta cioè la giustizia non può che essere giusta era il nome di una campagna del tutto contestabile e molto e molto forte quindi questo è un po' un meccanismo insomma elementare che però a volte non a volte sfugge chiedersi dove va a parare non è dietrologia in questo caso ma e chiedersi proprio è davantologia è proprio che cosa c'è davanti qual è l'obiettivo a cui mira una comunicazione ma c'è una cosa che personalmente mi è interessato e anche professionalmente peraltro mi è interessato e mi riguarda di più ed è che in questa affermazione c'è su il can can che meritava ma un'obiezione io non l'ho non l'ho sentita non l'ho sentita fare cioè quando Poletti dice che è stato un attrezzo vecchio per limitarci all'organizzazione sociale del tempo è qualcosa di vecchio anche l'abitudine di fare più o meno chi ci riesce tre pasti al giorno no di fare dei periodi di sosta dal lavoro di paura del lavoro in estate e un periodo in inverno di avere nell'arco della giornata un periodo di sonno possibilmente nelle ore notturne queste sono tutte cose molto vecchie non spero che il il governo non se ne non se ne non se ne occupi e mi chiedo che senso diamo alla parola vecchio e forse non è neanche una questione di senso ma è una questione di presupposizione la presupposizione è quel meccanismo logico banale per cui se io dico ho aperto la porta sto affermando di aver aperto la porta ma sto presupponendo che la porta fosse chiusa tant'è vero che se io dico non ho aperto la porta il senso è il contrario ma la presupposizione è la medesima allora cosa presupponiamo cosa si presuppone cosa implica l'uso della parola vecchio in politica in particolare ma non soltanto implica che è qualcosa che vada cambiato abbiamo tutti sentito un brivido quando qualche anno fa si è incominciato a dire che la nostra costituzione bellissima santa per carità però è un po' vecchia è stata fatta in un'Italia che non è più la nostra lì abbiamo capito tutti subito dove si voleva andare a parare e infatti cosa fa l'attrezzo vecchio nel pensiero di Poletti frena l'innovazione la santa innovazione e questo ci fa capire che siamo in presenza di qualcosa che io diciamo ci faccio anche delle lezioni universitarie sopra chiamo la mitologia del nuovo ora non è sempre stato così non sarà così per sempre non è inevitabile che sia così ma oggi nel mercato politico e mediale in vigore il nuovo ha costantemente invariabilmente una valorizzazione positiva le riforme sono buone in quanto riforme non per come intendono cambiare le cose e per come vengono fatte approvare ed è vero quando ci si dice che di riforme istituzionali elettorali costituzionali si parla da decenni senza far nulla ma questo sembra implicare che si parli del fatto di farle oppure non farle e invece non è così i decenni passati a discutere delle riforme elettorali e costituzionali era su come farle su quali riforme farle io non credo personalmente che ogni riforma sia buona in quanto riforma ma ogni tanto mi viene una malinconia perché mi pare un pensiero invece minoritario in quanto al nuovo c'è una data 1989 data di tante cose tante cose tante cose ma il ho sentito risuonare il nome di Michele Serra e pensavo che tra Serra e Boschi c'è anche una questione di vegetazione e di green economy quindi forse il link è quello nel 1989 Michele Serra uscì con un libro di racconti forse il suo esordio in letteratura di fiction intitolato Il nuovo che avanza che era in effetti stava diventando un tormentone negli ultimi periodi e io prendo il 1989 come data simbolo per l'ingresso per lo meno la comparsa sulla scena nazionale della mitologia del nuovo ora mitologia vi volevo far soffermare un momento su questa parola è una parola molto interessante perché unisce due cose che non stanno sempre unite no? Mythos e Logos cioè la 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 narrazione con tutta la sua fantasia e la 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 razionalità con tutte le sue eh legalità e che dobbiamo scegliere tra la fiaba della ragione o le ragioni che stanno sotto alle nostre fiabe e dobbiamo anche renderci conto che in questo momento comunque la narrazione è più forte e non basta smontarla per renderla meno efficace per farne cessare la seduzione per smontarla però si può cominciare con dire che nella narrazione per esempio la narrazione non contesta le sue contraddizioni mai il mito della mitologia antica era anzi la messa in scena delle contraddizioni delle ambiguità anche per esempio dell'animo dell'animo umano e una messa in scena che appunto forniva quello che dopo Aristotele anche un poeta delle valli chiamava la catarsi no l'effetto catartico la mitologia contemporanea ne abbiamo tante ne veneriamo tante fanno esattamente la stessa cosa cioè copre e nello stesso tempo dispiega le sue contraddizioni e nella nozione di nuovo le contraddizioni sono tante ora chi mi ha preceduto ha parlato di qualcosa di cui ha detto questa è una rivoluzione ecco il nuovo per esempio si può presentare nella forma della rivoluzione rivoluzione lo si può usare con più o meno enfasi con più o meno letteralità si usa anche quando si fa la pubblicità di un'automobile di un nuovo computer no si dice rivoluzione la scena di qualcosa in politica la rivoluzione è diciamo un caso estremo bisogna vedere se poi esiste davvero o se è sempre un po' enfatica corrisponde alla proprio distruzione della struttura sentite la struttura dentro la parola di distruzione cioè cadono tutte le relazioni sociali e politiche esistenti fino a quel modello fino a quel momento nella rivoluzione scientifica cadono i modelli paradigmi per cui vanno riscritti tutti i manuali dopo una rivoluzione quello che resta che resta costante è soltanto il terreno la rivoluzione francese è quello che è rimasto è la Francia sostanzialmente il territorio francese rivoluzione copernicana quello che è rimasto è che si parla di astronomia ma il resto cambia completamente e bruscamente ma quando parliamo di nuovo non è che parliamo obbligatoriamente di rivoluzioni ci sono altre forme del nuovo una è la la riconfigurazione cioè la struttura rimane ma ne viene cambiato il funzionamento in Italia il tormentone precedente al nuovo che avanza era il tormentone delle regole del gioco non so se vi ricordate era una cosa molto demitiana no? Ci dico Demita che poi è stato anche presidente della commissione bicamerale che avrebbe dovuto cambiare la costituzione continuava a dire che bisogna bisognava cambiare le regole del gioco buon politico si era reso conto che o lo si faceva consapevolmente o lo si sarebbe fatto come poi si è fatto perché sono cambiate le regole del gioco soltanto che sono cambiate in una maniera disorganica a strattoni il referendum sono uno strattone a cui poi occorre fare delle ricuciture le ricuciture per esempio in termini di sistema elettorale sappiamo come sono state fatte ma di fatto sono cambiate perché è stato possibile parlare di una sia pur presunta seconda repubblica per esempio si parla anche per il governo in carica e per molti di quelli che l'hanno preceduto di la legittimazione del premier e che insomma è assicurata dalla costituzione in vigore e dalle procedure con cui sono stati nominati i presidenti del consiglio recenti ma si dice c'è una questione politica appunto c'è la costituzione c'è la prassi la costituzione materiale peraltro è un buffo modo di dire perché si chiama materiale perché non c'è perché non è scritta come se fosse più materiale della costituzione realmente scritta nero su bianco ma la politica ha un rapporto tutto suo con le regole insomma se c'è stata una rivoluzione nella storia italiana del novecento forse sono due è stata sicuramente la rivoluzione fascista e pensate che Mussolini non si è mai sognato di toccare lo statuto albertino non l'ha mai riformato non l'ha mai abrogato semplicemente se ne infischiava no? e invece per democrazia si intende anche quella cosa per cui la nostra costituzione contiene oltre alle regole le meta regole diciamo per cambiare la costituzione la costituzione medesima e quindi con una riconfigurazione senza bisogno che venga giù tutto la riconfigurazione la riconfigurazione è l'obiettivo tipico del riformismo in tutte le declinazioni che il riformismo ha avuto dal rinegato Kauski fino al migliorismo della destra DC ha costretto soprattutto la sinistra a tutte quelle formule taccopunta diciamo per intenderci di cui la prima è proprio socialdemocrazia perché all'epoca di mettere assieme il socialismo e la democrazia sembrava già una una provocazione ma poi abbiamo avuto il partito di lotte di governo in Francia ha vinto dichiarandosi una forza tranquilla dichiarando il socialismo francese come una forza tranquilla e qui si vede come la sinistra ha sempre avuto il problema di trovare proprio un posizionamento ben anche comunicabile fra il conservatorismo degli avversari e le pulsioni rivoluzionarie su cui la gran parte della sinistra è nata e questo ha reso e rende spesso tortuosa e inefficace la comunicazione ma non ci si ferma con rivoluzione e riconfigurazione c'è qualcos'altro c'è ancora una cosa che poi in realtà sono due ed è la variazione la variazione di Goldberg proprio nel senso musicale c'è un tema che si ripresenta con alcuni elementi diversi la variazione direi che è stato l'andamento principale di tutta ciò quella che appunto qualcuno chiama la prima repubblica l'androttiano tirare a campare piccoli spostamenti di persona qualche variazione un po' più consistente nel passaggio per esempio dal centro-sinistra poi quando c'è stato il pentapartito dopo la stagione diciamo della solidarietà nazionale ma sostanzialmente le cose sono rimaste quelle una forma di variazione un po' più robusta è il cosiddetto spolice system cambiano cambia la coalizione vincente e a quel punto tutto il personale va a casa e viene sostituito in Italia sono successe delle cose io continuo a ricordarmi la presenza dello zio più famoso d'Italia probabilmente Gianni Letta come sottosegretario è assistente diciamo è vera vero uomo macchina del berlusconismo e lì appunto è stato uno strano spolice system in cui sono cambiati i ministri ma è rimasto il personale ed è rimasto la rete di vera e propria di governo e nella rivoluzione cade la struttura nella riconfigurazione cambia la struttura nella variazione cambiano gli elementi e la struttura resta sostanzialmente quella non abbiamo finito nella declinazione della parola nuovo perché nuovo è una parola così curiosa che dipende il suo significato dipende anche da dove la mettiamo se prima o dopo il sostantivo un nuovo anno non è detto che sia un anno nuovo ovvero c'è un significato della parola nuovo in cui la parola nuovo cessa di essere sinonimo di diverso e contrario a uguale è il nuovo della ripetizione no? quando diciamo di nuovo no? cioè siamo ancora lì in realtà e di nuovo non c'è più nulla è una accezione assolutamente fondamentale perché per esempio nelle comunicazioni di massa la ripetizione non è affatto esclusa dalla dalla mitologia del nuovo l'eroina del nuovo è Rossella O'Hara quando finisce dicendo domani è un altro giorno un tweet degno del un simpatico account che si chiama grazie graziella e qualcos'altro ma domani è un altro giorno sarà un giorno un giorno nuovo questo non è nulla ce lo garantisce il nuovo di ripetizione è fondamentale per imprimere per esempio nella memoria dei consumatori il un nuovo brand ma lo è anche per far credere qualcosa indipendentemente dal fatto che sia vero o non vero questo principio lo ha enunciato con insomma con maggiore autorità di quanto possa averne io o Joseph Goebbels ai suoi ai tempi in cui governava ma in realtà è stato ripreso esplicitamente anche nella storia politica italiana recente la ripetizione non forma l'opinione ma forma quella cosa che si chiama il senso comune la cui formula tipica è lo sanno tutti lo sanno tutti che gli zingari rubano i bambini non è vero però molti la pensano così e lo dicono in questo modo e è un modo di non essere vero che dal punto di vista della 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 propaganda se non dell'accertamento dei fatti basta e avanza e appunto anche quello è un nuovo che avanza quindi quando stiamo usando la parola nuovo non stiamo dicendo molto perché in un certo senso è nuovo anche il jingle pubblicitario che compara tutte le pause di un programma che stiamo guardando e è nuovo anche il luogo comune che viene ripetuto di nuovo e le strategie di comunicazione molto spesso consistono nel far apparire come nuovo qualcosa che è nuovo non lo è e il bello è che per farlo apparire come nuovo devono ripeterlo tante volte fino a farlo diventare banale e si potrebbe dire che la comunicazione contemporanea consiste nello stupire i sensi che è tra l'altro un nome bellissimo e chetare i nervi nello stesso esatto momento con la stessa mossa ora sarebbe bello poter dire che la sinistra è dalla parte di rivoluzione e riconfigurazione e la destra è da parte della ripetizione e della variazione e del resto quelle categorie come conservatori progressisti moderati radicali ce lo fanno pensare ecco purtroppo queste sono veramente delle categorie molto vecchie che risalgono probabilmente al momento in cui la comunicazione la trasmissione del potere non avveniva più per dinastia per aristocrazia e si incominciava a parlare di democrazia allora lì è vero che chi voleva andare avanti era a sinistra nella società di massa non è assolutamente più così da quando il nuovo ha fatto mitologia almeno da lì ma forse anche da prima il progresso le riforme la riconfigurazione addirittura la rivoluzione non sono più state bandiere esclusive della sinistra e valori intrinsechi alla sinistra per dirle in termini gloriosamente vecchi qui è stata veramente perduta una egemonia anche un altro termine orribilmente ambiguo come creatività è passato da Bruno Munari al movimento del 67 con l'ala creativa e gli indiani metropolitani e pochi anni dopo ai consigli di amministrazione fino ai ministri di economia e finanza per fortuna non quello che ha parlato poco prima di me e pensate che alla nostra epoca i conservatori con quel nome che hanno hanno fatto dovuto fare una specie di operazione di rebranding su scala globale riuscitissima e hanno inventato il loro ossimoretto neocon il nuovo e la conservazione due mozziconi di parola che non dovrebbero stare assieme ma in realtà ci stanno e ci stanno anche bene ora se pensiamo alla polemica politica la roba da talk show vediamo che molto spesso la la polemica avverte sul fatto che il nuovo se veramente qualcosa è presentato come nuovo la cosa che dici tu sembra nuova ma in realtà è vecchia non viene mai messa in discussione la valorizzazione positiva del nuovo questa è una mitologia che diventa anche un'ideologia perché per ideologia si intende tecnicamente l'assegnazione a priori di valori positivi e negativi il risultato finale qual è? che il diventato mitologia il nuovo non è più capace di orientare alcun discorso fra verso le differenze fra destra e sinistra differenze che non a caso adesso vengono dichiarate cadute in realtà non ci sono più linee c'è una sfera in questa sfera si deve credere che il nuovo sia buono almeno come principio di retorica da campagna elettorale e che va sempre propugnato qualsiasi cosa per quanto vecchia possa essere deve essere propugnata come nuovi partiti e personalità che intendono arrivare direttamente al potere allo stato attuale devono appartenere a questa sfera devono mettersi lì dentro chi vuole ragionare sopra si accomoda pure fuori dove non c'è nessun obbligo di nuovismo ma dove vincere elezioni pare molto molto difficile a meno che a cambiare non sia proprio questa situazione questo paradigma non sono sicuro che si tratterebbe di una semplice riconfigurazione per esempio basta smontare la basta la critica la smitizzazione del nuovo io penso che sia necessaria il lavoro di analisi critica puntigliosa su ciò che viene presentato come nuovo e stamattina ne abbiamo avuto esempi in abbondanza ma sicuramente non a sufficienza perché tutti hanno detto ci sarebbero poi molte altre cose in più da dire appunto un lavoro necessario ma appunto probabilmente non è sufficiente io qui in realtà venendo in un posto che si chiama possibile mi chiedo appunto quale relazione ci sia tra il potere e il possibile la categoria del possibile ha questo di interessante molto interessante che tiene conto delle alternative che sono in gioco e che quindi mette al centro della scena il dominio il dovere della scelta e il fatto che la scelta non è mai obbligata ma è sempre orientata infatti non c'è una possibile mitologia del possibile a meno che non si decida di non scegliere allora la mitologia c'è ed è quella dell'asino di Buridano ma mi pare che qua non vada d'accordo con noi e invece inseguendo il nuovo che si entra in una concatenazione di passaggi obbligati e che paradossalmente non sopportano cambiamenti nel momento in cui incomincia il processo e allora lì torna buono il lessico dell'insistenza non si cambia più si dice no noi siamo coerenti teniamo duro e siamo determinati verso l'obiettivo contro chi? contro quelli che remano contro che è un'immagine se ci pensate che non mette mai in questione la direzione diciamo della remata come se tutto fosse tra l'andare avanti e restare indietro o tentare di frenare come se la direzione fosse necessitata lo si è visto nella questione sulle riforme istituzionali e elettorali lo si vede anche nella retorica dell'innovazione l'innovazione è una bellissima cosa ma se fosse una strada già segnata non sarebbe un granché innovativa in tecnologia per innovazione questo una volta me l'ha spiegato la penso ancora ora senatrice Irene Tinagli che come economista è deputata scusa che come economista si occupa appunto innovazione e mi spiegava che lei ha studiato la Silicon Valley i funzionamenti dei processi lì dice ma noi ne parliamo tanto innovazione ma innovazione significa finanziare 100 progetti nella speranza che uno o due diano risultati cioè non è uno spirito non basta volerla l'innovazione è un dispendio enorme è un lavoro ed è anche un rischio ovviamente è più è più facile è più comodo preferire il mito dell'innovazione al suo processo reale e la cosa diciamo meno grigia che trovo per finire un discorso che tanto ottimista non riesce a essere è che in realtà sono personalmente molto contento che in Italia ci sia qualcuno che dia valore più che al nuovo in sé al possibile e al potenziale e che si ponga il problema di riconfigurare i rapporti tra la politica attiva e l'attivismo politico di base e un po' anche per quello che mi concerne con le cose che si fanno nei luoghi del pensiero e della cultura e non sono sicuro che basti abbattere la mitologia del nuovo in questo caso non il nuovo che avanza ma quello che sopra avanza ma ho sentito dire qualcosa del genere anche in queste ore viviamo in un mondo in cui il nuovo è vissuto come una cosa sola invece che almeno le quattro possibili che vi ho elencato nel mio piccolo modello e anche in cui il partito è considerato qualcosa che è come contenuto in una persona sola anziché disseminato nelle molte persone possibili ecco costruire un senso comune sulle scelte anziché sulle mitologie e sulle emergenze e sulle necessità adesso appare un'utopia una volta si chiamava politica e avere però nostalgia di quel senso lì di quella volta lì significa bisogna starci molto attenti perché significa costruirsi addirittura una mitologia del vecchio e lì sarebbe veramente peggio che andare di notte mentre invece io penso che costruire un senso comune sulle scelte sarebbe perseguire un nuovo non mitologico non univoco non buono perché è nuovo ma buono perché è desiderabile e finalmente possibile grazie mille grazie io ringrazio tutti voi a cominciare da Stefano per essere rimasti qui per tutto il tempo per avere seguito chi l'ha fatto da lontano questa giornata devo salutare in modo non rituale due situazioni una è quella delle lavoratrici dei lavoratori dell'arena di Verona che sono nei guai e non sono nei guai per caso io spero che nella legge di stabilità ci siano i fondi per pagargli lo stipendio anche questo una volta era politica adesso è utopia e per consentire loro di lavorare come possono e devono fare e poi c'è un pensiero invece più personale a Luca Pastorino che è vittima della sindrome di Interstellar è chiuso in commissione bilancio da una settimana ed è invecchiato molto più di noi in queste ore lo troverete in Canutito è sempre affascinante e lo ringraziamo perché non è qui solo per questa ragione io cercherò di essere breve perché appunto Gnocchi e Lambrusque poi chiudono entrambi e dire tre o quattro cose la prima io non sono per la mitologia del vecchio non ne posso più di queste cose nostalgiche l'abbiamo detto mille volte però davvero sono colpito dalle parole di Stefano Bartezaghi perché non c'è più la ragione profonda per cui si dicono e si fanno le cose in questi minuti Renzi sta parlando appena finito di parlare a Firenze lo ricostruirete dopo ma è molto fragile insulta tutti di legge parla solo di sé e della famiglia reale che compone questo governo perché di questo si tratta c'è una psicologia dall'esa maestà non si possono più fare domande è abbastanza sorprendente che Saviano abbia scritto un pezzo tutto sommato normale si occupa di cose più serie Saviano anche nelle modalità critiche e che ci sia stata una reazione così strampalata perché bisogna spiegarle le cose bisogna spiegare bene quali sono i conflitti di interessi bisogna spiegarlo con lo stesso tono tronfio che si usa per fare propaganda e per presentare le slide perché non c'è una slide sulla banca Etruria o magari un intero powerpoint è importante dirle queste cose altrimenti ci prendiamo in giro l'ho visto fragile perché ormai siamo alla promessa delle promesse non si rende conto di aver fatto già le promesse l'anno scorso e diventano vecchie e se le dite vecchie a Renzi fa puff e scompare potrebbe essere un'idea allora io penso che quello che abbiamo visto oggi qui non è spendibile in uno slogan in qualcosa che esce domani sui giornali in una di quei pastoni sulla sinistra che c'è SEL rifondazione comunista italiani verdi green Italia possibile non è così che dobbiamo fare dobbiamo prendere una rincorsa scivolare come diceva Peppe Allegri in uno dei passaggi più lucidi del suo lucidissimo intervento verso la la cultura verso quello che una volta nei manuali si definiva pre-politica nel ricreare un sentimento nel ricreare una coscienza Vito Gulli parla di consapevolezza che è la parola più bella di tutte se non ci rendiamo conto della differenza tra le cose concesse e i diritti non so se state seguendo l'appassionante dibattito sulle unioni civili ad un certo punto un sottosegretario di cui non faccio il nome Scalfarotto ha detto no ma Alfano stia tranquillo perché stiamo facendo una cosa abbastanza conservatrice non si deve ma non so se era un'intervista era un virgolettato non si preoccupi se non riusciamo a riconoscere non solo il nuovo e il vecchio in quella dialettica che ha ricostruito Stefano ma il fatto che le cose che abbiamo sentito oggi che sentiamo sui Tg di questi tempi sono degli anni 80 e degli anni 90 quando quelli come noi alcuni non erano Elish Line non era ancora nata ma quelli che erano nati erano dall'altra parte non credevano che a togliere i diritti dei lavoratori fosse un'idea geniale ci sono ormai i convegni in cui ti dicono non parlano più di contratti a tutte le crescenti dicono non è più così indeterminato come una volta era ora non è più indeterminato non è una cosa banale allora se queste cose noi queste contraddizioni non riusciamo a spiegarle anche con le persone che ne sanno più di noi stiamo a casa è molto semplice perché quella è la politica da fare di questi tempi avete sentito personalità che hanno fatto parte dei governi dell'Ulivo professori affermati quasi a fine carriera tante cose hanno fatto avete sentito giovani professionisti io vi chiedo di ricostruire la politica partendo da questi possibile funziona se riorganizza un campo molto più grande di se stesso lo voglio dire da sempre lo diciamo poi tutti pensano che sia retorico ma io non penso che nemmeno il partito della nazione sia in grado di fare politica oggi di parlare con la società di avere un rapporto di come dire di prospettiva con questi ambienti con questi con i nostri concittadini nessuno ha la chiave leggo di Serracchiani che dice noi pensate è civati quelli come me i colpevoli del populismo ma io non condivido le ricette di questo governo proprio perché fanno diventare populisti tantissime persone perché quando uno è escluso da un patto sociale e lo è perché gli 80 euro incominciano ad un certo punto sotto come cosa diventano populisti le persone che non hanno lo stipendio che non hanno la casa che non hanno nessuno che li rappresenta oppure per farsi ascoltare devono fare devono fare il rovescio cioè urlare non ragionare più dire che sono tutti uguali secondo me in mezzo c'è quella stessa cosa cioè la politica la cultura la costruzione di un progetto collettivo il tentativo di raccontare le cose in modo comprensibile anche smart ma che sia fondato che abbia un ragionamento e un senso e anche un'informazione se ci pensate la metafora delle banche è molto simile alla metafora della politica vi vendono titoli che non sono quelli veri che li rappresentano pensate i programmi elettorali prima aperti ci dicevano li scrive più nessuno è vero non vi fanno vedere quello che chiedeva Pado a schioppa quando emettevano i titoli ad alto rischio la curva la probabilità di quanto si poteva anche perdere no no li cambiano strada facendo quindi voi votate una cosa e ne trovate un'altra il rischio è una metafora anche questa perché quando si parla con leggerezza di clausole di salvaguardia per i prossimi anni sono tasse che spostiamo sono dei derivati della politica e della finanza pubblica non è questione di essere rinzi o berlusconi o chissà chi altri è questione di ragionare sulle cose non parlare per scelta di evasione fiscale Visco ha fatto un passaggio indimenticabile perché il motivo per cui Visco è stato poco sostenuto dai suoi partiti di cui ha fatto parte è perché era più semplice prendere le distanze da Visco che sostenerlo e aiutarlo orientarlo se qualcosa non andava bene era più semplice buttarla in cacciara e dire abbiamo esagerato certo abbiamo esagerato a risanare i conti pubblici allora la finanza tornava c'era un ragionamento che non si chiudeva in un default o nel rischio di finire spiaggiati peccato che le cose popolari siano più semplici e insomma e siano anche più gradevoli forse a raccontare per cui lo schema è fragilissimo il primo a essere fragile è questo governo è questa situazione europea anche in questo caso però noi non pensiamo che siccome è fragile si abbandona la barca e si esce dall'euro si fa i varufakis all'italiana si cerca la soluzione anche in questo caso ammiccante dobbiamo provare a cambiare le strutture profonde non a fare le variazioni di cui parlava Stefano per farlo però e qui c'è la cattiva notizia non bastano i 15 relatori i personaggetti della politica mi è rimasta questa cosa Elislein Pippo e chissà chi abbiamo bisogno che siate voi a mobilitarvi noi questo quello che avete sentito questa sera lo trascriveremo lo renderemo accessibile sul sito trovate una spiegazione complessiva di quello che stiamo facendo che abbiamo pubblicato proprio in queste ore a vostra insaputa cioè vi abbiamo tenuti qua ma in realtà tutta Italia sta parlando di possibile tantissimo attraverso la rete abbiamo bisogno ovviamente di rendere più fruibili questi contenuti ma noi dobbiamo provare a lavorarci tutti insieme quando facciamo l'appello non lo facciamo solo a noi ai mille cinquemila speriamo che siano sempre di più testerati di possibile lo facciamo a tutti quelli che si lamentano in modo sordo a chi sta nell'università e si sente dimenticato perché lo è dispiace doverlo dire però nello stesso tempo forse non impensa più non confida più nella possibilità della politica perché non trova interlocutori allora il nostro modello è molto più umile meno meno trionfalistico siamo ospitali se qualcuno ritiene di avere qualcosa di buono da raccontare da descrivere da progettare insieme a noi noi siamo molto accoglienti e chiedo a tutti i comitati di esserlo cercheremo di ricostruire anche rispetto a cose che hanno funzionato più o meno bene il lavoro più nazionale con un concorso più aperto e più efficace di forze diverse però vi chiedo veramente di tornare a casa da qui con l'idea che dobbiate fare la stessa cosa non inventarvi una fonderia avere le luci no però usare questa metafora per dire tocca a noi altrimenti non lo fa nessuno questa è la pessima notizia non c'è nessuno che riorganizza la politica così in questi in questi anni l'ultimo esempio lo citiamo sempre non è una citazione anche questa immediata è quello dell'ulivo è l'ultimo esempio sono passati vent'anni non è nato nulla non è rimasto nulla se non le edizioni appunto le citazioni quasi fosse l'annata dell'amarone no facciamo la riforma del lavoro e Poletti è un po' come Berlusconi 2002 2003 uno dice no era il 2003 che era un anno buono è così le ricette sono quelle il rapporto con la finanza con le strutture vere del potere è lo stesso rispetto al quadro rivoluzionario così lo dico quasi con dolcezza lo dico anche ai ministri in carica così non cambia niente davvero loro dicono ce ne faremo una ragione fatevela subito perché così non cambia niente per le persone che stanno peggio per i cicli economici per l'estensione dei diritti per l'orgoglio del nostro non quello nazionalistico per stare in giro per il mondo con serenità e anche con spirito come dire appunto scusate se ci torno serenità una parola che non si può più utilizzare ma forse dovremmo recuperare quindi io non ho molto da aggiungere se non che possibile questo schema che avete visto oggi lo userà sempre lo userà non solo formalmente ma nel raccogliere esperienze professionalità per dare dei messaggi politici che siano chiari che siano rigorosi avremmo un lavoro anche sul fact checking abbiamo deciso di chiamarlo gatto parda per non essere antipatici per fare una critica un po' così però vorremmo anche dire queste cose non sono così proprio come ve le raccontano oggi abbiamo invitato Marta Fana che sta a Parigi e che fa un lavoro quotidiano su Twitter in questo senso e descrive e decostruisce i dati che vi vengono forniti diciamo almeno la verità e poi discutiamone e in secondo luogo oltre a fare questo io vi chiedo anche di ripensare all'essere di sinistra io ieri ho seguito il dibattito delle minoranze del PD li voglio pure bene sono amici però se il problema è che Renzi non deve fare anche il segretario capite che non è che hanno esagerato con le ambizioni cioè se non fa più il segretario va tutto a posto e ricomincia il dibattito affascinante sulle bandiere cioè perché non c'ha le bandiere ma il problema le bandiere sono come diceva Engels che non ha più rinnovato la tessera sono nella testa delle persone non quelle che sventoli e allora se non c'è una consapevolezza politica di vita collettiva anche di rappresentanza perché io ce l'ho con questa situazione perché tanti di noi hanno votato il Partito Democratico il centro-sinistra in tutte le sue forme perché dicevano delle cose non per smentire quelle cose guardate che è la cosa più importante di tutti per me se mi impegno con voi su una questione poi non ci riuscirò ma devo spiegare perché non ci sono riuscito non farmi bello perché ho fatto esattamente puntualmente il contrario quindi riscoprire l'essere progressisti l'essere anche controcorrente la sinistra l'hanno inventata per cambiare le cose per cambiare gli equilibri per stressare per rompere anche un po' i coglioni è vero altrimenti c'è già la destra che è un posto molto più accogliente che va di seguiremo con ansia le elezioni spagnole che non so se finiranno benissimo mi auguro di sì però c'è un sentimento di destra che torna e anche rispetto e finisco su questo questo interessantissimo dilemma prima c'è Nardella che è il nuovo filosofo politico sempre di Firenze io inizierei a preoccuparmi dal punto di vista geografico no perché ce ne sono dei talenti notevoli solo lì tra l'altro sono tutti di Firenze che dice no ma a destra e sinistra non ci sono più allora che tra prima considerazione è Casini immaginate Casini è questa rappresentazione cioè il centro questo eterno Moloch intorno al quale dovremmo radunarci tutti in modo religioso perché è prevista anche la religiosità e adorare non si sa più quale divinità perché non si capisce più quale sia seconda risposta ma a voi sembra che Donald Trump non sia né di destra né di sinistra per me Donald Trump è di destra secondo me lui lo dice anche la Le Pen con la versione mini-mi Marion Le Pen che è terribile è più cattiva è fantastico perché è più cattiva della zia è di destra secondo me è di destra mi spiace per Nardella chi va in giro a dire chi non mette il presepe nelle scuole non fa le ferie se ci pensate questa non è Fiorentina bisogna dire la verità è Padam diciamo così nelle nostre parti è di destra un po' c'è anche il termine tecnico che è Pirla però al di là di questo è di destra perché non riconosce è differente potrei andare avanti così un ministro del lavoro che spiega che non è più importante l'orario cioè guardate che è una cosa fa venire fa caponare la pelle ma il risultato cioè praticamente il cottimo che non so dove colloca Bartezzaghi nella storia della civiltà diciamo ma mi pare molto in basso è di destra non vuole per carità non voglio pensare che ci sia premeditazione gli è capitato pensare di avere una classe politica che fa una legge elettorale e la votano tutti anche le minoranze tra l'altro sono curioso di sapere come votano il referendum costituzionale quelli che vogliono togliere il segretario dal premier perché lì c'è un po' più spero che votino in Parlamento non se la sono sentita ma quando escono di lì sono battaglieri dicevo una classe politica che fa una legge elettorale in cui voi non decidete nulla è di destra se concepiamo la destra come luogo nel quale in pochi si decidono le sorti dei molti cosa possiamo fare noi e vi saluto e vi ringrazio è organizzare i molti i dispersi quelli che non ci credono più è di fare un lavoro di ricognizione e di collegamento tra di loro e di farlo non per conto nostro ma per conto loro al loro servizio così abbiamo pensato l'organizzazione del nostro movimento ma così dobbiamo pensare anche la costruzione dei progetti è ora di finirla con il leader i ministri i capi bastone che vi spiegano come dovete vivere vivere sempre se i bezzi lo sa ci spiegano sempre come dobbiamo essere ma anche come dobbiamo risolvere i problemi noi che lavoriamo in un settore o che facciamo qualcosa di particolare noi che abbiamo una storia e una cultura dobbiamo trovare il modo di far emergere quel possibile l'abbiamo chiamata così vi ricordate perché il possibile diceva un filosofo non di Firenze diciamo un minore diceva che c'è già che c'è è una condizione presente il possibile bisogna solo farlo emergere e ovviamente per chi si candida a fare politica a rappresentarlo e a costruire un racconto che sia però rigoroso ecco non ci sono stati slogan oggi ci sono stati ragionamenti non ci sono stati tweet ci sono stati approfondimenti non è perché siamo vecchi tipo il mio stile vecchio come la casa di Tiziano a pieve di Cadore quel verso incomprensibile dibattiato non è che ci no non è che vogliamo avvitarci facciamo politica come si è sempre fatta quando si è fatta bene come si farà spero presto anche nei sondaggi nei talk show questa è la possibilità che abbiamo e lo faremo a cominciare dalle amministrative a Roma non sarà possibile presentare un proprio candidato sindaco per sgombinare le bande che devastano la città possibile farà una domanda a cento a mille romani di mettersi in un'assemblea e cominciare a lavorare che siano di centro-sinistra che siano persone che hanno a cuore il destino della propria città così stiamo facendo a Bologna e lì ha promosso iniziative insieme ai comitati bolognesi bellissime in queste settimane non vanno in televisione chi se ne frega se non si accorgono è meglio è un trucco vecchio questo vecchissimo però lo stiamo facendo martedì sarò a Milano a cercare di riprendere un filo stranissimo perché non ci piace niente del governo non ci piace niente del PD non ci piace niente delle cose delle persone che promuove nemmeno il candidato sindaco gli piace però si alleano col PD io guardate che faccio fatica a capirlo allora questo è il percorso è il percorso che ci porta all'Ambrusco quantomeno quello è quasi certo e per tutto il resto ovviamente tocca a voi facciamo il primo pezzo ma voi dovete fare tutti gli altri ovviamente insieme a noi a chi ha provato a organizzare questa iniziativa ringrazio il teatro Fonderia Aperta ringrazio il backstage tutti quelli che sono collegati da Stefano a Paolo agli altri e ringrazio voi per aver avuto tanta passione e tanta pazienza grazie a te grazie ancora